credo di essere live chissà se sono live sarò live qualcuno mi dirà sì sei live ciao teo non lo so non mi caga nessuno io faccio come se fossi live e intanto vi saluto ciao sono teo chi cazzo sei giustamente qualcuno potrebbe anche dirlo dirla in questa maniera qua allora chi mi conosce da chi segue cinefax da tanto probabilmente ha già visto questa mia faccia anche su youtube chi invece segue cinefax da poco probabilmente si sta chiedendo ma chi è questo qua con questa faccia buffa ciao sono teo sono teo yusufian l'admin dei social di cinefax.it nonché il direttore editoriale del sito omonimo che guarda caso proprio oggi 15 marzo 2020 compie 30 mesi ovvero due anni e mezzo perché siamo nati ufficialmente il 15 settembre 2018 allora in questi giorni in questa ultima settimana abbiamo fatto un po un giochino vi ho presentato una serie di nove film alla volta che nascondevano un indizio e erano da mettere insieme gli indizi per trovare scardinare un rebus ma prima di darvi la soluzione io direi che vi presento le persone che mi accompagneranno in questa prima parte di live perché poi ce ne sarà anche una seconda con altre persone c'è un sacco di gente e quindi vado a presentarvi un po di redattrici e redattori del sito cinefax.it così poi finalmente li vedete in faccia li conoscete magari in questi due anni e mezzo avete letto un sacco di loro articoli ma non avete la più pallida idea di chi cacchio siano e quindi mi sembrava giusto per una cosa del genere coinvolgerli tutti quanti quindi ma io partirei da quello che probabilmente invece già conoscete se seguite il podcast di cinefax.it il nostro redattore più compito ed educato colui che abbina i libri ai primi e i vinili ai secondi con gli occhiali d'ermonnezza e la barba di sergio leone sto andando a memoria incredibile queste cose di solito le dice paolo nella puntata del podcast io non l'ho mai fatto è con noi il cinefilo così infatti hai detto una cazzata perché il monnezza con gli occhiali e se hai detto il contrario cioè la barba gli occhiali di sergio leone la barba del monnezza avevo detto gli occhiali del monnezza è il bello della diretta sono sono veramente emozionato che non siamo noi belli naturalmente assolutamente ma neanche una sera amiche e amiche se ci siete non sappiamo se ci sono quindi no in realtà in realtà si vedo gente che sta commentando anzi approfitto saluto elisabetta bettaglio che si ricorda la festa per la nascita del sito è vero figata è vero quando potremo di nuovo fare delle feste vabbè ma allora visto che siamo siamo della brutta gente io comincerei a invitare dentro della bella gente e quindi e quindi tiro dentro una delle mie redattrici di più lungo corso ex ma ancora adesso moderatrice del gruppo facebook con lei che si è inventato una rubrica meravigliosa sul sito che si chiama animali nel cinema e che scrive degli articoli uno più bello dell'altro dell'analisi che a me fa impressione e di cui sono sempre orgoglioso di avere sul sito è con noi dalla puglia con furore lorenza guerra mi sentite buonasera si ti sentiamo caro allora benvenuta è che io non vi vedo non mi sento più buonasera a tutti ah fantastico la cieca la cieca allora sappi che noi ti vediamo e ti sentiamo totalmente la cieca vediamo una bella stufa ok questo è l'importante esatto bella vero diamo anche un televisore vediamo un po' di robe il background giusto allora io invece con quella mia fantastica maglietta di re le ferrette mi sembrava giunta per l'occasione andrei avanti con il presentare le belle ragazze di cinefax.it e quindi qua abbiamo subito una coppia le farei entrare insieme perché sono maniache di serie tv proprio due persone che sono tipo nate a twin peaks cresciute a riverdale e maturate sui corsi di new york insieme alle ragazze di sex and the city che tutti i venerdì alle 19 moderano e presentano la stanza di clubhouse di cinefax e quindi darei il benvenuto a natasha non semblat e federica d'amico ciao ciao sei riuscita a dirlo sbagliato anche tu il mio cognome teo è iniziato male sei riuscito bene in compenso detto il mio giusto quindi sei perdonato va bene ma te cioè federica franz è un attimo è facilissimo da dire bravo ovviamente non potevano non amare le serie tv con questo cognome esattamente è vero cazzo brava ma allora ma andrei anche ora avanti perché invece adesso è l'ora di presentare tre uomini meravigliosi tre uomini bellissimi ma non non fisicamente cioè fisicamente sì dai anche fisicamente sono piacevoli alla vista ma in realtà sono tre uomini fantastici perché sono uno più bravo dell'altro vado a presentarvi per primo chi è che posso presentare per primo adesso li tengo sulle spine perché io in realtà ce li ho già qua che guardano e loro sentono cosa sto dicendo ma non sanno chi è che presenterò per primo allora potrei presentare per primo intanto c'è qualcuno da voi che è al vicino che sposta gli armadi si sentono un casino della madonna esatto ma io andrei a presentare per primo colui che magari la community conosce un tantinello di più perché continua a tirarvi in mezzo almeno una volta al mese per la sua rubrica splendida che si chiama Cinerama che ogni volta affronta un argomento diverso in maniera incredibile cioè ogni suo articolo sembra una tesi di laurea praticamente ha parlato di qualunque cosa cioè da Gaspar Noè all'architettura distopica da Bergman a... ve lo faccio dire a lui da lui andiamo con noi Mattina Gritti ciao buonasera a tutti come va? come stai? si faccio anche fatica a ricordarmi in realtà tutti gli argomenti trattati in rubrica e mi sono diventato sempre di più infatti anch'io stavo facendo un po' un casino ma allora andiamo velocissimi e a questo punto visto che si chiamano uguale li presentiamo tutti e due perché sono i due Jacopi della redazione di Cinefax.it e loro non hanno una rubrica ma in realtà se andate a spulciare sul sito di articoli loro ne trovate parecchi e neanche a dirsi guarda un po' sono tutti bellissimi quindi direi di salutare e far entrare Jacopo Troise ciao buonasera ciao a tutti e Jacopo Gramegna buonasera a tutti teo ti devo già correggere perché una rubrica ce l'ho si chiama Good and Bad che cazzo è vero? madonna santa che stronzata ed è una di quella con più articoli esatto ma non solo tra l'altro è una di quelle più vecchie perché nasce sul gruppo facebook di Cinefax quindi figurati è talmente anziana che io la davo per scontata per quello che me la sono dimenticata poi un'altra cosa ma non è vero me la sono dimenticata lo sto dicendo cazzate se si notava questa cosa ah sono in onda scusa dicevi scusami? trattiamo il sito come fosse un bambino a 30 mesi come le mamme disfunzionali esatto come le pancine il grana il grana come le pancine allora intanto vi saluto vabbè allora facciamo una cosa intanto sveliamo la soluzione della cosa anche se secondo me i più attenti hanno già letto qualcosina in sovrimpressione hanno già capito allora io vi ho presentato nove film alla volta giusto? e avete indovinato che la cosa in comune dei film era la lettera iniziale del titolo in originale che non è che ci volesse così tanto ecco ho tentato di trovare qualche titolo difficile ma alla fine e praticamente adesso ma devo dirgli i titoli dei film li dico tutti i titoli dei film proviamo a chiederglielo a loro sì ah guarda c'è aspetta scusa intanto arrivano continuamente arrivano un sacco di commenti c'è chi dice che io che pensavo fossero tutti nordici in realtà no ragazzi siamo anzi probabilmente al nord siamo in in minoranza c'è l'orgoglio terrone esatto c'è uno che giustamente non si chiama nome e cognome ma si chiama semplicemente mister bluesman che si complimenta per la quantità pazzesca di cinetope eh ma io me lo sarei risparmiato partiamo malissimo partiamo molto male esatto e Paola Pastore che dice finalmente assieme agli amministratori esatto possiamo vedere anche tutta la redazione e infatti sì e ne arriveranno altri poi perché mica sono finiti i redattrici e i redattori non crediate che sia finito qua allora io posso dare la soluzione lettera per lettera ma nell'ordine giusto così magari la gente se lo scrive e capisce meglio di che cosa si parla allora praticamente vi ho fatto vedere Orizzonti di Gloria Primer Qualfiction Persona Psycho Peeping Tom Politechnik Padre Padrone e Possession e quindi già uno dovrebbe sapere che lettera scriversi da qualche parte poi vi ho fatto vedere Eva Contro Eva però chiaramente non è questo il titolo originale All Above Eve che era la cosa Amar Cord Accattone Amici miei Andrei Rublev Antiporno Angst Apocalypse Now e L'appartamento che abbiamo là poi è stata la volta cioè poi è stata la volta no perché non le ho messe in ordine cronologico apposta comunque segnatevi Taxi Driver To Be or Not To Be in originale ovvero Vogliamo Vivere di Ernst Lubitsch Viaggio a Tokyo Il Petroliere La Cosa Il Terzo Uomo L'Infernale Quinlan The Tree of Life e Tre Uomini e Una Gamba quindi abbiamo la T se qualcuno lo sta già capendo poi abbiamo avuto Le Iene I Predattori dell'Arca Perduta Noda alla Gola Riso Amaro Rashomon Ran Oro Scatenato Rocchi i Suoi Fratelli La Finestra Sul Cortile se qualcuno nei commenti lo sta capendo ma io ho capito adesso cioè la lettera l'iniziale del titolo originale no nel senso le varie lettere poi la parola che formano cioè io ho capito ma c'è tu nonostante lo sapessi nonostante io però ho la scimmia di Homer era una per la sospesa ha pure contribuito ma siamo a metà quindi abbiamo ovviamente questi film sono tutti da recuperare tutti imperdibili e consigliatissimi poi è stata la volta di Ice Wide Shut Untracked Eccebombo di Elephant Man La Promessa dell'Assassino Ed Wood Ema Eraserhead e Easy Rider poi ancora in ordine abbiamo aiuto mi sono incasinato ok abbiamo Onibaba Fronte del Porto qualcuno vola sul nido del cuculo Ordet Old Boy Solo gli amanti sopravvivono Otello Fratello dove sei e c'era una volta in America e l'ultima lettera direi che ormai si è capito tutto Intrigo internazionale Quinto potere Napoleon Nebraska No Sferatu Non Essere Cattivo Nuovo Cinema Paradiso Lo Sciacallo Nightcrawler e Ninocca qualcuno si sarà segnato tutti i titoli se non ve li siete segnati la live rimane qua comunque rimane come video uno se li va a recuperare intanto è caduto qualcuno? abbiamo perso Federica e niente ci dispiace molto annunciare soprattutto per l'utente di prima esatto allora si ragazzi avete indovinato ed eccolo qua e adesso vi metto anche il link cliccabile guarda che queste cose sono veramente guarda che potenti i potenti mezzi siamo arrivati a livello della televisione anni 80 esatto è un omaggio a potenzo russo che hanno fatto c'è un 2020 non so se sei presente ah si esatto allora eccolo qua ragazzi si abbiamo aperto il Patreon le gabbie ah no di Cinefax anche le gabbie anche le gabbie si assolutamente le abbiamo già aperte da mo quelle non sono mai state chiuse in realtà bravo mai chiuse allora intanto c'è un Kakami Okatsu su Youtube che dice che la soluzione è Paternò in realtà voi non lo sapete ma Kakami Okatsu è il vecchio nome è il nickname adesso è così è un cazzo di tuoi hai voluto fare il simpatico hai voluto fare il simpatico guarda ti mando anche in onda hai voluto fare il simpatico io lo dico è il nickname di Drenny del nostro caro Drenny del classico di Cinefax allora intanto c'è qualcuno che dice che Natascia assomiglia tantissimo a Anna Pachen ma magari ma magari per lei non si è un simpatico no ma magari per Anna Pachen Francesco Avagliano che dice che belle fregne non male anche Lorenza Natascia e Federica grazie Francesco siamo tre bonazze esatto allora ragazzi sì abbiamo aperto il Patreon ondcinefax.it e uno dice ma perché cacchio avete aperto il Patreon dicinefax.it di solito i siti non lo fanno e infatti perché fare una cosa che gli altri fanno noi di solito facciamo le cose che non fa nessuno fondamentalmente perché perché vogliamo crescere perché vogliamo darvi un servizio sempre migliore impegnarci sempre di più e stare ancora più vicini a voi in quanto community sono due anni e mezzo oggi che ci facciamo un culo che voi non avete la più palida idea sono testimoni qua tutti quanti loro e lo saranno anche redattori e redattrici che arriveranno dopo per chi non conosce cinefax cinefax.it la cosa è nata fondamentalmente per gioco nel senso io avevo iniziato scrivendo delle cagate delle curiosità sul cinema su twitter perché comunque io avendo studiato cinema anche le superiori le curiosità legate ai film mi sono sempre piaciute mi hanno sempre appassionato e mi hanno sempre tirato in mezzo e ho cominciato a scriverle su twitter un giorno il caro Paolo Cielo Amare con il quale faccio ogni settimana il podcast che trovate su spotify eccetera mi disse ma ascolta io faccio le recensioni su youtube potresti raccontare a qualcuno dei tuoi cinefax in fondo alle mie recensioni e andare in video ho detto vabbè ok perché no all'epoca lavoravamo insieme per cotto e frullato con il qui presente carissimo Enrico Tribuzio ahimè anche tra i più apprezzati protagonisti di cos'era Epico Tempo Mangiare Epico Tempo di Mangiare che è durato poco ma ci ha avuto abbastanza seguito devo dire esatto delle perle e ha anche dato per l'epoca uno dei tuoi tormentoni più amati nella rete che non staremo a ripetere in questo momento secondo me chi lo ha visto lo scriverà nei commenti entro pochi secondi e quindi è iniziata da lì io a un certo punto ho detto ma senti quasi quasi li faccio io per i cazzi miei su youtube e ho aperto il canale youtube dove ho cominciato a dire un po' di cinefax mi apro il mio canale youtube con blackjack e squillo di luce anzi anzi senza blackjack esatto e così è andata poi da lì ho detto ma come cazzo faccio a promuovere il mio canale youtube apri una pagina facebook e la pagina facebook è esplosa in realtà la cosa si è ingrandita sempre di più ho aperto il gruppo facebook sono arrivati i moderatori perché non riuscivo a stare dietro a tutto quanto da solo almeno sul gruppo ho demandato un po' di roba e a un certo punto è venuta fuori l'idea del sito poi è venuta fuori l'idea del podcast poi è venuta fuori l'idea di telegram poi è venuta fuori l'idea di un sacco di roba e la cosa si è ingrandita talmente tanto che al momento io ho un primo lavoro perché faccio il cameraman in rai ormai da dieci anni dopo aver fatto quindici anni da freelance si lavoro da 25 anni se fate due calcoli capite quanti anni possa avere io non ho iniziato a tre tra un po' è in pensione quindi esatto ma il lavoro che faccio per cinefax.it mi occupa più ore del mio lavoro principale e lo faccio chiaramente perché ci credo tantissimo continuo a crederci ci ho sempre creduto avere con me tutte queste persone che vedete qui e che vedrete dopo e intanto è tornata la fede per la gioia nostri ascoltatori mi piace mi piace ci credo credo in determinate cose che fanno parte della linea editoriale del nostro sito che viene presentato a tutti i redattori che collaborano con cinefax.it e che si impegnano a rispettare e adesso arriviamo al punto perché il Patreon? perché vi chiediamo un supporto e intanto se ne è andato Lorenza niente non riesciamo ad avere le tre ragazze insieme interscambiamo deve essere una maledizione perché probabilmente avrete notato che non pubblichiamo mai fake news non pubblichiamo mai bufale non facciamo del clickbait anzi sono cose che io profondamente odio con tutto me stesso mi stanno profondamente sui coglioni tutti quelli che lo fanno che la usano come politica perché lo vedo come una profonda mancanza di rispetto nei confronti del pubblico della community e delle persone in generale quindi non è una cosa che mi piace anzi spesso ci troviamo a smentire delle fake news a smentire delle bufale ci è capitato in questi mesi di smentire addirittura Rai 1 il Tg1 Sky il Tg5 io non lo prenderei comunque la pubblica il Corriere della Sea c'è delle robe che uno dice ma noi siamo dei poveri stronzi piccolini invece sì perché anche quella gente la lo fa ma come potrete ben capire se lo fanno i giganti immaginate quelli che sono fondamentalmente i nostri competitor ovvero siti che parlano di cinema e serie televisive principalmente molto più grossi di noi molto più piccoli di noi più o meno come noi ma è una cosa che noi non vogliamo fare e quindi non vogliamo assolutamente guadagnare su quella roba lì non vogliamo guadagnare prendendovi per il culo perché chi lo fa guadagna prendendovi per il culo perché ogni views delle pagine porta introiti grazie alle pubblicità che voi vedete questa è una roba che a noi non va non va di fare il problema dall'altra parte è che dopo un po' le energie le risorse economiche il tempo mancano e quindi per continuare a fare quello che facciamo come lo facciamo ma farlo sempre meglio e per far diventare anche un po' vostre se ci credete quanto ci crediamo noi quelle che sono le nostre battaglie beh allora perché non diventare amici di Cinefax dandoci un supporto compagni di merende soprattutto compagni di merende sempre a mangiare soprattutto chiaramente il Patreon come tutti i progetti Patreon prevede delle cose in cambio per l'abbonamento mensile che fate abbiamo pensato di farle adeguate a quello che che sceglierete nel caso doveste sceglierlo di darci come come supporto poi nel caso ci farete sapere c'è sempre il tempo a fare delle modifiche a cambiare venirvi incontro ne parleremo questa vuole proprio essere una cosa non da noi a voi cioè dall'alto verso il basso è un po' l'atteggiamento che ho sempre cercato di avere anche io come admin nella pagina più un dialogo una questione una roba tra amici ecco perché anche appunto gli amici di Cinefax come vedrete se andrete a vedere il link io nel caso ve lo ripiazzo tutti i tagliere sono pensati in modo cinematografico ovviamente non poteva essere altrimenti pensavo che ne so tipo radiofonico tipo in stile non lo so servizio di bicchieri ah ok tipo come i panini dell'autogrill ma perché sei un camogli un camogli un camogli sei un rustico sei un Icaro probabilmente avremmo avuto più successo così e come vedrete alcune sono libere e aperte altre invece sono limitate perché chiaramente l'impegno a quel punto diventa più gravoso da parte vostra e anche da parte nostra per darvi quello che meritate proprio perché torniamo alla questione di prima perché a fare le cose noi ci teniamo di solito a farle bene non ci piace fare le cose alla cazzo di carne quindi io direi che ho invitato un sacco di gente ma sto parlando come uno stronzo da mezz'ora e non volevo che fosse un one man show quindi io direi di far parlare qualcuno di voi a questa cosa mi intriga perché adesso sembra tipo la professoressa quando interroga io sto facendo andare avanti il cursore sulle facce di ognuno no vabbè io risparmio e adesso invece ci parla Enrico Tribuzio se gli altri acconsentono se non ci hanno qualcosa di più intelligente vada vada non posso questo è tutto da vedere potremmo sapere la professoressa è molto provata non ti senti in anticipo di prendere una posizione ci sembra giusto effettivamente no la questione di crescere chiedendo supporto a voi c'è anche un'altra questione che è un po' il convitato di pietra di questa di questa diretta e cioè quando una testata diciamo fa il salto diventa una testata grande c'ha un editore che vuol dire che c'ha l'editore questo nome un po' elegante un po' sognatore così in realtà è il padrone il padrone del giornale quando il giornale c'ha una testata qualsiasi cosa c'ha un padrone questo poi spadroneggia nel senso che poi è detta la linea non si può parlare di questo non si può parlare di quello insomma non c'è una vera informazione indipendente e invece la forza di Cinefax secondo me è che è il motivo per cui ancora collaboro con Cinefax è che Teo ci lascia molta libertà e decide quando c'è da prendere qualche decisione ci interpella sempre quindi c'è una gestione abbastanza democratica nonostante il sito sia il suo è proprio perché non c'è qualcuno al di sopra che caccia i soldi e dice io caccio i soldi e quindi dovete di quello che vi dico io cioè è tutto molto libero ci lascia ci lascia molta libertà io posso parlare della mia esperienza nel senso che ad esempio vi faccio un esempio pratico allora io tutto quello che dirò secondo me vale anche per gli altri redattori perché io leggo anche gli articoli degli altri redattori e redattrici del sito e io penso il culo che si fanno loro non è di meno di quello che mi faccio anzi forse di più perché loro scrivono più spesso io purtroppo non riesco a scrivere tanto quanto vorrei comunque ritornando alla questione dell'indipendenza vi faccio un esempio su uno dei forse il penultimo articolo che avevo scritto quest'inverno che era sulla seconda guerra civile americana il film quello di Giordante esatto che inizia con si è appena conclusa la competizione elettorale per decretare chi dovrà guidare la più grande macchina assassina della storia dell'umanità che è evidentemente riferito agli Stati Uniti allora voi su un giornale normale una frase del genere non la trovate perché i giornali in generale non solo quelli di cinema sono tutti filoamericani perché hanno la linea dettata dal padrone che poi chiaramente delega al direttore del giornale che dice non si può parlare d'America vi faccio un esempio l'altro giorno era il ricorso del 100 anni dalla nascita di Agnelli che al di là di quello che ne posso pensare io di Gianni Agnelli cioè tutto il male possibile hanno fatto questo articolo vergognoso su Repubblica che è di proprietà degli Agnelli dove ovviamente si incensavano grandi leccate di culo ma soprattutto vanno a intervistare Erich Kissinger che io non so se voi sapete chi è Erich Kissinger certo segretario di Stato per tanti anni è uno dei più grandi criminali di guerra mai a farsi sulla faccia della terra conseguentemente è uno che sta dietro alla politica assassina e terroristica degli Stati Uniti dagli anni 60 e poi e là lo incensavano come capito il Gandhi ecco questa roba qua voi da Cinefax ovviamente non succederà mai però qual è il punto poi è che tu non puoi dire che l'America la più grande macchina assassina dell'umanità così perché ti va chiaramente questa cosa va le cose che diciamo vanno supportate dai fatti e infatti se poi andate sull'articolo questa frase qui in particolare la vedete blu con la sottolineatura che nel linguaggio di internet sta a significare che è un link e se ci cliccate sopra vi si apre una bella pagina di Wikipedia in inglese che dice lista delle guerre in cui sono stati convolti gli Stati Uniti da praticamente quando sono stati fondati fino a oggi e voi è una lista lunghissima quindi se ci avete tempo se ci avete quelle 3-4 ore per scorrere insomma è praticamente scoprite che gli Stati Uniti forse non c'è stato un anno da quando sono stati fondati che non sono stati in guerra con qualcuno è tutto sto pippone per dire che cosa che noi stiamo chiedendo il supporto ai nostri lettori perché stiamo facendo questo tentativo nel senso di per non cadere nelle mani di qualcuno che poi ci mette dei paletti se a voi Cinefax vi piace vi piace quello che scriviamo o quello che sentite nel podcast eccetera e volete che continua a essere così e non rischiare di farlo cadere nelle mani di qualcun altro questo è diciamo è il metodo migliore perché è un finanziamento dal basso non è e quindi padrone siete voi non è una sovvenzione statale diciamo un nuovo diciamo allora ma io invece a questo punto vorrei sentire un po' Lorenza perché quella dei presenti che probabilmente tolto Enrico che va bene conosce personalmente da più anni anche per altre questioni eccetera eccetera però che detto così sembra che sa che altre questioni losche no losche no adesso non mi sembra il caso di dirlo siamo entrambi abbiamo entrambi una prima relazione ufficiale Enrico però esatto mi sembrava il caso di svelare anche questa cosa stasera se vuoi ne parliamo no vabbè non direi che non è il caso io ti amo da anni ah ecco lo sai ma comunque io vorrei dare la parola a Lorenza Guerra allora secondo me dovreste sostenerci perché noi sul sito parliamo di tutto quindi potete trovare qualcosa sul cinema asiatico dei anni 40 o sui Avengers potete trovare disquisizioni sulla filosofia sulla sociologia i documentari tantissime top 8 noi cerchiamo di mettere tutto il nostro background diverso nei articoli che facciamo quindi ci impegniamo ci impegniamo in questo e credo che tutta questa passione non è così facile da trovare in giro no anche oddio no vabbè io sono giusto un filino di parte però ecco effettivamente il sito è sempre stato pensato per essere qualcosa di diverso rispetto ai siti che già c'erano io ho ragionato dal punto di vista dall'altra parte perché prima di tutto sono io un appassionato di cinema quindi frequento i siti che parlano di cinema e comunque c'erano delle robe che mi mancavano in quanto utente quindi ho detto ma senti ma se invece lo metto su io con quello che secondo me manca e una delle cose più fighe secondo me che abbiamo al di là delle top 8 che ormai le classifiche ce l'hanno un po' tutti però noi ce ne abbiamo qualcuna che non è proprio come quelle che potete trovare altrove cioè noi spaziamo da Mellies la Nouvelle Vague agli Avengers a Bergman da i migliori Bob del cinema perché i migliori scene col cesso i migliori cessi i migliori cessi questo è importante è uno dei nostri migliori top importantissimo le top del decennio ne facciamo veramente una marea ma sono anche soffriamo per le top del decennio quindi esatto ogni volta che dobbiamo scegliere i migliori film di un decennio ci sono robe che voi non avete la più valida di quanti pianti ci sono in redazione ma la cosa che a me piace molto sono le rubriche che non si trovano così spesso altrove e ad esempio Lorenza perché gli animali nel cinema perché ti è venuta in mente una cosa del genere se ti dico la verità il motivo non me lo ricordo però penso che ci sia un tema che molto facilmente si possono trovare allegorie simboli o comunque anche degli archetipi ancestrali sugli animali e vengono usati in senso narrativo molto spesso perché è figa nel senso è figa io imparo ogni volta un sacco di cose tra l'altro l'ultimo tuo articolo ancora non l'ho sponsorizzato sui vari social ma è meraviglioso e ogni volta la cosa bella nel senso per almeno per quanto mi riguarda è che io ogni volta che qualcuno di questi qua scrive qualcosa io imparo qualcosa e questa cosa mi prende sempre bene mi auguro sempre che valga così anche per il lettore oltre ad appassionarsi eccetera eccetera che si possa imparare un'altra beh quella di Gramigna c'ha una valanga di articoli tra l'altro good and bad sì fondamentalmente l'idea mi è venuta quando eravamo ancora sul gruppo diciamo uno degli argomenti trainanti del gruppo è sempre stato sai i premi le discussioni quello che deriva dagli Oscar oggi hanno nominato ci sono state le nomination per gli Oscar quindi è sempre un argomento che fa molto parlare l'idea è sempre stata quella di dare una dimensione più ampia a quella che è la carriera di un autore e di un attore chiedo scusa per far capire che effettivamente se uno arriva a quel livello lì cioè ad essere molto noto a livello mondiale c'è sicuramente del talento che non nasce dal nulla e che al di là delle scelte sbagliate può sempre riproporsi l'esempio più comune è sempre quello di Robert De Niro l'hanno sfottuto per 15 anni perché ha fatto dei film orribili forse è un eufemismo però ha fatto The Irishman l'anno scorso che per me sempre nella rubrica sui film del decennio su quella collana che stiamo tenendo è il miglior film degli anni 10 del 2000 quindi per capire come effettivamente c'è sempre una storia alle spalle perché io ho sempre avuto questa formazione di voler raccontare delle storie infatti ad esempio l'ho fatto in maniera ancora più larga con tanto la monografia di Sorrentino quanto soprattutto un personaggio particolare come Joaquin Phoenix cioè quella è proprio l'estremizzazione della mia rubrica infatti la domanda iniziale era ma faccio un articolo di rubrica perché ormai questo è un mostro sacro assoluto tanto del cinema d'autore quanto del cinema commerciale oppure facciamo una storia più particolare perché ha una vita particolarissima è stato in Porto Rico una setta e poi ho fatto quella vita così assurda tornando lavorando per strada e quindi abbiamo detto facciamo una monografia al contrario su un attore non su un autore tra l'altro scusate ma velocemente nomination agli Oscar secondo voi come è andata? vi piacciono? molto a me hanno assorpreso l'assenza di Manc alla sceneggiatura la mancanza di The Roy Lindo come miglior attore perché in The Five Blood ha fatto una interpretazione pazzesca pazzesca però questo lì è strano comunque perché a me è piaciuto un casino a me The Five Bloods è piaciuto veramente tantissimo però visto che non è che sia andato cioè non ha ricevuto tanti apprezzamenti ma neanche in redazione noi parlando quello a cui è piaciuto di più per esempio no è in giro sto vedendo in giro è parecchio sì ho notato anche io sinceramente io vedo abbastanza spianata diciamo un replay di quello che è successo con la forma dell'acqua cioè Leone d'Oro e poi Oscar è il miglior film al Nomadlet cioè mi sembra che gli indizi vadano tutti lì però vediamo sta vincendo veramente tanto Nomadlet ha fatto anche i Golden Globe ha fatto i BAFTA no i BAFTA non li hanno ancora ormai sto facendo un casino della Madonna però sì insomma è il film dell'anno da un bel po' di mesi mi ha mi ha fatto piacere più che altro la come si dice c'è la grande distribuzione delle varie nomination a parte Manc che ne ha prese 10 che però secondo me sarà appunto il nuovo The Irishman o il nuovo Gangs of New York non so anche secondo me può darsi può darsi però sono 6 film con 6 nomination ciascuno è una roba devo ancora andare a guardare varie robe molto equilibrate i cazzi di cui di solito parlo io con le curiosità ma non so se sia successo di recente che comunque perché non sono tantissime 6 ma non sono neanche proprio poche quindi anche Binari ha avuto un po' di nomination ecco per esempio penso che lo vedremo appena riapriano il cinema penso che saranno i film che vedremo sì ma io penso che la vera sorpresa sia Steven Yeun al posto del Roy Lindo come miglioratore mi sembra proprio quello il ruolo ma comunque io io me l'aspettavo abbastanza io non tantissimo comunque se Minari se ne parlava molto i testati americani ne parlavano moltissimo allora in giunto qua c'è un c'è un Shaker Island che ci chiede ma Glenn Close ha la doppia candidatura Oscar Rezzi è fa abbastanza bene anche perché Glenn Close ha gli Oscar è come ha una nomination in più di adesso vincate due adesso due perché Glenn Close a questo momento è all'ottava nomination Amy Adams ne ha sei ma Glenn Close appunto come Amy Adams non ha ancora vinto un Oscar quindi forse non lo so tra l'altro non credo che questo sia l'anno buono neanche anche perché lo vincesse per insomma mi sembra più peggiore per questo davvero a te non è piaciuto? ma per niente ma vedi invece Paolo ne ha piaciuto Gremi è il redattore che va più pregi sottile come avete capito tutte le cose che ha detto Enrico ci sono in quel film però mascherate tutte passate con la mostarda tutte insaporite come piacciono a loro una rubrica insieme Gremi e Enrico Gremi e Enrico esatto a me piace ragazzi la metterei nel tier la metterei in qualche tier guarda smascheriamo l'ideologia smascheriamo bellissimo e invece io adesso passo un attimo dalle due figliole Clubhouse come sta andando con Clubhouse? bene dai siamo contenti siamo contenti è un bel nuovo canale in cui abbiamo conosciuto un sacco di persone scambiato un sacco di opinioni sia seriali che cinematografiche quindi siamo molto contenti vero Fede? esatto poi abbiamo anche degli ospiti che ogni tanto vengono a trovarci quindi li intervistiamo quindi stiamo rodando abbastanza bene siamo contenti la cosa strana è che Natasha lo sa lo sa anche Federica chi è Natasha? ah cazzo è vero scusami non so che si chiama Natasha ma se vuole essere chiamata Nati non è qualcosa ho capito ma mi chiama Natasha solo mia mamma quando arrabbiata Natasha cosa è combinata? lo vedi come fa lo vedi come fa allora Nati Nati a fini c'è scritto anche sotto Nati guarda la G Nati ah giusto è vero è ragione no dicevo tu lo sai lo sa anche Federica la cosa strana è che è la prima volta che c'è qualcosa targato Cinefax sulla quale io non ho il controllo totale infatti a me piace tantissimo questa cosa ti nominiamo sempre ti nominiamo sempre alla fine ti salutiamo sempre e ti ringraziamo sempre ogni tot esatto ho l'android quindi non so niente poi non si può registrare quindi non si può risentire non so assolutamente nulla e quindi mi fido ciecamente non sai quanto ti parliamo male dietro non è idea ma lo so tanto guarda alla fine ti salutiamo sempre e ti ringraziamo sempre quindi sono troppo brave ma per me hanno cambiato il nome hanno cambiato il nome al canale parlo d'altro esatto allora intanto saluto Alessandro Pacilli che voleva essere salutato ma avevo trovato un messaggio simpatico per il gritti perché almeno così tiriamo in mezzo anche Mattia che tra l'altro parentesi non simpatica visto che prima ci hanno detto ah pensavano che fossero tutti del nord in realtà in nord non siamo tantissimi ma Mattia lo è ed è in una delle zone che insomma in quest'anno non se l'è vissuta proprio benissimo perché di dove sei? di Bergamo della provincia di Bergamo ecco e come va? fortunatamente da quel punto di vista non ho messo niente di grave in famiglia o nella cerchia più stretta quindi devo dire che non è cambiato molto rispetto al resto d'Italia è stato solo una questione di confinamento e di sopportazione fortunatamente considerando quanti ne conosco che hanno avuto una ricaduta ben più grave beh immagino allora intanto mi ero perso il commento di Viviana Giuffrida che scrive se mi date Grammy in cambio vi lascio il 5% del mio stipendio vai Grammy vai non voglio sapere perché ma io lo venderei volentieri dicono tutti così e vabbè ha rimorchiato esatto non voglio sapere perché niente mi sono mi sono perso questa live non era per metterlo all'asta io sapevo che questa live fosse per metterlo all'asta se non mi volete più non è Patreon mettiamola all'asta chi offre di più e se lo porta a casa lo porta indecente no c'era un commento di Virginia Virginia Scotti che tra l'altro è la oltre ad essere la mia conterranea è anche colei che ha suggerito l'argomento del primo numero in assoluto della rubrica quello sul non cinema ah vedi bellissimo e presumo sia un abitué della rubrica a quanto pare quindi cinerama allora no purtroppo il commento è andato è andato in niente non si capisce più dove sia comunque ti facevano i complimenti per per la rubrica sì è un po' diversa nel senso io sono arrivato nel sito all'incirca un anno fa e quindi probabilmente si tratta di una delle rubriche più recenti visto che la maggior parte degli altri è dagli albori che è presente quindi ho cercato di fare qualcosa che un attimo si distanziasse dalle rubriche appunto tematiche monotematiche degli altri come può essere quella di di Gremi sugli attori di Lorenzo sugli animali e ho deciso di indirizzare questa ricerca di novità sul contatto fasi la raccolta di proposte su Instagram e poi la successiva scrematura ovviamente per selezionare solo quelli di cui sono capaci appunto di scrivere un articolo diciamo ben approfondito per poi finire su un sondaggio apposito sul gruppo Facebook per decidere appunto quale sarà il numero della rubrica doveva essere visitata mensile perché ultimamente mi stanno portando via sempre più tempo anche se avevo un limite di 3.000 parole mi trovo sempre a scavalcarlo non di poco però non riesco a fare altrimenti poi diciamolo doveva essere bisettimanale diventata mensile anche perché c'è la persona alla quale tu ogni volta scrivi guarda il sondaggio è questo appena puoi fallo guarda appena puoi chiedi su Instagram i nuovi argomenti che sarei io e io ogni volta ti faccio aspettare un botto di tempo perché non riesco a starti dietro e di questa cosa mi dispiace sempre un sacco poverino intanto c'è un messaggio di Mattia quando riesci cioè lui è proprio educatissimo e tipo dopo due giorni mi scrive ancora solo quando riesci e cazzo si hai ragione e niente dopo un po' io lo faccio Mattia comunque è sempre meglio scavallare le 3.000 parole che scavalcare il campo come fanno molti e noi lo dobbiamo dire quindi è meglio così è vero comunque è una piaga allucinante sta cosa di scavalcare il campo ancora nel 2021 c'è ancora gente che lo parla ma guarda mi sono documentato io lavoro da giusto qualche mese in televisione e ancora oggi mi capita di lavorare con tanti registi che non hanno la più palida idea di che cosa sia vabbè ma quello in televisione è chiaro e che ogni tanto no no ma ogni tanto li senti anche che chiedono all'assistente ma se passo dalla 2 alla 5 scavalco cazzo sì ma non lo vedo guardano tutte e due a sinistra evidentemente scavalcare cioè non ti vuole tantissimo li vedi televisione li vedi tutti lì i monitor delle camere sì però là è in diretta capito nei film o nelle serie c'è il montaggio che tu nel montaggio ci puoi anche pensare le vedi 5.000 volte quelle cose allora o non c'hai non c'hai materiale cioè lo devi usare per forza quell'inquadratura sbagliata perché non sai come uscirne perché non c'è abbastanza materiale o se no non c'ha senso una cosa del genere approvazione stilistica scelta stilistica pesca ricercatissima non proprio allora c'è intanto ah che è grande falco che io so bene chi è tra l'altro anzi grande falco visto che stai lì a scrivere preparati chissà chi è che dice io basta con sto tecnicismo becero Jacopo De Luca che ci fa un sacco di complimenti grandi ragazzi stesseri professionali preparati simpatici divertenti allo stesso tempo che volere di più vuoi venire pure tu hai fatto le faccine ma non sapevo come leggerle le faccine anzi così mi ha messo due così e di me c'è la faccina con l'ictus no no allora crash per Jacopo Troise in 15 secondi basta abbiamo trovato abbiamo trovato lo sbando torcine topo c'è un errore c'è un errore c'è un errore ah vedi Andrea Mauri che dice best rubrica probabilmente si riferiva a Mattia ma probabilmente anche a Lorenza o al Grammy o a chiunque chi se ne frega le nostre sono tutte best rubriche ciao Enrico da Sezze pelli liberi gag visive queste sono cose di chi ascoltava chi seguiva le live del podcast scusate ma solo a me ma questa devo andare a video scusate ma questa la metto a video perché merita di essere messa a video scusate ma solo a me Enrico Tribuzio ricorda Frenzi no allora ma forse perché sono la coppola che ricorda Tribuzio semmai 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 no ma meno male che scrivi meglio di come fai le battute allora Paola Pastore entra un po' ah aspetta Francesco che ti dice grazie a te per continuare a spammare su Telegram per noi anticonformisti senza senza socials esatto perché esiste anche il canale Telegram di Cinefax dove mando qualunque articolo del sito ogni volta che esce a volte anche prima che esca sugli altri social io sul canale lo metto sicuramente e adesso come avrete probabilmente notato se siete andati a guardarvi la pagina del Patreon esiste anche il gruppo di Telegram ovvero la chat dove si parlerà chissà di che cosa però dove ci saremo anche noi ci sarò anch'io ci sono anche tutti quelli che vedete qui ci sono anche tutti quelli che arrivano dopo dove potete potete sottare con i Jacopo e quelle molto importanti sottare con Jacopo Troise ragazzi è un ricco tribù esatto siamo tutte innamorate di Jacopo ma perché tutte scusa ma siamo due Jacopo ma è solo bello è solo bello secondo me questa chat si trasformerà presto in una chat di incontro sì vabbè allora prima di iniziare no da ancora prestino ti diamo ancora un pochino con voi intanto volevo chiarire un paio di cose visto che ci sono arrivate un paio di domande le ho recuperate adesso eccetera eccetera tra le varie cose che ci sono in ballo su Cifex che probabilmente se appunto se seguite il progetto da qualche tempo vi sarete accorti che nel momento in cui faccio qualcosa io poi penso alla roba da fare dopo e a quella da fare dopo la roba dopo quindi adesso siamo partiti con questa cosa qua ma io sono già in moto per fare le altre cose perché sì la state chiedendo da una vita e mezza e l'app prima o poi arriva è come il Natale quello ma come il sito non è è un sito come tutti gli altri che ha la parte social dove potete farvi anche le liste di film votarli recensirli farvi gli amici controllare l'affinità cinefila con un amico cinefriends sul sito a seconda dei film che avete segnato tra i visti ci sono un sacco di cose che probabilmente non sapete ma di cui il sito è veramente pregno anche l'app non sarà solo un'app normale perché c'è in testa di fare una roba completamente complicata che però secondo me è figa e quindi richiede tempo richiede lavoro energie soldi e un sacco di cose quindi diciamo che il Patreon servirà anche a lanciare tutti i vari progetti futuri progetti futuri che non dimenticatevi riguardano anche le nostre proiezioni speciali in sala al cinema perché eravamo partiti così bene avevamo fatto The Blues Brothers e avevamo fatto la sala sold out poi abbiamo fatto Erri ti presento Sally e abbiamo fatto la sala sold out poi c'è venuta la folla idea di portare una poltrona per due al cinema la settimana prima di Natale per fare concorrenza a Italia 1 e l'abbiamo portata tra l'altro in più sale perché è andato tipo non mi ricordo in 9-10 sale in giro per l'Italia e se non ha fatto sold out lì poco ci manca con una poltrona per due che è il film veramente che hanno praticamente il più visto dell'universo esattamente e poi poco dopo poi il delirio stiamo vivendo tutti quanti purtroppo da un anno ma per quanto riguarda me le proiezioni in sala sono una delle cose fondamentali una delle cose a cui tengo di più perché chi ha avuto la possibilità di venire o chi non ha avuto la possibilità ma si può recuperare le puntate registrate perché abbiamo fatto un pezzo di podcast live ogni volta che facevamo le proiezioni le trovate sia sul sito che su Spotify sono le puntate speciali si chiama proprio dal vivo chiaramente la proiezione riguarda anche altri c'è un ospite speciale per parlare del film ad esempio per una poltrona per due abbiamo invitato un docente di economia dell'università di Trento se non vado errato sembra di sì o di Trieste comunque c'era la T e la R da qualche parte ah è quella che è scusate l'Alzheimer galoppa che è proprio il dormire cioè Varen a confronto è un pony e che spiegava appunto la questione della scommessa in borsa di come funziona cioè da un docente di economia poi chiaramente c'è lo spazio con voi le domande le risposte c'è il contatto c'è una sorta di gioco a premi un indovinello che vince il dividi del film cioè cazzo il cinema al cinema è un altro dei punti forti nostri cioè nel senso la casa del cinema è il cinema tutto il resto è surrogato va bene è vero che esistono un sacco di piattaforme streaming e io sono il primo praticamente ad averle tutte e anche qualcuna di più di tutte però minchia se mi manca ad andare in sala e mi manca ancora di più andare in sala organizzato da noi con i film che decidiamo noi assieme a voi avevamo notato che era una figata e io sinceramente non vedo l'ora di farla tra l'altro no tra l'altro scusami se ci riesco io prima o poi la butto qua poi rimani ai posteri se non ci riuscirò almeno saprete che ci ho provato perché c'è una testimonianza ma una delle prossime proiezioni in sala firmate targate cinefax io voglio a tutti i costi che sia The Lighthouse di Robert ah è vero perché quel film al cinema non c'è andato io vi ho rotto il cazzo per un anno e mezzo con quel film è stato uno dei pochi che ha visto l'anteprima mondiale a Cannes in sala con Edgar Spattinson e William Dafoe e io voglio vederlo in sala voglio rivederlo e cazzo se riesco a portarcelo io sono veramente un uomo felicissimo no e poi dopo Lighthouse cioè vogliamo portare in sala un cazzo di film di Carpenter che io non li ho mai visti i film di Carpenter in sala ma magari ma fare anche una minima retrospettiva portando tipo 3-4 lo fai in due serate quello quello già stiamo ma facciamo anche una maratona seriale scusa una bella maratona di Twin Peaks perché no eh lì è questione di diritto è un po' più complicato sì ma ti denuncio ecco vedi questa domanda che ho mandato a video adesso mi sono sentito chiedere per tipo un anno e mezzo di fila non ce la facevo più infatti quando è uscito su Prime Video sono diventato improvvisamente cattolico perché ho detto no eh finalmente e ah guarda qua che cosa ci chiede Iemmino il Cinefax Film Festival si farà anche questa primavera ti prego sì se non sbaglio se non sbaglio lui ha partecipato se non sbaglio eh è per quanto forse sì chiedeva chiedeva forse sì allora che cos'è per quelli che non lo sressero l'anno scorso ci siamo inventati un'altra delle nostre follie abbiamo fatto il Cinefax quarantena film festival cioè nel periodo in cui c'era l'Italia intera in lockdown abbiamo aperto questo film festival online aperto a chiunque qualunque formato qualunque durata qualunque tipo qualunque lingua qualunque colore di tutto e ci siamo inventati un festival cinematografico eh dove poi proponevamo anche dei film al pubblico per avere il premio del pubblico e poi una volta scelto tra noi i premiati nelle varie categorie abbiamo proposto sul sul sito tutti i vari film eh vincitori è stata una cosa che a noi è piaciuta molto spero anche a voi e se a voi non è piaciuta sti cazzi a noi non ci siamo divertiti io moltissimo bellissimo anche io bello bello divertente esatto allora Davide Innocente ci fa una domanda strana e potenzialmente pericolosissima eh a proposito di Twin Peaks chi di voi era a Luca alla tardiva anteprima italiana della terza stagione purtroppo no ma volevo esserci magari no magari davvero ma infatti sì non mi ricordavo neanche che l'avessero fatta a Luca sì l'avevano fatta mi ricordo che era successo l'intoppo che dopo mesi e mesi e mesi di segreto totale assoluto con anche l'anteprima che era andata a Cannes della prima puntata tutto sotto segreto top secret eccetera su Sky Italia il giorno prima è uscita è uscita la prima puntata errone madornale che belli che siamo l'eternal sunshine award chi lo vincerà quest'anno ecco parlavamo prima dell'alzheimer sono due settimane che mi dimentico di chiedere a voi sui a voi a voi sui instagram sulle stories di fare il il sondaggio ma a questo punto forse domani o dopo domani me lo potrei ricordare i candidati in finale Enrico non so se te li ricordi tu io avevo votato per un classicone che adesso però non mi so bene anche io un horror era no no era un film di sport col faccione col faccione no aspetta in finale mi sa che sono arrivati le strade del male che in originale è the devil all the time mamma mia il film di faccione ah e forse il film di faccione tornare a vincere che in originale è the way back ah ok sì sì un titolo come tornare a vincere è come un cuscino fresco d'estate ti metti là già sai sì tornare a vincere già so quello come va a finire quindi è bello ah vedi vedi Stefano Girgenti ci ricorda infatti deve essere un omuncolo che ascolta il podcast altri eventi tipo Super Cali dice Vincenzo Di Pietra Super Cali velocemente è stato un evento vicino Milano eravamo a Vigevano io e il Paolo ce l'ammare un evento legato all'incrocio al binomio romanzi e cinema siamo stati lì abbiamo fatto il nostro panel c'era un sacco di gente che non me l'aspettavo c'è la registrazione in podcast anche di quella giornata è stata una figata magari cosa ti posso dire Vincenzo magari appena si potrà uscire siamo di nuovo tutti rossi adesso quindi porca di quell'altra merda loro sono rossi noi Jacopo no voi cosa siete adesso? blu 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 in realtà non lo so perché io non vivo in Italia però ho perso il conto ah è vero tra l'altro tra l'altro scusate apriamo questa parentis dove possiamo menarcela un attimo perché allora facciamo l'appello io io sono di Milano io sono a Milano adesso poi andiamo di fila sei a Milano sei nato a? a Milano a Milano bravo sono nato a Milano lo sapevi lo sapevi Enrico? io sto a Pechino adesso sto preparando festeggiamento lo sapevo un gratto nuovo dico che si ho anche la divisa dove sta qua ecco e sei nato a? sono nato nel basso Lazio dove ci stanno i pastorelli a perdita d'occhio questa è una citazione di Boris io sono di Genova ma vivo a Milano però adesso sono a Genova Bergamo e sono di Bergamo Lorenza io sono nata in una piccola campagna nel Foggiano ma pastorella fuggi da Foggia non può Foggia ma quello Foggiano ma come sono nato? non è così ma non lo dirò non lo dirò Federica? io sono nata a Taormina ma vivo a Milano quindi il Grammy Lugo di Puglia provincia di Bari vivo qui città di Bassi ex capitano della nazionale ed è l'allenatore di calcio a 5 attuale della nazionale vabbè non mi hai citato la persona più importante della Puglia scusami non è dei parti vostri Lino Banfi lui è più vicino a Lorenzo che a me ah ecco subito ma tu dove sei veramente? io sto a Pechino a preparare il partito ma veramente? ci avevo anche lo sfondo dietro solo che adesso mi sei riavviato il computer adesso mi giro un attimo e lo rimetto scusami infatti lui non potrebbe essere qui lui sta usando una VPN e sta facendo finta di essere in Tibet in realtà perché con la connessione finese non potrebbe tra un po' tra un po' lo vengono a prendere esatto invece Giacopo Troise invece io sono nato e cresciuto a Genova ma ora sono a Bruxelles da ormai 6 anni ma che bello sfondo vai bello bellissimo questo ce lo danno col computer c'è già questo sfondo qua quando ti compri il computer sei a Bruxelles perché ovviamente sei parlamentare europeo con i soldi nostri magari vorrei ti paghiamo noi la casta sei della casta allora io in questo momento mando a video un commento che lascio leggere a voi vabbè ma c'è c'è l'inghippo mi sa c'è l'inghippo c'è l'inghippo c'è l'inghippo qui c'è l'imbroglio l'imbroglio c'è l'imbroglio è gente che mi vuole bene allora Gianluca Murro dice che è lo sfondo di Shaolin Socher quello di Pier potrebbe anche avere un fondo di verità potrebbe essere allora io adesso mi devo fare un sbattimento che voi non avete idea cioè anzi si avete idea perché devo iniziare a invitare gli altri redattori ad unirsi a noi quindi mi tocca salutare qualcuno io inizierei a salutare perché so che ha un altro impegno si 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 un altro podcast ci vediamo però se volete devi fare devi fare qualcosa io lo so certo vabbè che cosa una registrazione di un altro podcast dopo il mio podcast si parla di pallacanestro il contropod il dopo podcast come il festival esatto magari magari allora c'è Kakamio Katsu che giustamente come dice il suo nome dice di mandarvi via con il televoto esatto dai dai che è che va bene va bene dai dai televoto televoto dai chi rimane Jacopo sicuro vedai che vince e invece Federica Di Canio che ci tiene a ringraziare Lorenza per i suoi bellissimi articoli prego è un onore prego come prego manco le avessi passato un bicchiere d'acqua prego allora e a questo punto direi che per sollevazione popolare io manderei via Gramegna io voto l'ho votato l'ho votato vero perché tra l'altro cioè è anche quello che sta un po' più sulle palle a tutti cazzo ancora in live aspetta no sbagliato ma mi ha sentito ha sentito sì ciao Jacopo grazie di tutto quanto e appuntamento alla prossima live perché se probabilmente qualcuno è andato a guardare i vari eh tire del Patreon si sarà accorto che una delle cose che c'è in in ricompensa nei vari tire c'è la video chat con noi ah attenzione adesso tutti tutti l'abbonamento a 250 euro e noi con noi intendo anche Troise cioè quindi mi sacrificherò mi sacrificherò e magari questo noi improvvisamente compariamo tutti rimane solo lui mettiamolo all'asta anche quello non figlio e parte una musica di Barry White sotto ma io non voglio esattamente all'Elly McBeal pure quella di Stevie Wonder con Elsa e va bene oh Grammy ti faccio andare visto che c'hai da lavora altrove e grazie di tutto e soprattutto a Troise il più bello di tutti grazie come dice Lorenza grazie allora abbiamo salutato il Grammy quindi adesso tra un po' io farei entrare qualcuno e potrei già anche farlo entrare perché basta che gli mando il il link e lui adesso dovrebbe dovrebbe vederlo e quindi dovrebbe raggiungerci credo spero non lo so ma dipende chi ha adesso coprite anche un po' dire coprite chi non è elegante allora copriamo i tempi morti insomma la cosa si fa no io volevo dire una cosa in realtà ma sono scordato perché ormai l'Alzheimer galoppa anche per te è incredibile io tra un po' ti raggiungo no che cazzo volevo dire non mi ricordo no volevo dire una cosa seria tra l'altro ah ecco no una cosa allora una cosa interessante visto che non c'è Paolo Cellammare lo dico io una cosa interessante di una dei tier o tire insomma le ricompense di Patreon è il fatto che potete indicarci la top 8 che più preferite secondo me questa qua è una tra le ricompense più più succose succose perché a me mi capita spesso per esempio che ne so voglio siccome io conosco pochissimo ho visto pochi film giapponesi ad esempio però mi piacerebbe approfondire il cinema giapponese solo che chiaramente sono cento anni di cinema uno dice da dove comincio come faccio la top 8 invece è uno strumento utile perché ti dice ok questi secondo noi sono gli otto film imprescindibili del cinema giapponese e intanto c'è una base di partenza e poi da là uno va in giro e segue un regista che gli è piaciuto di più eccetera boh questa l'ho trovata una ricompensa molto molto utile tra l'altro perché ah no penso mi stavate chiamando invece un cane c'è nel tuo no no non è aria io ho due gatti e una tartaruga quindi non credo che abbiano ancora imparato ad abbagliare io ho fame però non faccio questo rumore non hai una fame no forse che non so se tutti hanno l'età vecchia di però qualcuno forse negli anni 90 si ricorderà il clima che c'era intorno a internet stava nascendo internet ah che bello la conoscenza alla portata di mano il sapere democratico in mano a tutti poi taglio 2021 gente che invade il parlamento americano perché c'è una teoria del complotto che cosa è successo nel mezzo è successo che internet è diventato chiaramente una cloaca maxima perché c'è un botto di informazione c'è tutto il contrario di tutto e questa speranza è stata tradita nel senso che uno il sapere non è l'accumulo di informazione ma serve qualcuno che ti guida ti aiuta a destreggiare in mezzo a questo casino e secondo me queste la coppotto si inserisce tra queste cose ma chi è il cane non lo so non è il mio non è il mio è la mascotte è la mascotte è la mascotte è la mascotte scusate scusate il cavaliere ha ben entrato attenzione attenzione un uomo incontrollabile un uomo incontrollabile un uomo incontenibile un uomo incontrovertibile un uomo indefesso un uomo indecente anche un uomo perché un uomo un perché ovvero il caporedattore di cfx.it quindi il mio braccio destro anzi il mio braccio sinistro e il mio braccio destro storicamente è il Drenny il grafico e colui che si fa un mazzo della madonna tutti i giorni e un uomo al cui voglio veramente tanto tanto bene un uomo che fisicamente è anche veramente un cazzo di gran bell'uomo ma ha deciso di fare l'Adam Kadmon e di nascondere il suo fascino c'è Adriano Mace ragazzi lunga vita e prosperità amici nello spazio e anche bello da lontano intanto il cane della fede io ero convinto di partecipare questo potrebbe essere mio adesso è mio che dall'altro si chiama Aria per i ritenitori come si chiama? Aria Aria? è una cosa seriale come Aria Stark con la canzone di Marcella Bella esatto quanto siamo vecchi cazzo io pure ho pensato a quello è un po' sì è vero un po' sì è vero comunque scusate ho letto adesso che se mi vedete fare così è perché sto leggendo i vostri commenti ho letto adesso che Rossella scrive lascia l'università e inizia a lavorare per pagare 250 euro e vedere Jacopo T Jacopo ma scusa ma invece del patrio non potevamo mettere veramente lui all'asta spero che siano dei miei amici che vogliano che vogliano scherzare comunque ora che l'ha detto capito? ora che l'ha detto voglio dire è abbonamento ah giusto è vero facciamo un abbonamento solo per Jacopo allora io farei intanto entrare cominciamo a fare entrare qualcun altro e per far entrare qualcun altro io a questo punto saluto la coppia clabauseggiante formata da Federica Franz e Nati Nussemblat ho detto giusto adesso non può cagare il cazzo l'ho detto giusto non lo cago aspetta devo parlare di qua non lo cago ecco ok no io sto parlando col solito eh? sì lo so ma io cercavo di parlare con te così tipo vabbè adesso glielo dico sì sì dico ok allora niente ragazzi ciao a tutti e seguiteci su clabause venite a parlare con noi di serie tv e cinema mi raccomando vi aspettiamo esatto e tra l'altro non so se lo sai ma dovresti saperlo se non lo sai sallo ma uno dei tier perché mi hanno cazziato mi hanno detto che più o meno tier si legge come si pronuncia come si legge io facevo il tire quello anglosassone in realtà l'ho presa devi fare il solito milanese esatto bravo bravo Harry il solito milanese tac e comunque uno dei tier prevede anche clubhouse quindi occhio perché poi toccherà anche a voi certo potrebbero anche scegliere il trend topic da parlare con noi su clubhouse esatto e avere un po' di diritto di prelazione sugli altri per fare la chiacchiera dal vivo potrebbero venire anche come ospiti noi ospitiamo tutti facciamo parlare tutti non dire ospitiamo tutti che cazzo non è la stanza della schiava prego e saltate anche la fila alla posta saltate anche la fila alla posta mangiate anche la pasta di Enrico Tribuzio perché l'ho cucinata quella le assonanze hanno qualcosa di poetico io ragazzi vi ringrazio e vi saluto esatto e ricordiamo ai ragazzi che vi possono sentire ogni venerdì alle 19 su clubhouse ciao Fede ciao ragazzi ciao ciao oh ma intanto facciamo io farei parlare un po' il Mace intanto che invito la gente tra l'altro ma io sono a casa mia ma purtroppo ho degli ospiti in casa e quindi mi devo tenere i dispositivi di protezione ah ma i cani di prima erano i tuoi quindi no no non erano i miei cani no più che altro io mi stavo domandando io credevo di partecipare a una live dove si parlava di cinema ma in realtà mi rendo conto che qua c'è un'invettiva ferocissima contro il capitalismo tutto un ragionamento semi carpenteriano no velatissimo ma d'altronde direi che i nostri utenti che ascoltano il podcast e leggono l'esimio Tribuzio sanno benissimo che non era una cosa poi così aliena ma qua mi sembra insomma che più di capitalismo e di sistema si stia parlando di Jacopo Troise che stava facendo strage di cuore Jacopo Troise che io vorrei colgo l'occasione per dire che è l'unico poverino che non ha ancora detto una parola quindi io vorrei vorrei che è il valletto è il bello lo si vallo è impossibile un solo corpo e niente cervello non è vero noi ti vogliamo per il tuo corpo io volevo ne approfitto ne approfitto per per dire perché patrono secondo me volevo presentare una prospettiva personale perché mi sa piacere essere accompagnato anche da da un cane è il mio è il mio questo questo è il mio quindi mi accompagna mi dà il ritmo insomma no dovete sapere che praticamente io per un periodo sono stato dall'altra parte cioè sono stato praticamente fan di Cinefax ero un era un follower come come praticamente tutti quanti voi e seguivo il gruppo poi ho visto la nascita del sito e ho detto no ma è pazzesco cioè questa gente come fa a organizzarsi scrive benissimo tira fuori temi impressionanti una varietà Jacopo piano non ci autoincensiamo non esageriamo ma io parlavo di prima che arrivassi io va bene contatti sempre la frase di Mr. Wolf esatto non è ancora il momento di farci pompini a vicenda poi poi praticamente quando ho avuto la possibilità di unirmi ho visto davvero come lavorava la gente ma unirti in che senso con chi unirmi alla redazione fisicamente biblico no siamo ancora allora a parte che dobbiamo mantenere distanze ancora giusto prima di tutto e quindi non si può fare no ho avuto la possibilità e quindi ho visto personalmente tutta la ho proprio sentito tutta la passione di cui parlavamo prima e quindi ora dico ma pensa cioè pensiamo pensate dove potremmo arrivare davvero con un minimo di supporto cioè secondo me io penso fra me e me è una mia proprietà personale e dico se fino adesso siamo riusciti comunque a fare tanto se riusciamo a crescere grazie comunque a tutte le persone come ero io prima cioè io se non fossi entrato comunque mi sarei messo qua a guardare la live e sicuramente sicuramente abbonarmi a qualcosa quindi adesso dico chissà dove potremmo arrivare quindi puntando a questo a questo a questo sogno qua dico ragazzi secondo me vale assolutamente la pena secondo me potremmo arrivare su Marte come i fascisti fascisti su Marte c'è anche la maglietta col saluto romano come mai hai deciso no no tribuzio non commettere non commettere non commettere non commettere non avevo visto la parte sotto è groovy dammi un po' di zucchero baby ok allora ci sta tra l'altro pochi giorni fa era l'anniversario dell'uscita italiana dell'armata del tenebre ma io a questo punto per fare entrare queste due bellissime persone che stanno per entrare che porco cai qua ragazzi cioè il livello di fascino si alza in una maniera strepitosa saluterei qualcuno dei presenti io io farei ad alzata di mano chi vuole uscire per primo no tu no io so chi sta per entrare quindi voglio andarmene no tu rimani dentro invece attenzione Mattia alza la mano no l'avevo alzata anch'io quindi fai come di fare Cinerama alza la mano Cinerama out ma ci dai un oddio Luca Mignacco mi fa mi fa tornare indietro nel tempo scrivendo un un commento scusate ho un attimo di nostalgia mi viene mi viene la lacrimuccia per lo sgama la t-shirt contest va bene basta scusate una roba che si faceva su youtube e ci dai un'anticipazione Mattia sul tuo prossimo articolo di Cinerama poi certo che posso si lo sto preparando in questi giorni è una connessione tra la palla numero 13 quindi Sherlock Junior di Buster Keaton e la rosa propura del Cairo di Woody Allen con un po' di pirandello in mezzo ecco diciamo così così giusto vedete vedete di come stiamo parlando cioè che bomba va bene non mi credevate non vedo l'ora di ecco una delle cose che amo più fare una delle cose che mi piace di più che mi tocca fare in quanto direttore editoriale e revisore è che io gli articoli dei ragazzi li leggo praticamente tutti perché mi occupo di revisionare e sistemare delle cazzatine poi sono bravi quindi non è che devo fare degli stravolgimenti enormi però la figata è che mi leggo tutti in anteprima prima che escano e quindi questa cosa da appassionato mi piace un casino e sono sempre molto contento non vedo l'ora di leggere il nuovo di Mattia che quindi adesso saluto e ci vediamo alla prossima live buonasera a tutti ciao ciao Mattia e a questo punto io farei entrare una coppia fantastica allora oddio stavo dicendo non mi ricordo più di dove è non vorrei dire cazzate però vabbè al momento si trova a Bologna dopo essere stata in Australia dopo aver progettato delle robe che vanno è un'altra pugliese mentre l'altra persona è partita da vicino Crema con del sangue siciliano con un po' di Milano e in questo momento si trova in Irlanda cioè è un put purri ragazzi proprio veramente il mondo the world is yours come si vedeva scritto in Scarface anche se non è che porti siamo un po' di grossa però farei entrare così tutte e due insieme Morena Falcone e Alessandro Dioguardi buonasera 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 ciao a tutti buonasera come state? bene volevo indossare un keyway prima di entrare in live perché ho visto che il Troise ha inumidito la situazione è perché per fortuna i miei capelli non soffrono l'umidità perché se no qua è ma il clima di pixel in realtà hai capito? perché è quello che è quello è quello l'umido di suo ma io degli ultimi tre ingressi non ho presentato la cosa figa visto che stiamo parlando del Patreon di Cinefax ovvero di del supporto che voi diventando amici di Cinefax.it potete darci per diventare un po' più grandi e crescere un po' di più evitando di metterci in mano a degli editori che ci dicono cosa fare visto che non vogliamo avere nessuno che ci dica cosa fare non vogliamo come fanno tanti troppi altri guadagnare sul non rispetto nei vostri confronti quindi con la pratica del clickbait dei titoli scemi con la pratica delle bufale delle fake news con la pratica di 800 articoli in un giorno su che cosa ha detto il cugino dello zio del fornaio del vicino di casa di Johnny Depp in merito a quello che gli aveva risposto la parente dell'insegnante di educazione fisica delle elementari del cognato di Amber Heard o migliaia di articoli e di speciali ultra minus sui cani di Lady Gaga o di che profumo è la candela di Gwyneth Paltrow o la candela di Gwyneth Paltrow noi non le facciamo quelle cose non le scriviamo perché ci fanno cagare al cazzo posso essere un po' sincero e mi fanno anche incazzare i siti che lo fanno perché vi prendono per il culo porca di quella troia rendetevene conto anche un pochino anche voi non vi rispettano non vi vogliono bene vi sfruttano vi usano siete dei numeri siete dei click siete delle views delle impression sulle pubblicità che vi appaiono quando andate a guardare un cazzo di titolo che è stato scritto apposta per farvi cliccare perché dentro quell'articolo non trovate un cazzo di niente non vi servirà niente quel contenuto non vi fa crescere non imparate nulla rimanete gli stessi di prima avete soltanto perso tempo noi quella roba non la facciamo mi sono incazzato troppo comunque andando a prima Adriano Meis è l'autore di una rubrica meravigliosa che si chiama Good Night and Good Luck nata sul gruppo Facebook di Ginefax di solito pubblicava tipo alle 2-3 di notte e ancora adesso mi chiede quando spingi i miei articoli sui social farlo tardi capito però alle 2-3 di notte non li legge nessuno quindi di solito già le 11 è un po' tardi quindi vabbè però è una di quelle rubriche dove veramente va a parlare del cinema meno mainstream possibile trovate veramente degli autori ultra validi dei film che sono delle perle meravigliose Alessandro Di Guardi che ricordiamo è anche titolare di un podcast dove parla di cinema e serie tv personale oltre a essere uno dei più presenti ospiti come Rick e come il Mace del podcast di Cinefax Alessandro invece ha la rubrica che si chiama proprio come il nome del podcast un uomo pieno di fantasia si chiama Sul divano di Ale dove parla personalmente dice la propria opinione sulle serie televisive ma non solo perché ogni tanto ci butti dentro anche qualche film rubrica molto personale dove spesso prende una posizione netta in merito a qualcosa o a qualcuno come è successo con Malcolm & Marie uno degli ultimi film usciti su Netflix altra rubrica secondo me imperdibile e poi abbiamo Morena Falcone che è la curatrice di una rubrica fighissima anche io lo so io sono di parte vaffanculo il sito è mio quindi sono tutte fighe le rubricche sono tutti belli loro tutte brave è troppo sto esagerando sto esagerando ok comunque la rubrica di Morena stai tranquillo la rubrica di Morena si chiama Hey Doc mi ricorda qualcosa? mi ricorda Pulp Fiction ah no Ritorno al Futuro Ritorno al Futuro chiaramente è un giochino di parole perché parla di documentari film documentari che è un genere sempre abbastanza bistrattato e poco discusso e poco chiacchierato ma in realtà può regalare delle meraviglie e la Morena qui presente parla di un sacco di film assolutamente imperdibili a breve dovrebbe uscire a quanto so perché me l'hai scritto oggi altrimenti non lo saprei uscirà anche lo speciale sui cortometraggi e i documentari che hanno preso la nomination all'Oscar per quest'anno una cosa che aveva già fatto l'anno scorso sul sito trovate le sue recensioni le sue opinioni sui dieci candidati nelle due categorie prendo un attimo fiato mi bevo un po' d'acqua e direi di far parlare il mio capo redattore ma perché abbiamo aperto il Patreon Mace? allora io in realtà volevo riagganciarmi a quanto stavi dicendo prima quando ti sei un filino inalberato parlando di quello che è il sistema dell'informazione cinematografica italiana e non solo io come sai ti posso parlare da ex studente con una formazione in comunicazione e giornalismo e cercando il più possibile quando mi capita di navigare il web o di leggere giornali quindi testate giornalistiche generaliste ma anche di settore quindi chi parla di cinema io cercando di davvero di parlare da super partes quindi non come caporedattore di Cinefax ma come utente come lettore il commento più gettonato che mi capita di pensare di tirare fuori dalla testa è ma stiamo scherzando perché si leggono delle cose che non hanno né un capo o una coda cioè il pensiero è davvero ma ci stanno prendendo in giro e al contrario oltre non voglio incensare quella che è la nostra realtà perché noi siamo una delle realtà meritorie perché per fortuna ce ne sono altre non stiamo dicendo che Cinefax è l'unica ce ne sono anche altre anzi noi in realtà aspiriamo ad essere una delle tante in realtà non lo siamo ancora diventati siamo piccolini come un buco del culo di un canarino quindi si può dire un buco del culo di un canarino a quest'ora no canarino secondo me non si può dire no canarino però il mio punto è che io mi guardo attorno guardo i ragazzi e le ragazze che ho attorno i miei colleghi e compagni perché di questo si parla di essere compagni d'arme perché quella che stiamo portando avanti è una vera e propria crociata perché io una delle cose più belle che mi fa commuovere se ci penso è che ciascuno di loro ogni giorno si mette a scrivere degli articoli sapendo che non avranno un ritorno di click strabordante come potrebbero avere magari argomenti articoli che parlano di argomenti estremamente mainstream e noi lo facciamo volentieri noi continuiamo a parlare di autori film e quant'altro per la passione di trasmetterla alle persone ognuno dei miei compagni da Teteo in cima fino a l'ultimo arrivato siamo dei piccoli archivi delle piccole memorie di cinema chi più chi meno e la nostra idea è di portarla al pubblico e di condividere queste nostre competenze e nostre conoscenze che abbiamo acquisito ma non facendolo dall'alto dicendo ecco guarda ti lancio qualcosa prendilo ma con lo spirito di condivisione quindi anche di parlare con l'utenza e di avere qualcosa in cambio di ricevere dei titoli e di ascoltare questa è la forza secondo me di Cinefax ed è la cosa che secondo me riusciamo a fare secondo me molto bene non so se siete d'accordo assolutamente sì io sono un figlio giusto un cantinello di interessi no vabbè ma il discorso è questo siamo 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 veramente in mezzo a una lotta per cercare di fare informazione e divulgazione riguardo a un argomento che noi amiamo profondamente in mezzo a un a un ambiente che non fa questo e anzi spinge le persone a leggere e a a buttare odio sugli articoli fomentano il becerume del web da tutti le fake news gli articoli che servono per davvero per attizzare l'odio al politically correct perché c'è questa ultima corrente del politically correct e la gente che ci gioca sopra ci specula e come dicevi tu prima quando ti sei un attimo accalorato è che si prendono gioco di voi vi utilizzano per loro voi siete dei numeri invece l'idea di Cinefax è di avere con la community un rapporto aperto e di avere un dialogo e questo vogliamo continuare a fare e l'idea è quella ovviamente di crescere anche grazie al vostro aiuto se vorrete condividere con noi questa battaglia allora intanto grazie per l'intervento io torno ad aggiungere Lorenza che era momentaneamente svanita nel nulla ci sei? sì ah ok ci sei e a questo punto tirerei in mezzo gli ultimi due che ci sono vado con le presentazioni perché uno ragazzi è il baffo che sbaffa dove è? tiratelo fuori tiratelo fuori uno dei collaboratori di più lunga data di Cinefax moderatore sul gruppo è uno di quelli che si fa un culo della madonna andando ecco come diceva giustamente quando parliamo di cose che fregano a una nicchia di persone è uno di quelli che si è seguito una valanga di festival di quelli piccoli di quelli dove non ci va nessuno dove però vengono fuori un sacco di film fichissimi che poi magari non se li caga nessuno nonostante siano meravigliosi al cinema non è solo quello enorme che vedete pubblicizzato in televisione e su facebook il cinema c'è anche tanto altro cinema Fabrizio Cassandro ho detto il nome niente volevo dirlo dopo è uno di quelli che parla anche di questo ma soprattutto che ha una delle rubriche secondo me più originali in assoluto probabilmente al mondo non solo in Italia perché io vorrei sfidare qualcun altro a trovare altrove una rubrica che tratta di cinema e birra ma non esiste è impossibile eccolo e poi è un altro bellissimo è un altro dei notti bellissimi Fabrizio non poteva mancare mentre vi ascoltavo almeno una buona pietra esatto visto che abbiamo detto un po' le provenienze geografiche di tutto quanto il Fabri ci parla dalla fantastica città del mistero dell'esoterismo nonché del museo del cinema ovvero Torino io sono nato a Siena vivo a Torino dove studio l'ingegneria del cinema tra l'altro ho quasi finito e vivo in questa bellissima città in cui tra l'altro abbiamo scritto un articolo di recente sulle sale cinematografici cinematografiche torinesi che vi consiglio perché è un mondo molto interessante da scoprire e l'ultimo ospite di oggi ci raggiunge il più giovane è il più giovane no è Mattia il più giovane è Mattia il più giovane è Mattia il più giovane però lui sembra il più giovane sembra il più giovane e probabilmente è il più giovane diciamo come anzianità neanche quello no è comunque Mattia sì ma anche voi cazzo dovevate fare una cosa dovevate dirmi la regia la regia pessima qui abbiamo anche Gen Z nel previso siamo anche giovane perché con questo microfono e queste cuffie sembra che stai collegato fuori da uno stadio sembri il sono a un ultimo da San Siro io qua quindi non è così tanto lontano dalla verità se io apro qua e urlo c'è Iba che mi risponde e mi manda a cagare comunque direi che è arrivato il momento di entrare il grandissimo nonostante l'età il preparatissimo nonostante gli anni ma soprattutto un grande esperto di sfera Emanuele Antolini la gente si ripiglia ciao Emanuele come stai? bene meglio dell'altra sera spero mi ha preso un po' la strofista con questa intro allora concludiamo tu di dove sei invece? io sono di Verona la città dell'amore e niente quest'anno mi laureo in scienze della comunicazione dopo seguirò la via del buon vecchio Adriano Meis parola magistrale in editoria e giornalismo per combattere clip date bravo allora c'è qualcuno che aveva chiesto chi è? no io volevo fare una domanda a uno dei nuovi entrati prego se è possibile certo volevo chiedere a Fabrizio visto che è uno dei moderatori è una delle persone che è all'interno di Cinefax praticamente da quando esiste o poco dopo io mi ricordo ancora quando sul gruppo ci siamo scritti per la prima volta ti voglio bene come se fosse un fratello più piccolo ed è una cosa che provo per tantissimi di voi anzi per gran parte della redazione io gli volevo chiedere qual è il suo punto di vista su Cinefax cioè secondo lui che cosa stiamo facendo e dove stiamo andando perché secondo me è un ragazzo che ha un grande polso della situazione conosce il cinema come tanti di noi e ha la rotta e ha la bussola per capire per poter raccontare a chi ci sta ascoltando dove sta andando questo progetto è una domanda impegnativa io ti dico secondo me la cosa fantastica di Cinefax ed è il motivo per cui penso molti di noi sono qua dentro con Lorenza e altri ci siamo da tantissimo tempo è che Cinefax è stato in grado di creare un ambiente fertile di costruire uno spazio per delle persone appassionate di cinema che lo amano profondamente che non vogliono soltanto parlare nel pub la sera dopo due birre ma che vogliono veramente fare il bene del cinema mostrare uno spazio in cui crescere in cui imparare in cui trovare persone che ne sanno di più e da quelle imparare qualcosa e a loro volta mettersi a disposizione e penso che il sito in questo sia stato incredibile perché ha portato una qualità e una quantità di contenuti di livello che onestamente io ho visto in pochissime altre testate al netto dell'essere ancora piccolo e tutto quanto e quindi credo che un buon motivo per la nascita del Patreon un buon motivo per diventare amici di Cinefax sia condividere il nostro amore per il cinema cioè condividere quello che noi vogliamo fare che non è soltanto parlare di cinema scrivere articoli ma fare in modo che venga scoperto un certo registra che qualcuno non conosce fare in modo che venga visto un certo film che esce in sala ma che esce in 3 sali in tutta Italia e che in altre città non c'è richiesta di vedere e quindi penso che la cosa interessante di questa redazione di queste 30 persone chi più chi meno chi più presente chi meno sia il fatto che amiamo tutti tantissimo il cinema abbiamo tutti una nostra etica che ci porta a voler fare il bene del cinema quando scriviamo oltre a fare quei 4 click su ogni nostro articolo perché di quelli al massimo ci preoccupiamo e quindi secondo me è importante diventare amici di Cinefax per questo non so se ho risposto esatto direi che hai risposto direi che mi sembra mi sembra una gran risposta come soltanto il baffo che si impregna poteva fare ragazzi io purtroppo vi devo lasciare ecco vabbè d'accordo ciao a tutti salutiamo Lorenza e una cosa no in effetti no in realtà il tuo ultimo articolo è di pochissimi giorni fa ci sentiamo tra poco niente un bacio Lorenza e grazie ciao siamo rimasti in otto che tra l'altro è un numero così a caso particolarmente neanche per idea come le top anche le top sono scelte a caso sull'otto assolutamente sì lì devo ammettere un minimo di come si può dire di megalomania di di egocentrismo no in realtà è perché l'otto mi piace un casino come numero poi perché faceva simpatia chiamarle top otto perché sembrava un topolino poi in caso le top ten le fanno tutti le top five le top tre fa il culo facciamo le top otto poi che io sia nato l'otto otto è un dettaglio che non è che non ha assolutamente avuto nella scelta ma allora ragazzi che bello siamo rimasti tra di noi e secondo me l'eloquio del dio guardi in merito potrebbe raccontarci qualcosa di carino perché allora io con attenzione civil war civil war io con Alessandro ho un rapporto strano particolare nel senso che io lui l'ho conosciuto per interposta persona grazie a Paolo Cellomare che aleggia come un'ombra qua su di noi perché lui e Alessi erano conosciuti al festival di Cannes e lui mi disse dopo averlo conosciuto guarda cazzo ho conosciuto questo figliolo questo ragazzo molto in gamba aveva un cortometraggio a Cannes secondo me prova a sentirlo una bella voce nel senso ha delle belle cose da dire ho provato a contattarle tutto quanto e quindi poi Ale è diventato uno dei redattori di Cineflex.it la cosa divertente è che poi l'anno dopo ci siamo trovati io e lui al festival di Cannes quindi Cannes ci ha diciamo in questo una sorta di come si dice ci ha uniti saremmo dovuti andarci anche nel 2020 ma come tutti sapete che nel 2020 non c'è stata vediamo se riusciremo ad andarci quest'anno ed è figa la cosa perché Ale sta in Irlanda che è una cazzata cioè nel senso sembra una cazzata un po' come Jacopo che sta a Bruxelles ma si ha un altro polso della cosa delle questioni anche proprio in generale a livello sociale a livello anche banalmente di cinema di uscite cinematografiche di gente intorno di chiacchiericcio e secondo me è una delle cose che poi può arricchire i vari contenuti e i vari punti di vista Ale se vuoi dire qualcosa perché se io vado avanti a dire cazzate no sì è un rapporto particolare in generale che abbiamo io e te anche per via di poi una serie di cose che abbiamo scoperto cioè noi tipo vent'anni che ci giriamo attorno senza saperlo abbiamo frequentato gli stessi posti cose strane così però al di là di tutto per quanto riguarda cinefax la cosa che secondo me è importante oltre a quello che avete già detto è una cosa che ha sottolineato Scorsese nel bellissimo essay che ha scritto dedicato a Fellini e anche al cinema in generale lui alla fine chiosa dicendo che molti film come i film di Fellini i film di Antonioni molto cinema anche americano di una certa epoca che chi ne detiene diritti lo sfrutta di tanto in tanto lo butta in sala fa l'evento e poi lo ributta in un cassetto e questi film rimangono in un limbo culturale distributivo questo cinema però è la nostra eredità culturale come lo sono stati i libri come lo sono stati i poemi come lo sono stati i quadri e va preservata e chi sa di cinema chi ama il cinema ha il dovere di veicolare la propria conoscenza e non di tenerla per sé come un vanto guarda io quanto so di cinema che è una cosa che per tanto tempo alcuni hanno fatto sbagliando e inimicandosi il pubblico e creando i mostri cioè ovvero i mostri sono quelli che quando esce un bel film ah questo film di un certo livello d'autore che schifo sarà noioso è eredità di un certo retaggio critico cinefax evita di fare questa cosa il motivo per cui anche Fabrizio vi consiglia certo cinema andando a piccoli festival non è per andarvi a scovare il film sconosciuto come la battuta di Aldo Giovanni e Giacomo artista polacco morto suicida non è quello copie vendute due non è quello mai l'intento l'intento è quello di dirti guarda in un presente dove cinema di intrattenimento che piace a tutti anche a me dove siamo arrivati a un punto dove la scena dopo i titoli di coda hai un protagonista che dice oh sembra la scena di un film dei titoli di coda e fa l'occhiolino rompendo la quarta parete e poi qualcuno ci fa un video su youtube finale spiegato e tu dici come più di così cosa doveva mettere il sottotitolo con la didascalia cosa doveva fare i personaggi parlavano di quello in uno scenario del genere cinefax è quel sito che prova a stimolare a far ragionare perché il cinema come anche le serie tv ultimamente sono quello cioè il pubblico deve essere stimolato dovete se una cosa vi abbiocca sulla poltrona perché vi fa solo urlare e dopo 20 minuti ve la dimenticate perché è finito l'evento non è granché evidentemente c'è qualcosa che non va e noi cerchiamo di fare scusate di fare questo quindi premiate sì scusate è l'emozione ebbene quindi cercate di premiare questa cosa perché davvero ci sono tanti ragazzi qua che fanno esattamente questo ci mettono l'amore e la passione per quello che è il cinema per veicolarla agli altri non c'è mai una voce che dice guarda io quanto ne so sono bravo non è mai questo lo scopo di quello che facciamo ma ci chiede allora Simone Brunelli dice lasciamo parlare la Morena infatti ci stava arrivando un attimo Michele Corti ci chiede Morena come l'avete conosciuta Luca Garesio dice vogliamo Morena allora Morena giù manda la mobilia lo ricordiamo che emozione come ti abbiamo conosciuta fermi fermi scusate c'è Jacopo che deve uscire mi devo salutare mi devo salutare mi piace tantissimo grazie esatto volevo sapere la storia di Morena la prossima volta ciao Jacopo e grazie ciao io notavo che hanno tutti delle storie fighissime di come vi siete conosciuti Alessandro a Cannes quell'altro insomma tutti belli divertenti fighi a me è ridicola la storia perché non è che ci siamo conosciuti di persona prima cioè io ho iniziato a seguire a fare la fan a seguire la prima la pagina poi mi sono iscritta al gruppo di Facebook ho iniziato a scribacchiare un po' di mie opinioni un po' di recensioni lì e di punto in bianco un giorno mi è arrivato un messaggio di Teo io questo non me lo dimenticherò mai per le figure che ho fatto in quel frangente ero avevo iniziato all'epoca il mio dottorato di ricerca ed ero in azienda ho guardato il cellulare perché si era illuminato avevo l'anteprima del messaggio Teo di Ossufiano che mi scrive in privato su messenger e ciao bla bla vuoi diventare redattrice io ho avuto attimi di panico non sapevo più ho detto oh mio dio ma ha sbagliato che cosa ha fatto e poi sono stata chiamata dal capo del reparto dell'ufficio tecnico e io sì sì Teo dimmi invece si chiamava Emanuele e insomma è stato un po' così il mio inizio non è una storia divertente come quella cioè è ridicola non è bella è emozionante come Alessandro non sminuire la tua storia Morena perché nelle tue interazioni con il gruppo e con tutto quello che è Cinefax te hai iniziato a scrivere cose che hanno portato sia Teo ma anche credo di potermi prendere questo piccolo merito di avergli detto Teo ma questa Morena Falcone che scrive queste cose così carine ma perché non eh perché non la sentiamo e facciamo qualcosa e quindi te ti sei guadagnata il tuo accesso in redazione Morena perché hai un certo tipo di sensibilità e una capacità di analisi che è pari o superiore insomma a livello della redazione di Cinefax e quindi ti sei guadagnata il tuo posto dentro il progetto quindi non sminuire dicendo raccontando la storiellina simpatica che hai raccontato che hai sbagliato il nome del capo perché non si riduce tutto a quello ecco e poi perché a parer mio andava a coprire tutta un'area che è quella appunto dei documentari con una passione che io non avevo mai visto altrove e quindi scherzi a parte infatti io la voglio la voglio da noi la voglio io la voglio se la legge qualcun altro poi glielo fa qualcun altro l'offerta e no e invece no e quindi voglio che scriva su Cinefax.it perché quello che spero che passi come come concetto come come immagine come roba quando sul sito vedete sul chi siamo ma lo vedete anche sul progetto Patreon c'è scritto il sito vuole essere la casa di chi ama il cinema in generale quindi il fatto di poter trovare dal appunto dagli Avengers a Palfi dal documentario alla serie televisiva di cui parlano tutti quanti perché è quella di moda del momento tutto quanto sia cinema lo trovate lì senza relegarsi o appiccicarsi solo al al cinema dei blockbuster dei cinecomici dei megadollari ma anche senza fare troppo gli elitari gli spocchiosetti che invece di quelle cose non parlano perché oddio che schifo puzza di cacca uno con la tutina cioè avere un ventaglio più ampio possibile perché secondo me è giusto che sia così perché tutto il cinema è cinema e ha tutta dignità di essere raccontato e conosciuto finché non lo conosciamo non possiamo sapere se ci piace o no e quindi avere tante persone con tante passioni con tante manie con tante diversi punti di vista e amori verso tante nicchie creano un insieme che a me inorgoglisce ogni volta che lo vedo cioè quando mi distacco magari ho una divisione di insieme dico cazzo secondo me stiamo facendo qualcosa che potrebbe interessare perché tornando al discorso di prima non trovi i cani di Lady Gaga ecco perché chi cazzo se ne frega dei cani di Lady Gaga cioè nel senso voglio bene i cani di Lady Gaga proprio io poi con gli animali ce ne ho tre e quindi figura però su un sito di cinema ma perché parte la mia storiella divertente io sono stata iper contenta di entrare in redazione per dare voce a un genere che è veramente forse il più bistrattato tra i più bistrattati cioè il documentario non so su che è testata si possa trovare una rubrica di documentari e sono stata molto contenta come? che Fabrizio odia i documentari ricordiamo ricordiamo che Fabrizio odia questo non è vero no è una scherzone subito dietro Moena sono quello con più articoli sui documentari attenzione guarda che parte la volta non sono cinema ma sono quello con più articoli poi invece è arrivata una domanda da Gabriel che chiede invece a Emanuele come sei diventato redattore e poi chiede anche se lo saluti non so se sia Ispe sotto mentite spoglie no ma diciamo che io ho iniziato a scrivere anch'io sul gruppo facebook dopo ho iniziato a scrivere su un altro sito e mi trovavo col Mace ogni tanto a discutere in chat su vari film io un po' ero un po' deluso dalla mia situazione lui mi ha raccattato su con un cucchiaino mi ha detto guarda vieni inviami inviami uno dei tuoi articoli migliori è il peggiore e vediamo e diciamo che da circa un anno faccio parte di questa la chiamo cioè adesso ci sentiamo tutti i giorni quindi la chiamo anche famiglia e scrivo sia articoli che news e il mestre a cattare d'attori scrive a tutti cucchiaino l'ho visto l'ho visto ho visto Emanuele in difficoltà ho visto una grande passione amore per il cinema ho visto un atteggiamento che è comune a tutte le persone che stanno all'interno del sito quello di essere gentili di non far scattare flame di non insultare le persone ma cercare di dialogare anche quando si è su posizioni diametralmente opposte di non far mai scattare la rissa ma di avviare sempre un confronto anche acceso ma comunque educato e ho visto tutte queste cose in Emanuele non ci ho pensato un secondo a scrivergli mandami dei tuoi articoli Emanuele è un anno e passa ormai che è con noi si sta si sta adeguando sta facendo sta facendo di tutto e di più perché è un ragazzo che ha voglia come tutti noi e combatte la nostra stessa lotta e condivide la nostra idea di lotta e questa è un'altra cosa scusate ora chiudo che ci accomuna perché Emanuele ha parlato di famiglia e davvero il nostro rapporto in chat è questo io mi sono inabissato da poco nel magico mondo di Twin Peaks e ieri sera scrivo in la chat e scrivo ragazzi sapete ora mi vado a vedere la 1x5 di Twin Peaks e mi arriva un lapidario dal nulla da un utente sconosciuto e mi arriva l'uomo con un solo braccio e io pensando a Lynch ho detto sarà un personaggio di Twin Peaks c'è la danna col ceppo c'è l'uomo col suo braccio invece poi facendo partire la puntata guardavo lo schermo ho iniziato a ridere come un idiota dicendo l'alienazione la psicopatia esiste perché la persona in oggetto mi aveva detto qual era il titolo della 1x5 a memoria così come se io devo andare a scoprire chi è Bergman perché ho visto solo tre film di Bergman ho le persone che mi cucciano addosso un consiglio il più adeguato e poi appena ho finito di vedere il film sono lì tipo le comari dei Dejaka che mi dicono signora com'era questo film ce lo racconti ed è questo il nostro rapporto siamo una comunità siamo amici siamo fratelli siamo compagni di una lotta ed è questo che vogliamo fare anche con voi cioè nei tier di Patreon c'è l'accesso al gruppo Telegram noi vogliamo parlare con voi entrate dateci una mano e insomma esplorate Patreon anzi ti volevo chiedere Teo magari per chi non sa come funziona Patreon perché non sa neanche che cosa sia glielo spieghiamo oddio in che senso glielo spieghiamo sì è una cosa abbastanza semplice cioè tu scegli un livello di hai ragione tu scegli un livello di abbonamento quindi scegli con quanto supportarci al mese ogni mese e per ogni livello hai comunque diritto a qualcosa in cambio da parte nostra è una semplicità incredibile puoi scegliere di dare bisogna iscriversi solo per un mese solo per tre mesi per un anno puoi farlo per cinque mesi poi per due mesi proprio non ci stai dentro e quindi togli il supporto però poi ti va bene le cose vuoi tornare a supportarci puoi rifarlo puoi rientrare è già abbastanza libera la cosa e quindi ma ma attenzione bisogna iscriversi al sito cosa? bisogna iscriversi al sito di Patreon immagino bisogna iscriversi al sito di Patreon no cosa stai dicendo? perché? no? ok basta diventi in Patreon ah tra l'altro è vero c'è Drenny che mi ricorda che in un tier c'è compresa una t-shirt o altro o uno degli articoli dello store personalizzata esemplare unico e se poi Drenny muore il prezzo si impenna giustamente tipo il Garpez ma attenzione perché devo presentare l'ultimo dei nostri l'ultimo ma non l'ultimo quindi last but not least un uomo che ha deciso anche lui di seguirmi nella lotta di seguirmi in questo percorso contro i mulini a vento delle cose che leggono tutti per proporre al pubblico qualcosa che invece altrove raramente si trova un pazzo un folle totale ma io gli voglio un casino di bene proprio per questa sua scelta di aprire una rubrica che si chiama cinema e filosofia direi di salutare Sebastiano Miotti ciao 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 buonasera buonasera io applaudo Sebastiano Miotti come autore come filosofo come pensatore e applaudo la sua rubrica perché ci sono una serie di perle ragazzi che dovete andare a scoprire andate a cercare cinema e filosofia su Cinefax e leggete gli articoli di Sebastiano ragazzi io vi vedo tutti rilassatissimi in realtà gli ultimi dieci minuti per me panico perché abbiamo finito i redattori tutto a posto e io ero che mi sbracciavo virtualmente insomma ci tenevo ci tenevo a dire allora in realtà devo spiegare una cosa mentre facevo lo splendido con una una parte del mio cervello che già preso intero è poca roba quindi immaginatevi a metà mi era cresciato telegram e non mi funzionava più telegram e non riuscivo a mandare il link a Sebastiano per farlo entrare però intanto facevo proprio il tranquillo lo sciallo cioè se io ok adesso siamo rimasti tra di noi quindi tutto a posto intanto porca di quella pistana come cazzo adesso dove dove lo recupero e niente quindi alla fine poi ce l'ho fatta non so non voglio neanche sapere come ma evviva abbiamo Sebastiano Mignotti per concludere anche con te il giro d'Italia tu di dove sei e dove sei adesso? sono di Caspoggio vicino a provincia di Sondrio però sono a Pavia e studio a Pavia studio appunto punto filosofia e volevo ricollegarvi un po' a tutto quello che avete detto perché appunto è stata un po' una scommessa anche capire insieme a voi che siamo conosciuti nel tempo dal gruppo ma anche insieme ai lettori feedback se avesse un senso questo modo di unire queste due passioni io non l'avesse mi sono reso conto col tempo che la cosa più bella in realtà non è stata tanto quella di per forza portare la filosofia grazie ai film ma di capire che il cinema è veramente una passione in arte che può essere vista con uno sguardo filosofico che significa amare la nostra passione la nostra cinefilia e i nostri problemi anche così che ci tutti i giorni che conosciamo tutti i giorni quello di condividere un film la ragione degli spoiler del tipo di emozioni che queste ci suscitano insomma fare delle analisi su questo e anche riderci in questo senso però poterle appunto approfondire ed è la magia del cinema è la capacità con un'immagine con un'emozione di dire molto più che tante pagine di testo farebbero altrimenti quindi questo è stato per me la ragione del mio essere con voi e la ragione anche del voler coinvolgere tutti quelli che ci ascoltano questa sera abbiamo parlato molto di noi questa sera ma è un progetto assieme è veramente un modo per ricevere da loro la gratitudine e il valore che ci attribuiscono e ricompensarli di conseguenza e quindi sì devo aggiungere che è un progetto che facciamo assieme non siamo qui a fare gli splendidi e a chiedere un aiuto ma anzi un proseguire sempre a rialzo adesso capite perché ho detto che ero di averlo fatto entrare insomma vai a contraddire uno che fa così ha riportato l'ordine nel caos esattamente se io adesso anzi mi vergogno di aprire bocca dopo un intervento del genere io andrei perché la situazione si è fatta seria quindi direi allora non sei più utile se la situazione si è fatta seria devi sbagliartela devo andare anche perché qua in Cina sono le 5 infatti stai dicendo come fuso orario a Beijing come va? sono le 5 e mezza tra un po' devo attaccare a lavorare mi spiace allora Enri ti salutiamo e ti sentiremo credo presto nel podcast tra l'altro chi è che c'è questa settimana in puntata? non l'abbiamo ancora deciso ho letto adesso la chat e Pietro Baroni ci ha dato la sola quindi non lo so chi ci sarà ah vedi manco lo sapevo io questa cosa in diretta lo scopriamo vabbè quindi potresti essere tu ma vedremo vedremo chi lo sa chi lo sa chi lo sa c'è un toise che è stato molto apprezzato ma infatti non dobbiamo usarlo nel podcast dobbiamo prendergli il maglione la canottiere e usarlo per i tear del del patrio la chiedevano in chat stavano vedendo delle cose brutte da dire ma a questo punto niente dai ok allora salutiamo il grande Enrico Tribuzio vi lascio dicendovi una cosa seria cioè che ci tenevo a dirlo perché è un film che è stato abbastanza malcagato quando è uscito che è Vizio di forma di Paul Thomas Anderson perché secondo me è stato venuto male grande invece è un film che va recuperato assolutamente l'ho rivisto recentemente devo dire anche a me ma tu vivi su Marte non vivi in Cina perché perché forse nei tuoi dintorni è stato mal considerato Vizio di forma no io dico a livello commerciale io ho sentito gente che si lamentava è noioso lungo vabbè ma te non devi sentire la gente i problemi un certo un certo tipo di gente non va ascoltata chi ti dice che Paul Thomas Anderson è noioso non va ascoltato la gente va ascoltata tutta e fa se dicono delle cagate gli va magari detto che sono delle cagate e che forse è il caso di dare una seconda chance a queste cose hai ragione infatti stiamo scherzando Enrico hai fatto benissimo a sottolinearlo e a parlare di Vizio di Suori e niente basta buonanotte amiche e amici della notte piano piano sottovoce come piace a noi come piace a noi ciao Enrico in realtà il meister mazzurro della situazione che è sempre lui che è di notte o gli articoli in effetti si ma non solo è che di notte vive anche di notte cosa? di solito arriva in chat verso l'una e mezza mezzanotte la mattina arriva tardi cioè proprio vive di notte si si secondo me c'è il doppio lavoro sono Batman ragazzi esatto non mi sarei aspettato nient'altro che quello un eroe per reazione va bene su questa grande cazzata salutiamo il Tribuzio ciao Tribuzio levati dal cazzo comunque vedevo e porto anche i saluti direttamente dei messaggi di Simone Colistra sulla chat di Youtube assolutamente sì non siamo solo noi i redattori di Cinefax Cinefax ha una lunga rista di redattori e collaboratori quindi quelli che avete visto stasera nella prima tranche e in questa seconda sono una parte esatto sono una parte esattamente allora raga visto che l'ho chiesto anche a coloro che erano presenti prima di voi lo chiedo anche a voi impressioni sulle nomination agli Oscar uscite oggi? la prima impressione è che io odio la vita perché una buona parte di questi film tipo qua in distribuzione c'è scritto c'è un dinosauro che fa quando tu vai a cercare ma quando lo distribuite tranne Nomadland che dovrebbe arrivare su Disney Plus ovunque però Minari e altri film ho visto che proprio la distribuzione internet mi ha detto no non mi ha motivato quindi alcuni vorrei vederli alcuni sono troppo contento che siano lì anche se Manco idea che non prenderà niente ho sospetti ha ragione Camegna comunque in che senso ha detto che mancano la precedente ah ok ha sempre ragione io so che Alessandra sarà d'accordo io mi sono veramente annoiata di vedere i film a casa e ho notato che ne ho visti ne ho visti molto pochi anche se magari alcuni tra quei pochi che ci sono sulle piattaforme online io ne ho visti anche pochi di quelli cioè quest'anno proprio è stato un disastro mentre quando sono aperti i cinema io vedo molti più film paradossalmente quest'anno potevo vederli a casa ne ho visti di meno perché stare a casa proprio non ce la faccio neanche poi è proprio un peccato sarebbe stato un anno pienissimo di filmoni cioè prima che ci chiudessero il lockdown c'era Emma e Dilda in sala poi adesso sarebbe dovuto arrivare a Another Round di Winterberg proprio un periodaccio per chiudere i cinema potevano chiuderli l'estate non è vero ci hanno chiuso anche l'estate è stato un annone di cinema come abbiamo visto con la top 8 dei migliori film dell'anno c'era stata tantissima roba interessante tantissima roba che aveva anche una distribuzione che invece purtroppo ha avuto poca possibilità di essere vista perché è capitata nell'anno sbagliato c'è stata un po' di paura all'inizio perché a inizio pandemia non sapendo come si sarebbero comportati con distribuzioni regole tutti hanno detto agli oscar va solo sonic cioè tutti hanno detto agli oscar tutte le nomination anche i costumi io avevo fatto un meme dove c'era margot robie con tre oscar in mano così che andava a casa così perché ha detto è un disastro cosa viene fuori però per fortuna hanno un po' allargato le regole temporaneamente un po' tanta bella roba perché alla fine hanno inserito una marea di cinema che solitamente agli oscar vede poche nomination cioè film un pochino più piccoli un pochino più indipendenti un pochino meno da grande pubblico infatti secondo me sono una grossa occasione per gli oscar anche per darsi un'apertura su un mercato che solitamente tocca un po' meno io ho un rimpianto specifico che però non è colpa dell'academy per una volta bisogna dire che l'academy non ha fatto niente di male che è favolacce è stata una scelta suicida è stata una scelta suicida o secondo me sarebbe stato più favoloso anche secondo me anche secondo me anche secondo me prima cassa vai cassa dicevo io non ho problemi a dire che Pinocchio mi è piaciuto meno di favolacce sicuramente sarebbe stata una scelta più semplice rispetto a favolacce diciamo che tra tutte le scelte possibili notturno è stata proprio una scelta suicida cioè una scelta che veramente aveva pochissime possibilità poi si poteva rischiare di più con favolacce rischiare di meno con Pinocchio rischiare ancora meno forse come volevo nascondermi però c'erano tante possibilità si è scelta proprio quella tipo Boris questa roba deve andare male come Medical Dimension è vero bene non andare male no ma è vero su Pinocchio la cosa che io ho trovato assurda è stata perché quando è uscito tipo qua Irlanda UK è uscito quest'estate quindi io l'ho visto al cima quest'estate per quella finestra che i cinema erano aperti e poi ho visto le reazioni sia negli Stati Uniti sia qua i giornali l'hanno trattato The Guardian e tante altre testate l'hanno trattato benissimo è piaciuto a tutti negli Stati Uniti quei pochi andando in pagine Facebook forum quel poco pubblico che lo ha visto è rimasto entusiasta del film cioè quindi quei pochi che sono riusciti a vederlo hanno detto no ma che bello non avevo mai visto una cosa non è come quello di Disney tutta una cosa diversa tanti che magari conoscevano solo ed esclusivamente quello di Walt Disney non avevano idea di quanto fosse diciamo dark il romanzo di Collodi e quindi è stata una roba che ho detto cavolo mi sono accorto questa primavera Parigi appunto era stato pubblicizzato tantissimo all'inizio della primavera quindi a febbraio marzo c'erano cartelloni ovunque sui pullman veramente attendevano moltissimo e la cosa tristissima era che poi a maggio c'erano ancora quei cartelloni con Pinocchio perché non era mai potuto uscire purtroppo però era veramente atteso si vedeva che tristezza qua ci arriva una domanda da Simone Brunelli che chiede ad Aledio quanto è nota la storia di Pinocchio nel mondo questo è uno dei tanti problemi della nostra cultura è una cosa che io so già che Adriano Mesa appena tocco questo argomento salta su come una molla spacca tutto perché noi veicoliamo malissimo la nostra cultura sia per quanto riguarda romanzi e soprattutto per quanto riguarda il cinema nel senso che un botto di gente pensa che Pinocchio sia di Walt Disney non ha idea che sia un libro scritto da un romanziero italiano come tanto cinema italiano all'estero quasi non esiste o esiste per tanti che sono fissati col cinema classico Fellini Antonioni che hanno studiato De Sica che hanno studiato effettivamente il cinema e che lo hanno visto c'è una percezione distorta della nostra cultura tante cose non arrivano proprio prendete un evento polarizzante come ecco io ho scapporto che Sanremo lo guardano in tutto il mondo io non ne avevo idea di sta cosa l'ho scoperto negli ultimi anni e la cosa che mi ha stupito è vedere le reazioni del pubblico che diceva ah ma in Italia si fa il rock come? in che senso? era proprio invitato Tozzi la sera della finale cioè ascoltato negli Stati Uniti in tutto il mondo lo conosco cioè si fa da tanto tempo il rock in Italia cioè alcuni dei cantanti ah ma perché quello di Sanremo è rock? sì da buono lì però nel senso noi sprechiamo tanto quello che è il nostro retaggio culturale anche guardate Favolacce guardate tanta altra roba Call Me By Your Name è andato tanto negli Stati Uniti ma io qua l'ho visto in una salettina di 40 posti poi dopo gli Oscar è arrivato tanto e quello come spesso capita un sacco di film anche da parte nostra ma perché siamo i primi a svilire i nostri prodotti a non pubblicizzarli a non sovvenzionarli a non farli partire perché l'Italia secondo me ha gli sceneggiatori ha i registi solo che il problema è che poi sono costretti a scappare all'estero i più talentuosi lo vedi che finiscono a Hollywood e varcano i nostri confini e vanno a lavorare da altre parti perché qua non vengono evidentemente aiutati a fare quello che vorrebbero fare probabilmente ma è sempre il solito vecchio discorso perché noi italiani dall'impero romano in avanti noi siamo stati sempre abituati a vivere in mezzo alla bellezza la bellezza a 360 gradi che sia artistica che sia naturale che sia culinaria e quindi noi siamo a sue fatti da questa bellezza e quindi non la riconosciamo più ne siamo talmente appagati ci viviamo dentro talmente dentro ogni giorno che non la riconosciamo più e quindi questo secondo me è il retaggio è quello che ci portiamo dietro da tanto tempo e che poi si ripercuote anche nel cinema ma poi a questa cosa vanno ad aggiungersi altri fattori di cui abbiamo parlato stasera o di cui abbiamo parlato per esempio nell'ultimo podcast il fatto che non esista un'educazione cinematografica in Italia che non esista quasi una vera informazione cinematografica in Italia e che quella che esiste fa clickbait clickbait diventa donna moderna diventa gossip diventa marcio e questo questo è il vero problema secondo me ecco una cosa curiosa che ho scoperto trasferendomi in Irlanda è che Montalbano lo conoscono tutti Montalbano è mondiale e questa è la dimostrazione che gli irlandesi sono gente pericolosa Montalbano non so perché la RAI Montalbano lo manda ovunque se tu vai in Alaska troverai un eschimo lì che sta in giro e gli dici scusi e lui italiano Montalbano sicuro perché lo mandano ovunque poi arrivano quelli dell'Ira e si fanno esplodere tutta colpa di Montalbano tutto solo per Montalbano per finire nell'episodio di Montalbano la vedo dura allora intanto salutiamo Daniele Paradisi che ci dice che abbiamo la Pausini in nomination e ti dirò per come è andata i Globe io la vedo anche tra le favorite per la vittoria dell'Oscar secondo me che sarebbe figo al di là del fatto che piaccia o meno la canzone sarebbe figo se la Pausini cesse l'Oscar io a livello umano le voglio tantissimo bene ci ho lavorato ho fatto il suo concerto a San Siro nel 2007 è stata una delle esperienze più stancanti della mia esistenza veramente professionale perché ha diluviato per due giorni di fila ed è stata una roba tremenda però lei è una persona splendida poi chi se ne frega della musica che fa io non ascolto la sua musica non ho mai comprato un suo disco ho il DVD del live ma perché ci ho lavorato quindi non è che però ecco mi farebbe piacere sarebbe figo se vincesse l'Oscar la Pausini ma infatti parliamo sempre del grande schermo ma a me se devo parlare di un rimpianto della sala anche la questione dell'audio che non è più replicabile se devo pensare a Sound of Metal come sarebbe stato in sala immagino sarebbe stato incredibile quel team un spettacolo sarebbe stato ovviamente uno spettacolo in sala tra l'altro noi abbiamo spinto su Sound of Metal da subito se posso menarmela un pochino quando ancora non lo cagava nessuno era uscito su Prime Video non ne parlavano non se ne sentiva parlare noi ne abbiamo parlato tra di noi in chat oh raga è uscito questo qua minchia l'ho visto è una bomba minchia l'ho visto è una bomba minchia l'ho visto è una bomba l'abbiamo cominciato a prenderlo tutto tutti ne abbiamo parlato nel podcast e poi è stato un passo da entrare nella top esatto è stato un passo da entrare dalla top è stato veramente io forse l'ho votata nei miei dieci se non vado errato io nei miei dieci l'ho messo di sicuro nei dieci l'ha messo Torise nei dieci sicuramente quindi un motivo in più per guardarlo per chi ci sta ascoltando e poi non mi ricordo che altro l'ho messo allora poi saluto Petra Pavsic avrò sicuramente pronunciato malissimo il cognome ma da uno che si chiama Yusufian concedimelo ne ho sentite tante vado sempre un po' a credito io a Washington DC ho visto la tv Don Matteo no se dai deve essere un'esperienza mista sapete qual è il problema cioè io a volte parlo con delle persone anche giovani che mi dicono ah io ascolto musica italiana ah che cosa ascolti Ramazzotti e io dico perché è di tutta la musica diciamo più o meno dalla nostra generazione quindi gli ultimi 20-25-30 anni non esiste praticamente nulla poi arriva Don Matteo ci sono dei problemi ci chiudiamo sul nostro mercato cioè ci chiudiamo su quello che funziona da noi e in realtà appunto non stiamo vivendo il momento di apice della cultura italiana nel senso di retaggio culturale della popolazione e quindi tendenzialmente ci chiudiamo su un mercato che è un po' falsato rispetto alle cose di qualità che vengono prodotte quindi sono un po' quello sì perché infatti se tu guardi anche lo storico dei registi che sono diventati famosi negli ultimi anni Sorrentino in Italia sì si parlava di questo regista però è iniziato a diventare grosso quando vabbè faccio Dismast di The Place con Sean Penn girato tra l'altro Dublino poi inizio a fare quell'altro Guadagnino Melissa P per lui da quello che ho visto che ho sentito dalle interviste per lui esperienza orribile litigato con Porta quello che ha capito produzione problemi casino se ne va fuori Tilda Swinton poi piano piano altri e poi arriva a un certo punto ora c'ha 2000 progetti negli Stati Uniti e tutti i grossi registi di ora alla fine come sono lì ma soldato ora without remorse cioè un regista italiano che fa azione con uno dei migliori sceneggiatori che c'è oggi che è Taylor Sheridan uno dei migliori attori che è Marco B. Jordan uno degli attori più richiesti esatto cavolo perché tutti non si buttano per terra per questo risultato incredibile dategli quello che vuole qualsiasi cosa perché da noi funziona una cosa diversa e quindi da noi tendenzialmente in sala va meglio un'altra cosa che diciamo c'è un pochino meno di qualità come può essere Muccino o compagnia cantante quindi per noi quello è il migliore cioè quello è il meglio che sappiamo produrre non quello che invece nel resto del mondo ci dicono guardate in questo siete bravi vi sta venendo bene ma perché poi noi siamo lo stesso pubblico che va che va a guardare quelle cose che i nostri registi fanno all'estero e ritornano qua cioè è un per me è anche un po' un lavaggio del cervello cioè io ti convinco che questo è quello che vuoi guardare ma in verità se io da domani produco certa roba il pubblico si gasa tantissimo cioè Avengers Infinity War lo potevamo fare con Cattivic Ratman Lupo Alberto cioè la gente sarebbe impazzita uguale cioè perché non c'è un film della Madonna di Ratman al cinema ma bene fatto con i soldi fatto bene con una bella colonna sonora o anche tipo Scorsese nel suo essay parlava di Alberto Sordi nei vitelloni diceva un attore meraviglioso cent'anni della morte di Alberto Sordi fanno la fiction cavolo gli Stati Uniti per fare la storia dalla nascita di Sordi scusate gli Stati Uniti per anche sono così vecchi io me lo ricordo quando ho avuto Sordi non so se lo sai Ale ma Sordi Sordi è stato distrattato mentre era in vita per più di una volta dalla critica e da parte anche degli spettatori italiani perché era un attorino cioè era uno da commedia Sordi eh lo so voi ve lo meritate Alberto Sordi non se lo meritavano ma io volevo dire che è entrato è entrato Roberto Mastromo che sta facendo un po' come John Travolta in Pulp Fiction che si gira e dice ragazzi sono entrato adesso non so che cos'è successo glielo spieghiamo cosa facciamo allora sì se è Roberto Mastromo o Mastromo o Mastromo 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 e ci sta ancora seguendo perché poi magari non ci sta più seguendo ha detto questi di che caso stanno parlando non lo so non mi interessa vabbè ma noi lo pensiamo esatto noi lo pensiamo c'è un bel crawl che passa in sovraimpressione Cinefax.it è sbarcata su Patreon un sistema di abbonamento mensile che prevede ovviamente anche qualcosa in cambio per voi che ci sostenete ci supportate e fate un po' vostre quelle che sono le nostre battaglie ovvero il non volersi piegare a questo sistema di informazione che premia il click piuttosto che il merito portando quindi un po' tutte le testate che guadagnano con i click a produrre merda perché purtroppo la merda il litigio l'odio le notizie futili il gossip fruttano molto di più di un approfondimento sensato di un articolo che parla di cinema e filosofia di un articolo mega lungo che ti analizza una trilogia come quella di Linklater e ti consiglia pure la birra con il quale gustarti al meglio i tre film di un approfondimento su una serie televisiva che prende in esame praticamente 50 anni di storia delle serie televisive di un articolo o di una top 8 che parla di film polacchi cechi sloveni angoliani di un articolo che ti parla e ti mette a confronto due documentari di cui uno su Amy Winehouse oppure ti mette ti prendi in esame i migliori cortometraggi documentari nominati agli Oscar queste cose le leggono in pochi interessano a meno e ovviamente che cosa succede cosa decide di fare il sistema non ti premia per un cazzo perché non premia il merito non premia l'approfondimento non premia l'attenzione verso il pubblico e il rispetto verso i lettori e gli spettatori queste cose vengono danneggiate siccome noi non vogliamo scendere a patti con la cacca e non vogliamo fare come gli altri chiediamo a voi di diventare i nostri sostenitori per aiutarci a combattere questo sistema di merda è molto semplice cioè proprio di una banalità quasi devastante gli altri che lo facciano pure che vadano pure avanti a fare quella roba lì che tanto ormai fanno più o meno un sacco se ci fate caso fanno più o meno tutte le stesse cose tutti i giorni tutto il giorno sempre gli stessi articolini sempre le stesse news sempre le stesse cagate le stesse robe ripetute 12, 15, 16 volte ma io mi chiedo ma dopo un po' la gente ma si romperà anche i coglioni tanto se vado di qua o se vado di là lei stessa magari se invece vado di qua trovo qualcos'altro e di qua vogliamo essere noi quelli che trovate andando di qua ovvero andando diritti per la stessa strada con un'idea e una linea editoriale permettimi scusami un inserimento chirurgico rapidissimo tu parlavi della cura dal punto di vista della verifica delle fonti e della della qualità contenutistica ma io vorrei sottolineare cose che molti utenti ma tante persone notano la cura per la forma cioè come vengono impaginati gli articoli l'utilizzo dei link le immagini che vengono scelte per gli articoli io so e lo sanno tutti e chiunque presta attenzione a queste cose te ha un'attenzione maniacale per le copertine per le immagini che vengono caricate e ciascuno di noi fa attenzione all'aspetto visivo degli articoli all'aspetto funzionale dell'articolo perché l'articolo è un servizio per chi lo legge quindi deve essere completo deve essere smart deve essere completo in tutto e per tutto nelle informazioni che veicola quindi non c'è solo il contenuto e la forma ma c'è anche tutta la costruzione tutto il resto i tag le immagini e queste sono cose a cui stiamo estremamente attenti sono anche cose che da altre parti è difficile secondo me vedere io mi guardo attorno è un livello di questo tipo io cavo un po' troppo il cazzo per le cover e l'impaginazione però ecco per buttarla anche sul più leggero una roba che ogni tanto noi condividiamo tra di noi e ci fa un sacco ridere ad esempio si è parlato tutti del nostro amico regista preferito di Fabrizio Zack Snyder della sua Justice League del suo cut quando c'era bisogno di parlarlo quando però un sito siti americani vengono fuori annunciato il minutaggio ufficiale è sei mesi che si sarà sono quattro ore sarà quattro ore e un minuto io ho guardato il computer e ho detto non è vero è Matrix sono Matrix ho detto questa cosa non è la realtà mi ha rapito degli alieni mi hanno infilato una sonda non so dove non lo voglio sapere e io sono attaccato a una ciabatta di una casa di un alieno e sto alimentando la sua Playstation 5 perché non è vera sta notizia non è possibile che tu hai pubblicato hai fatto anche una grafica perché questa cosa poi va su l'account Instagram l'account Facebook Twitter infatti ho fatto le grafiche diverse per dire che il minutaggio sarà di quattro ore e un minuto è ufficiale e tu dici ma ufficiale cosa? ma perché non ti è ufficiale quando fai sta notizia perché non arriva l'FBI a casa e ti manda a Guantanamo per un anno vogliamo parlare della Lynch che sarà il nuovo 007 ne vogliamo parlare perché possiamo andare avanti per anni quindi credo che sia un gioco da Silvio Muccino che smetteva di recitare per diventare Falegname che credo sia stata la prima notizia che ho smentito sul sito perché io quando l'ho letta ho detto mi suona strana fammi controllare ho sentito addirittura l'ufficio stampa di Muccino ed era una cagata ovviamente era una stronzatissima da lì in poi direi che ne abbiamo sbufalate veramente tanto vi rendete conto quando vi pigliano per i fondelli quando ad esempio c'è ci sono dei siti questa cosa è stata importata perché noi dall'America importiamo le cose migliori tipo la truffa quindi ad esempio c'è un regista che rilascia un'intervista un podcast da qualche parte rilascia 3-4 dichiarazioni quelle 3-4 dichiarazioni siccome non ci sono notizie per la settimana cosa fanno? le dividono in compartimenti di 3-4 notizie Tarantino ha detto che notizia 1 Tarantino ha detto che ed è il paragrafo sotto Tarantino ha detto che Tarantino dichiara che che si contraddicono perché hanno smontato un discorso di 10 minuti e ve lo danno in 5-6 notizie e tu dici o Tarantino è vittima di un ictus e non capisce più dove si trova inizia a far fogliare cose senza senso oppure qualcuno a monte mi piglia per i fondelli è qualcuno a monte che vi piglia per i fondelli guarda l'ultimo caso non è successo di vederlo oggi ma solo perché ho ricevuto un paio di like a un mio commento di tempo fa perché se no altrimenti me ne sarei completamente dimenticato non faccio nomi ma chi frequenta facebook i siti eccetera eccetera sa perfettamente di chi parlo tempo fa era uscita una notiziona strillatissima ovviamente con titolo e copertina e testo di accompagnamento sui social entusiasmo appalate dicendo che la seconda stagione di Love That and Robots su Netflix sarebbe uscita il 15 marzo yeah abbiamo la data figata non vedo l'ora io ho visto il coso sui social l'ho detto ah cazzo fammi controllare perché questa effettivamente è una bella notizia cioè serie a cui tra l'altro a me è piaciuta sul sito trovate la mia recensione di tutti i cortometraggi un articolo da deficiente perché è stato veramente lungo da scrivere fammi controllare vado a guardare in giro e non c'è scritto assolutamente da nessun'altra parte cioè quella era una non notizia non esisteva niente ho detto boh mi sembra strano fammi controllare e come uno stronzo perché poi anche lì se io mi sento mi chiedo ma si sentiranno stronzi anche tutti gli altri che ci fanno caso sono andato a guardare la notizia da quella testata che lo aveva pubblicato che tra l'altro scriveva comunicato da Netflix sui propri social è andato a vedere sui social di Netflix e non c'era scritto niente né Netflix Italia né Netflix Stati Uniti su Instagram Facebook Twitter non era da nessuna parte sono andato a guardare la notizia lì e c'era un poster ed era il poster della stagione 1 con scritto 15 marzo perché la stagione 1 era andata in onda il 15 marzo 2019 e l'unica dichiarazione era stata quella di uno degli art director che aveva lavorato alla prima stagione che diceva che avrebbe lavorato anche a uno dei corti della seconda stagione e aveva nei propri social pubblicato il poster della prima stagione che ho scritto 15 marzo quindi cosa ha fatto questa testata italiana si è inventata da zero la notizia senza basi aggiungendo che era stata Netflix anche a dichiararlo ufficialmente sui social mettendo la data usando il poster di due anni fa e dando una notizia che era completamente falsa perché tanto poi male che vada io ho anche commentato dicendo ascolta ma da dove cazzo l'hai vista sta cosa non è vera non c'è scritto da nessuna parte ho verificato non è vero è falso hai scritto una cosa falsa porca di quella troia su un sito web hai scritto del falso perché non ci sono delle conseguenze per una roba del genere chiaramente chi mi doveva rispondere non mi ha risposto stamattina mi sono arrivati due like a quel mio famoso commento e infatti ho detto cazzo è vero oggi è il 15 marzo magari è uscita veramente Love Deaths and Robots su Netflix è uscita? no fine della storia perché tanto male che vada diciamo questo è un problema che ci facciamo noi è che io non dormirei la notte sapendo di aver pubblicato qualcosa di falso ma chi pubblica queste cose al massimo al massimo perché neanche sempre smentisce però intanto ha fatto tutti i click del mondo ha preso visualizzazioni sono a posto così è buono bene la giornata l'hanno fatta quindi non è vero che sei un rompipalle nel senso che quando scriviamo noi andiamo dal correggere la minima virgola in fase di di correzione insomma dell'articolo fino a verificare le fonti che è la parte più importante quindi diciamo l'attenzione rompo i coglioni sulla cosa ma perché quello è sempre stata una roba cioè lo facevo io già da solo quando scrivevo le cagate mie io leggevo in giro tizio si è rotto veramente una gamba su quel set sarà vero? e vado a controllare perché non mi va di scrivere delle robe che poi uno arriva e mi dice guarda che hai scritto una cazzata cioè ma è proprio anche amor proprio è proprio questione di di orgoglio di non lo so di dignità perché dovrei scrivere una roba finta prendendo per il culo la gente al di là del fatto che ci siano o non ci siano dei guadagni e degli introiti da questa cosa finta che racconta la gente anche se non ci fossero perché dovrei farlo? poi magari arriva qualcuno che controlla e mi dice zio ma hai raccontato una cazzata figura ci fai cioè non lo so non veramente mi spedisca la cosa oltre a sbilire se stessi che saranno anche fatti loro sbiliscono tutta la categoria cioè il problema è che instaurano un meccanismo per cui gli altri iniziano a copiarli questa notizia viene diffusa e poi è come se tutti quanti avessimo dato la notizia sbagliata non è vero noi non abbiamo detto era una cazzata e che non c'è rispetto non solo per se stessi ma anche per quello che si sta facendo che è una roba che è tristissima e che sta proliferando volete sapere qual è la la vera verità che è gente che si improvvisa perché sono persone che non hanno idea di che cosa sia una deontologia professionale del giornalista non hanno idea del fatto che dando delle notizie false creano creano veramente un disservizio alle persone fomentano magari in certi casi l'odio alimentano la confusione e danno un'immagine pessima di quello che è il giornalismo italiano che già è veramente a livelli imbarazzanti soprattutto quello di settore perché già quello generalista se vai a leggere i grandi quotidiani ci sono delle cose da mani nei capelli se scendi nelle riviste di settore che siano quelle musicali o cinematografiche o di altro tipo ragazzi lo sapete perché lavoriamo assieme ogni giorno è una palude è veramente una palude infatti uno dei motivi per cui secondo me è molto bello far parte di Cinefax è che il nostro è anche un contributo sì di Cinefax io continuo a dire Cinefax però era figo detto Cinefax è che in un certo senso noi diamo il nostro contributo non solo al cinema ma all'informazione quindi all'informazione cinematografica ed è bello sapere di essere perché sappiamo comunque noi leggiamo anche i commenti sappiamo di essere sostenuti da quella parte buona che vuole una buona informazione l'informazione quella vera e anche scendendo dal punto di vista professionale umano io mi domando ma nella vita di redazione se una cosa che possiamo dire tra due probabilmente è il fatto che siamo orgogliosi di tutto ciò che viene pubblicato insomma da noi dai nostri colleghi e immagino questo sistema di ripetizione veramente a catena di montaggio siamo tutti sgregati mi domanda ma che tipo di insomma di orgoglio c'è anche a livello professionale tra colleghi intendo più faticoso lo trovo meno motivante infatti io accetto un commentario proprio di gente che si spaccava di questo meccanismo e che iniziava a raccontare un nuovo modo di fare informazione e dire dobbiamo iniziare a cambiare il modo di rapportarci con il nostro pubblico per cercare di cambiare il nostro pubblico proprio perché più sviliamo la nostra professione più la gente sarà sempre meno incline a fidarsi di noi e meno incline a leggerci e meno incline a scegliere una cosa fatta con un minimo di qualità in più rispetto a una cosa fatta con meno qualità che magari costa meno quindi deve venire anche da noi in senso da chi scrive quest'idea di cambiamento e diciamo tutti qua dentro siamo concordi nel fatto che bisogna fare le cose in un certo modo esatto ma siccome ora si sta parlando di cose che amiamo e siccome Teo ora è improvvisamente diretto da Refn e fotografato da Refn è tutto viola è tutto viola e rosso c'è buttiamo una discussione su qualcosa che amiamo tantissimo adesso è Vilnev adesso è Vilnev adesso è Vilnev io c'ho un Patterson io c'ho un Patterson qua sopra c'hai un Patterson c'hai un Patterson c'hai un Patterson sì qui nell'angolino dove sto cliccando con la penna se ci riesco ah giusto io inviterai a tutti a tutti quelli che ci stanno ascoltando e guardando di utilizzare le loro tastierone come insegnava Teo un tempo nei video di Cinefax per farci delle domande riguardo al progetto riguardo a Cinefax riguardo al Patreon riguardo al cinema generale quindi chiedeteci chiedeteci qualcosa che è bello mi viene in mente una cosa ma perché ok adesso sta succedendo mi viene in mente una cosa che mi hai ricordato senza volerlo Maze una delle cose diciamo che ci darà modo di mettere in moto il Patreon l'abbiamo già annunciato è l'app che non è l'app normale cosa? niente niente ma è un'app che ovviamente come il sito non è un sito normale anche l'app sarà qualcosa di particolare ma non solo se riesco a cioè se riusciamo a organizzarci meglio organizzare meglio il lavoro i tempi le energie da impiegare e tutto quanto non è peregrino pensare che io finalmente possa tornare ogni tanto a fare qualche video per il canale YouTube che non faccio da anni e non faccio da anni non tanto perché non c'ho voglia perché ho sempre avuto voglia ma perché sono lunghi da preparare sono lunghi da preparare perché devo verificare come dicevamo prima quello che vado a raccontare devo studiare devo approfondire devo prepararmeli devo girarli devo montarli devo fare le grafiche non è che c'è la gente dietro che mi fa le robe per me devo fare tutto io e ovviamente tutto questo tempo impiegato per i video su YouTube è tempo che tolgo al sito ai social alle revisioni al podcast a tutto il resto che è arrivato nel frattempo ma se riuscissi a gestire meglio il lavoro a demandare a delegare un pochino di più magari io qualche video per YouTube bisogna farlo anche perché mi divertivo un casino fare i video per YouTube e insomma quanto so c'era anche la gente che si divertiva nel vederli qui ad esempio c'è il Mace che era uno che li guardava abbiamo il Voice che non è al momento presente ed è incasinatissimo però fa anche comunque parte lui dei collaboratori del sito che mi raccontava che lui se li guardava con gli amici di notte facendosi le risate che è una cosa che a me fa effetto perché no cioè è una delle cose che potrei riprendere in mano in vista di ricominciare a fare i Cinefax on location che io li adoravo potrei anche esatto mettermi a montare ne ho ancora un paio tra l'altro da montare c'ho a Zabrisky Point a Zabrisky Point e non non mi ricordo anche perché due sono andati persi in quel famoso cazzo di furto del computer degli artisti purtroppo perché avevo quello del grande Lebowsky girato davanti alla casa di Larry che era una figata ragazzi anche perché a un certo punto la casa di Larry era inquadrata usciva al proprietario di casa incazzato e nell'audio della fotocamera si era ripreso ci ho detto guardi me ne vado incazzato nero e a me veniva quasi spontaneo rispondergli ecco cosa succede quando cerchi di foto e chi non conosce la scena meravigliosa avrei montato lui a un certo punto che usciva mi interrompeva il video perché a quel punto non è che potevo andare avanti sono dovuto andare fuori dai coglioni e giuro avrei montato fino a quel punto lì magari con una codina dopo che non avevo registrato ma avrei fatto però niente è andato via adesso è un mio falso ricordo o c'è un video dove alle tue spalle succede una cosa incredibile no non è un falso ricordo è quello tirato su Pulp Fiction nella via dove va a parcheggiare Bruce Willis per poi fare il giro da dietro e andare a recuperare l'orologio sul piccolo canguro io ho trovato la via anche perché Los Angeles è una città che è impressionante a parte essere grande come la Lombardia ma cambia una velocità stratosferica ci sono stato 5 volte in 10 anni e l'ultima volta che ci sono stato non c'erano già più le cose che avevo visto la prima quindi immaginate che Pulp Fiction è stato girato nel 93 94 non c'è quasi più niente del relocation dell'epoca e quindi trovare un qualcosa di riconoscibile nel film è stato un casino e ho trovato questa vietta in un angolino in un quartiere e io non sapevo che quartiere fosse quindi ho girato il video andatelo a vedere perché c'è su YouTube e c'è anche il dopo cioè il fatto di la cosa di cui mi sono accorto io ho girato il video tranquillo c'erano un po' di chicanos in giro soprattutto un bambino con la bicicletta con la cassa di musica messicana che andava avanti in tre che mi guardava niente ho girato a un certo punto ho finito ho tornato in macchina con la chiacchi siamo tornati a farci cazzi nostri eravamo in vacanza torno a Milano monto il video perché la cosa assurda è stata questa monto tutto il video poi finito il montaggio metto le grafiche eccetera prima di pubblicarlo lo guardo controllando bene che sia tutto a posto e in quel momento mi accordo mi accorgo che dietro di me per tutto quel tempo era successo un qualcosa di veramente tanto losco ma veramente tanto losco tipo scambi di stupefacenti cose nascoste e io ero lì con una cazzo di fotocamera che inquadravo e parlavo davanti a dire le mie cagate sul cinema e sui film a quel punto mi è venuto il dubbio ho detto ma scusa un attimo ma sarà mica una zona brutta questa qui ho googolato il quartiere di Los Angeles e i primi risultati su google googlando quel quartiere adesso mi sfugge ma nel video lo dico erano tipo fatte finta che fosse George Town anche se non lo è George Town Los Angeles ennesimo omicidio per strada George Town Los Angeles arretata della polizia sequestrati 50 kg di cocaina George Town Los Angeles ho detto porco zio ma no mi sa che non ero proprio in un quartiere tranquillo eri nel quartieraccio di Los Angeles ero in uno dei quartieracci di Los Angeles eri a Baggio di Los Angeles esatto quindi niente la cosa divertente è che ovviamente io il video l'ho pubblicato lo stesso nonostante me ne sia accorto tra l'altro dopo averlo montato perché poi mentre lo montavo neanche ci ho fatto caso non facevo caso a Italia quello che dicevo eccetera ma dietro di me intanto succede il mondo e io l'ho pubblicato e poi ho anche pubblicato il video spiegando che cosa era successo dicendo che probabilmente quello sarebbe stato il mio ultimo video perché essendo su YouTube era visto da tutto il mondo e magari quelle persone potevano anche sai mandare qualcuno in realtà sono ancora vivo quindi probabilmente quel video loro non l'hanno visto però ecco sì è stato molto divertente i Cinefest on Location regalano sempre delle cose belle un po' come il treno di Harry Potter in Scozia che per fare quella singola ripresa del cazzo siamo stati quattro ore e mezzo fermi ad aspettare il trenino che passasse non proprio eh in proprio dieci minuti però poi è venuto bene fighissimo abbiamo preso l'Ogors e espresso come si vede nel film quindi ecco queste cose qua sarebbe figo rifarle poi vabbè per gli On Location magari bisogna aspettare che riaprano i confini e che le regioni non siano più di un colore brutto ma se non sbaglio uno dei tier prevede anche come ricompensa la produzione di un video Cinefest dedicato da parte tua se non ricordo male assolutamente certo sì c'è di tutto abbiamo pensato di tutto per i tier sfogliateli e guardateli anche se non si potrà ricominciare così presto a viaggiare comunque almeno magari un po' prima apriranno le sale quindi qualche evento cinematografico lo riusciamo a organizzare infatti ci chiedono avete mai pensato di affittare uno dei tanti piccoli cinema che in Italia stanno chiudendo e fare le vostre rassegne cinematografiche si punta alle stelle si punta alle stelle ma magari poi non so se Simone era presente poco fa o non so se se ne è accorto in passato eccetera ma noi le proiezioni di Cinefax punto di tal cinema le abbiamo fatte e io raga non vedo l'ora di rifarle perché erano una delle cose più fighe in assoluto io ci voglio di rifarle ci voglio di rivedervi in sala ci voglio di riportare gli ospiti speciali che parlino di un aspetto particolare del film di fare il giochino con l'indovinello con il gioco a premi con la puntata speciale del podcast registrata live con voi e vogliamo fare sì queste cose cazzarola il cinema al cinema è un altro dei nostri diciamo dei nostri punti fermi ecco teo metti il link del patreon pure qui sul tubo chiede una gran voce l'avevo scritto l'avrò scritto 700 milioni di volte e ne vogliono ancora una lo metto quando hai organizzato forse magari ok poi lo metterò anche nelle informazioni e tutto quanto siamo partiti oggi datemi no poi ragazzi un'altra cosa tenete presente che se siete entrati adesso e vi siete persi dei pezzi allora questo video rimane su facebook e rimane su youtube credo giusto teo sì certo questo per favore e poi nei prossimi giorni rimanete sintonizzati sui canali facebook instagram insomma tutto quello che è cinefax perché produrremo un editoriale dove racconteremo che cos'è il patreon e insomma per tenervi per riaggiornarvi per spiegare ancora e spingere ancora di più qual è questa nostra iniziativa esatto tra l'altro mi ricordava non mi ricordo chi adesso scusate ma l'ho appena letto nella nostra chat qui ah ecco grazie miotti che mi ha dato mi ha fatto l'assist un'altra delle cose fighe diciamo che potremmo raggiungere grazie a voi e grazie al vostro aiuto tramite patreon e mi sto divertendo un casino tra l'altro comunque adesso cambierei le luce sarà il fatto che potremmo anche diminuire le pubblicità che in questo momento vedete sul sito che esistono che sono gestite da un'agenzia esterna quindi ogni tanto mi arrivano dei messaggi e mi dicono Teo ma non puoi togliere quella Matteo ma perché hai messo la pubblicità della Volvo ma io non metto un cazzo non sono io che decido queste cose non funzionano così però ecco chiaramente in questo momento c'è diciamo la saprei come definirla la versione standard delle ads per quanto riguarda un sito come il nostro che sono praticamente pubblicità che trovate ovunque che trovate in qualunque altro sito ci sono quelle durante gli articoli ci sono quelle che compaiono in alto che dovete pigiare la crocetta per toglierle quelle che devi aspettare quelle normali che ormai vediamo su internet da tutte le parti però ecco se le entrate che arrivano dalle pubblicità vengono sostituite dal vostro supporto e dal vostro sostegno le pubblicità sul sito diminuiscono anche perché diventa più fruibile più bello a vedersi con meno ads sono io il più contento di tutti più ancora di voi ve lo assicuro a questo proprio non ci scherziamo teo giuli chan chiede ora appunto in grande ma un viaggio di gruppo con noi omuncoli covid permettendo con il cinefax on location questo è un progettone allora ragazzi io volevo fare io ho proposto un cinefax in agriturismo cioè cinema e gastronomia cioè si va in un bel agriturismo in toscana si fa una due giorni dove si parla di cinema e si mangia ma che bello però mi devo firmare col sangue lo firmo adesso questa cosa può essere una volta in toscana una volta in una masseria non lo so in puglia diverse tappe allora io non so se dovrei dirlo però in effetti magari a quest'ora è tardi posso anche dirlo io ho sempre ammirato un progetto di Dario Moccia che non so chi ci ascolta o chi tra di voi lo conosce ma credo che sia abbastanza noto insomma ha fatto anche il nostro ospito al podcast il caro Darione che è una persona meravigliosa che stimo tanto veramente perché si prepara è bravo è uno di quelli da cui prendere esempio è un profondo conoscitore del sollevante e organizza organizzava purtroppo a parte l'ultimo anno organizzava i video le gite i viaggi a Tokyo dove portava le persone in determinati posti con le sue conoscenze eccetera eccetera a me questa cosa sempre è sempre piaciuta ma sempre stuzzicato da un certo punto di vista e non nego che una delle mie purtroppo tante poi chissà se vivrò a lungo per riuscire a realizzarle tutte però una delle mie idee era proprio quella roba lì cioè nel senso organizzare dei tour non per fattare Tokyo nel senso però in alcuni luoghi carichi di location cinematografiche magari importanti interessanti di quello chiaramente me occuperei io ce ne occuperemo noi cineflex.it faremo vari tour vari pacchetti per fare sì una sorta di viaggio alla scoperta delle location un famose sarebbe una figata stratosferica teo è il nostro nuovo Elon Musk dell'informazione cinematografica perché? è il visionario è un complimento no no non è vero diciamo che questo sarebbe una figata stratosferica clamorosa solo che diciamo che siamo già due tre step oltre ora dobbiamo continuare a mettere la base noi dobbiamo preoccuparci di riuscire a sopravvivere e crescere nell'immediato poi a me piacerebbe tantissimo fare quello che hai detto tu teo e sarebbe sarebbe inimmaginabile poter avere veramente uno scambio così totale con la community per parlare di cinema per vedersi per visitare posti sarebbe il massimo sì no c'è una cosa che sarebbe che dice potresti farle in quel quartiere a Los Angeles ecco magari quello lo eviterei così no una cosa che è molto bellina da fare allora noi andiamo i festival siamo andati tutti insieme a Cannes c'è in programma appena sarà possibile di riandare di nuovo però sarebbe bello anche riuscire a documentare un po' di più quella che è l'esperienza del festival perché è una cosa che è divertente far passare anche il fatto che sia una cosa abbastanza massacrante cioè io ricordo giornate in cui erano tipo le 4 del mattino e Teo mi guardava e mi diceva Alessandro sono le 4 e io digitavo qualcosa non mi ricordo cosa e io lo so devi andare a letto adesso guarda cioè e poi tipo io ricordo di aver chiuso il laptop di essere svenuto sul letto a un certo punto e poi ricordo questa scena la mattina dopo tipo alle 7 di Teo che è saltato non si è svegliato è esploso dal letto è esploso dal letto si è vestito non si sa bene come è un po' come il caso Zanfretta lui è stato posseduto da una forza aliena si è ritrovato in coda al cinema per vedere The Lighthouse perché la proiezione la proiezione iniziava alle 8 e 45 più viginava c'era un tempo di merda la sera prima avevamo fatto tardissimo non mi ricordo quale altra proiezione di mezzanotte erano andati a letto appunto alle 4 alle 5 ma non mi volevo perdere l'anteprima mondiale con il regista e gli attori ed è un film che diciamo mi ha un po' accompagnato nel tempo quello lì esatto io ho fatto bene perché tipo anche per raccontarvi cose come io e Teo dopo la la prima di Too Old to Die Young di Refn che ci siamo trovati fuori a un orario improponibile guardandoci per dire ma che cazzo abbiamo visto comunque dobbiamo mangiare io e lui in smoking fighissimi con una baguette di 70 metri in mano così che camminavamo verso casa e mordevamo sto panino in mezzo a can perché era l'unica cosa possibile immaginabile e sono racconti di festival assurdi interessanti perché uno da fuori vede ah Can Teo sdraiato sopra non lo so Jennifer Lawrence no non è così probabilmente è svenuto per terra digitando una recensione questo è quello che succede quindi poi ti rendi conto tutti per terra cercare il wifi del festival a scrivere di qualcosa mangiando un'unghia quindi ti rendi conto che i fischi e gli applausi oppure appunto i boo vengono da gente esaurita alla fine di un festival brutta insomma ti prendi un po' così esatto raccontare cose come ad esempio per me è stato bellissimo andare al Toronto Film Festival sarebbe bello andare noi per potervelo raccontare perché è uno di quei festival che proprio vive di condivisione del cinema con il pubblico più che con direttamente chi ha detto i lavori sono tutte cose che è bello portare perché non sono veicolate benissimo e molto spesso non sono del tutto veicolate questo è il punto è che anche tanti festival tra virgolette minori che poi nel corso del tempo sono cresciuti come può essere il Ravenna Horror Film Festival che hanno seguito il cui presente Sebastiano Miotti e forse anche Fabrizio non ricordo comunque tutti il Torino Film Festival cioè Cinefax non è stato solo a Cannes o a Toronto Film Festival abbiamo seguito un po' di o a Venezia o a Roma o a Venezia o a Berlino insomma i festival più importanti cioè c'è la stessa Morena Biografia Film Film Festival noi seguiamo una pur non avendo finanziamenti di nessun tipo o comunque quasi già in due anni e mezzo io l'altro ieri sera ho guardato la lista stilata da Morena rispetto ai festival qui siamo stati presenti e che abbiamo coperto io sono rimasto all'ibito ho detto ragazzi in due anni e mezzo abbiamo coperto tutto la leggo velocemente Glocal Film Festival Festival del Cinema di Berlino See You Sound Torino Film Festival Ravenna Nightmare Film Festival Visione Fantastica Festival di Canto Toronto International Film Festival Short Film Festival Film di Peso Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia Biografia Film Festival Ventotene Film Festival Super Cali Paris Film Festival Cinefax Quarantena Film Festival che è il nostro Horror Film Festival Festival del Cinema di Roma We Are One A Global Film Festival Dublin International Film Festival Brixia Film Festival New York Film Festival La Guarimba Film Festival Fish and Chips Film Festival International Erotic Film Festival che è il Fish and Chips Bari International Film Festival e il Milano Film Festival quindi giusto un paio quanti sono in tutto? non lo so non li ho però mi sembrano un paio un paio tolto il nostro chiaramente tolto anche il Brixia che tra l'altro chissà se qualcuno del Brixia ci sta guardando o ci guarderà ma saluto con tanto caro affetto perché gli organizzatori del Brixia Film Festival che si tenne a Brescia sono quelli che mi vollero come giurato dei folli quindi della giuria di un festival cinematografico mi sono trovato a vedere dei pazzi scriteriati ho fatto la serata a Brescia è stata anche una figata chiaramente anche quello avrebbe dovuto ripetersi ma quindi sarà rimandato sono dei folli spero mi vorranno ancora non lo so magari no però ecco a me piacerebbe ciao e allora Mattia Gardina dice puoi salvare la live la recupererei volentieri nei prossimi giorni rimane sul canale rimane sia su Facebook sia sul canale YouTube come tutte le live che abbiamo fatto tramite Streamyard quando facevamo il podcast magari salta magari salta il passaggio del pipotto politico di Enrico quello lo lascia lo tagliamo lo tagliamo quello lo tagliamo allora a parte il fatto che c'è una vecchia un vecchio commento incredibile che faceva notare che il Mace a un certo punto ha riso a una battuta del Dio Guardi e questa cosa rende questa live storica chi? ma andrei avanti eh no ormai basta sono cadute le maschere in realtà tu ce l'hai ancora addosso però sono cadute sono cadute musicology76 mi chiede mi sono sintonizzato solo da poco ma qual è la novità che riguardava Telegram ricordo che ne parlasti la novità che riguarda Telegram è che da oggi oltre al canale Telegram che è semplicemente in uscita ovvero che sono io che vi pubblico le cose che scono sul sito esiste anche il gruppo Telegram ovvero la chat dove trovate beh trovate queste belle facce che vedete qui e trovate anche le belle facce che avete visto prima o magari non avete visto e anche quelle che non avete visto perché ci sono anche altri redattori e altri redattrici che non hanno partecipato alla live per impegni personali scelte legate a religione o culto no? no? non è vero per impegni personali va bene per impegni personali e quindi il gruppo la chat dove si chiacchiererà in entrate e in uscita cioè non è solo il canale che va fuori e basta ma si chiacchierano tutti quanti insieme è chiaramente riservato ai Patreon dal Goonie in su perché se ancora non siete andati a vedervi la pagina Patreon di Cinefax.it dovete sapere che i Tear sono pensati e anche le descrizioni sono pensate a livello cinematografico perché potete decidere di essere un Jedi un Goonie un Drugo un Goodfella una Iena un Guerriero o un Apocalittico che è proprio Apocalittico voglio vedere chi lo prende il Tier Apocalittico io vado a casa sua e mi prostro tipo davanti non lo prenderà nessuno mai solo che non ti riconoscerà nessuno esatto esatto quindi posso fare quello che voglio esattamente uno che fa così dice ma ma chi è questo? io andrei ancora Cinefax Tour Pietro Figura ci potrebbe portare in Russia ok Giovanni Senti che scrive l'unica puntata che ho salvato del podcast era quella al ritorno da Cannes che belli quei racconti dal rite cosa vuol dire l'unica che ha salvato le altre fan tagliare questo è un complimento ma mascherata cioè no è una critica mascherata da complimento perché cazzo vuol dire l'unica puntata che ho salvato del podcast ne abbiamo fatte 102 più di spesso siamo arrivati tipo a 130 e tu hai salvato una zio ma va bene ma no non avete capito lui se le ha ascoltate tutte 102 compresa l'ultima però quella che proprio gli è piaciuta se l'è addirittura scaricata per ascoltarla offline ah giusto ah ma ecco chi è musicologi perché ha scritto lo stesso commento sia su youtube che su facebook però su facebook sei scritto con il tuo nome e cognome mentre su youtube c'hai un alias e io ti sgamo che sei la stessa persona lo vedo hai scritto le stesse cose o hai copia e incollato alla domanda di qualcun altro oppure sei tu caro il mio Antonio Conzo che ci fa gli scherzi con i messaggi vocali su instagram maledetto maledetto è lui è lui e ci manda i trojan praticamente maledetto c'è un commento che si si lamenta e ci chiede approfitto del fatto che ho tante maestranze in live davanti a me per un parere ma secondo voi Netflix sta veramente per castrare gli account condivisi tra persone non conviventi eh sì così hanno detto facendo un controllo visto che sul regolamento che tu firmi quando ti iscrivi quando fai l'abbonamento c'è scritto che le persone l'abbonamento si può condividere all'interno dello stesso nucleo domestico non familiare domestico quindi se la tua mamma vive a Parigi tu vivi a Milano e il tuo papà vive a Miami non è che siccome siete insieme allora usate tutti lo stesso non si può formalmente che lo abbiano fatto fare finora lo abbiano tollerato abbiano fatto finta di niente è un discorso ma non si può fare così come non si possono usare tutti i vari servizi che fanno i fighi e dicono ehi passa da noi così trovi degli sconosciuti con i quali condividere l'abbonamento perché solo tu sei furbo non si può formalmente non si può che poi facciano finta di niente perché a loro serve fare tanti abbonamenti è un altro discorso evidentemente adesso si sono rotti il cazzo e cominciano a far valere le regole poi magari no poi magari è una bolla e in realtà fanno finta fanno bau bau e poi in realtà poi ristanno zitti però magari un po' di gente si caga d'osso ma in realtà non si può allora Teo abbiamo una ascoltatrice barra fan barra lettrice disperata perché dice che ci ha mandato una posta del cuore quest'estate ma non è mai stata sentita cosa ha sbagliato lei vuole sapere vuole mandarci dice che è qualcosa di divertente benedicta serafini ma forse non ha fatto abbastanza complimenti a Paolo perché no io tanto non li ascolto prima di mandarli in onda quindi non ho un'idea veramente di che cosa benedicta riscrivimi basta che mi riscrivi un ciao e il messaggio torna su io raga non è cattivere ma effettivamente cioè me ne arrivano tanti di messaggi su Instagram e su Facebook eccetera io cerco di rispondere a più persone possibili ma anche lì se rispondessi a tutti farei solo quello farei veramente poco altro in generale avrei anche poco tempo per mangiare no ragazzi se Teo non vi risponde non vi offendete cioè non risponde a noi praticamente è difficile è difficile comunicare fra di noi in redazione quindi provate a immaginare che cosa succede quando trova a scrivergli qualcuno di esterno poi risponde perché Teo io l'ho conosciuto in questo modo l'ho contattato da utente e mi ha risposto però ecco non vi aspettate dei tempi proprio ehi velocissimi perché non è così sai cosa a me mi frega anche il fatto di avere su Whatsapp Telegram le mail un sacco di altra roba le anteprime sul telefono quindi magari mi arriva il messaggio vedo l'anteprima leggo e dico vabbè poi rispondo però poi l'altra persona non sa che io l'ho letto quindi vede che non l'ho neanche cagato e io poi magari mi dimentico di rispondere e dopo due giorni quello là mi dice ascolta ma cazzo t'ho scritto e io mi ero già dimenticato anche di averlo letto ma avevo letto solo l'anteprima quindi non arrivano le spunte ma questi sono anche un po' cazzi nostri saluto Marco Montanari che mi chiede se conosco il Bellaria Film Festival ma io ci ho partecipato zio al Bellaria Film Festival c'ho a casa i cataloghi anno 99 2000 2001 ero al Bellaria Film Festival con un mio film dove avevo fatto o l'operatore o il direttore della fotografia dipende dall'anno quando ancora giravo film indipendenti si parla del play quando c'era la lira c'era veramente la lira il film il femminicidio era ancora accettato il delitto d'onore era ancora buono Bellaria Bellaria post meraviglioso sul mare tutti fighissimi e tra l'altro mi ricordo che a uno di quei festival ci fu l'incontro tra Morgan e Asia Argento che si conobbero lì e se ve la voglio dire tutta se ve la voglio dire tutta a parte aver fischiato noi tutta la sala il film Scarlet Diva Asia Argento aveva portato una clip del film in anteprima che non era ancora uscito ci ha fatto vedere una roba inguardabile ci sono stati dei fischi dei bu questo è un aneddoto che mi piace sempre poi si sono accese le luci e lei che era in prima fila si è alzata in piedi con il suo cagnolino in braccio dicendo per noi siete tutti dei pezzi di merda adesso voglio vedere se avete il coraggio quelli che hanno fischiato hanno fatto bussi si alzano in piedi e ci siamo guardati tra di noi va bene ci siamo tutta la sala si è alzata in piedi a quel punto lei ci ha guardato e scoppiata a ridere fa beh però si ti dice si mi erano lo stesso ridendo la sera stessa la parlava con quella gocce da tossica che chiede gli spiccioli all'epoca un po' si io voglio bene la madonna d'aggia giuro io veramente le voglio bene la sera stessa c'era una festa e il Carella stava parlando con Asia Argento Giorgio Carella ovvero uno dei nostri collaboratori ogni tanto ospita il podcast un mio grandissimo amico di vecchissima data ma è un playboy lui ormai abbiamo capito il Carella quando che cosa è successo è arrivato un organ che ha detto una cosa all'orecchio ad Asia Argento e se l'è portata via il Carella è rimasto lì come un pinguone che le stava parlando di lavoro non l'ho più vista e la notte stessa quando noi stavamo rientrando in hotel dopo aver bevo fatto ballato cazzi mazzi eccetera abbiamo visto sul lungomare di Bellaria Morgan e Asia Argento mano nella mano nella notte che passeggiavano da soli poi da lì in poi è storia nota a tutti però ecco il film festival ha visto la nascita di questa relazione un po' punk nella scena italiana lei non sapeva perché Carella ancora all'epoca non era famoso non aveva ancora interpretato il ruolo di Jimmy Lannister in Game of Thrones perché per chi non lo conosce di chi ci ascolta è uguale a Jimmy Lannister allora visto che ho parlato di scene strane che succedono quando magari uno alza un po' troppo il gomito mi sembra giusto arrivato il momento di salutare il nostro caro Emanuele Antolini il collegamento è facile ogni riferimento come potete immaginare è un nostro in-game joke molto recente tra l'altro releghiamo tutta una sfera a parte esatto quindi Emanuele grazie mille dalla Fonda a Verona per te un cuore che poi magicamente diventa così visitate il quattro un abbraccione Emanuele grazie ciao ciao allora vediamo quando riferete i podcast live ci chiede Elisabetta Bettaglio che tra l'altro saluto con tanto affettissimo perché è una di quelle che ci segue come una disperata ci segue veramente spessissimo manda le story su Instagram mi manda i commenti quindi ho ben presente ah parentesi quando voi mi scrivete eccetera io bene o male nonostante ormai siete svariate decine di migliaia chi interagisce tanto io so perfettamente il vostro nome non crediate che non sappia con chi ho a che fare nel bene o nel male chi è che aveva un vero C-Raptor in casa o si è sentito il verso di un vero C-Raptor fortissimo credo sia stato lo stomaco del Mace Elisabetta Bettaglio me la ricordo anche io è una del sindacato di Cinefax vero? è Free Peli io leggevo in chat che lo scriveva insomma allora lei ci chiede quando rifarete i podcast live allora i podcast live si sono interrotti dopo una decisione mia e di Paolo perché purtroppo la qualità dell'audio e trattandosi di un podcast era la cosa più importante non era sufficientemente buona per permetterci di continuare quindi abbiamo sacrificato il video per come si dice per il bene dell'audio e quindi difficile che li faremo però se tu vai a cartabellare tra i tier del Patreon qualcosina che riguarda il podcast c'è ovviamente perché abbiamo messo dentro tutto quanto tutte le cose della galassia Cinefaxosa leggete bene leggete bene Teo posso posso secondo te abuso della pazienza dei nostri spettatori e utenti se oltre a presentare il Patreon che presuppone già la richiesta di un supporto ne chiedo un ulteriore un altro dimmi io volevo ribadire l'importanza e la bellezza della struttura del sito perché il sito vuole essere social e quindi è meraviglioso vedere come spesso su articoli magari che possono essere controversi o che possono dare adito a una contrapposizione fra parti i commenti più tossici più brutti e più schifosi sono tutti su Facebook poi vai sul sito e nei commenti trovi la gente che commenta e ragiona e discute in maniera posata quindi io vorrei chiedere a chi ha voglia di magari dice io non posso supportarvi economicamente vi supporto in altra maniera io vi chiedo createvi un account su Cinefax.it e venite a commentare all'interno del sito perché è quello il core è quella anche l'idea di Cinefax.it ed è soprattutto un modo secondo me per parlare in un ambiente più protetto perché davvero tante volte lo schifo viene fuori su Facebook sul sito queste cose non succedono e soprattutto ci motivate perché commentando un articolo magari di un autore di un redattore che ha scritto di un argomento particolare di nicchia l'ha fatto con zelo con cura con il cuore con la passione ma voi non avete idea di che propellente sia un commento o un apprezzamento quindi anche questo vorrei provare a chiedermi chiedervi sperando di non abusare della vostra pazienza di darci una mano anche nei commenti nelle condivisioni fate conoscere il Patreon parlatene con amici un po' riparendoli voti fate capire cosa stiamo cercando di fare qua ecco tutto qui poi semplicemente entrando e leggendo gli articoli andando sotto a leggere i commenti come diceva Mace facendo proprio un confronto si vede che c'è proprio la voglia di scambiarsi opinioni non è un un difendere con spada tratta un film è proprio uno scambio di opinioni e si discute sui punti diversi magari delle volte diametralmente opposti ma pacatamente senza aggredire attaccare c'è voglia diciamo solo dei dei commenti costruttivi non c'è nulla di distruttivo e quello è il bello ma infatti Stefano Lucariello sottolinea e dice ma la community di Cinefax è sempre stata di altissimo livello già sul gruppo Facebook ecco l'idea è anche quella di sul gruppo Telegram di provare a ricreare quella socialità quella che c'è ancora in parte sul gruppo di Cinefax dico bene Teo assolutamente sì quindi vogliamo continuare a portarvi qualità a aumentare la possibilità di creare contenuti ma soprattutto dare spazio a voi per avere uno scambio vero assieme cioè voi date a noi noi diamo a voi e basta questo è quanto io l'ultima cosa che vorrei sottolineare prima che chiudiamo Baracca e Burettini poi mi taccio e vi lascio parlare voi e io vi invito a pensare a ciascun redattore che sono 20 e più i collaboratori veramente come a degli archivi alcuni dei quali con un range di un repertorio filmico e di competenze di conoscenze storiche tecniche davvero di background di film visti alcuni dei quali sono veramente spaventosi cioè noi poi per facilitare la comunicazione e per raccontarci meglio diciamo che che Lorenza è quella esperta di cinema asiatico io sono quello di Herzog il Dio Guardi è quello dei videogiochi ma non funziona così cioè ciascuno di noi da Fabrizio Sebastiano Morena eccetera eccetera sì abbiamo il cinema birra il documentario la filosofia però io poi con loro mi ci confronto quotidianamente e alcuni di loro sono imbarazzanti hanno delle competenze che aspettano solo di essere depungolate quindi provate a sfruttare voi utenti e voi che vorrete dare una mano con il Patreon aiutateci stimolate la nostra fantasia banalmente le foto noi ci divertiamo a parlare di argomenti diversi davvero di cose particolari buttateci gli argomenti chiedete cose vedrete che verrete ripagati con titoli con registi con movimenti con passione con mole con tutto questo è un articolo e poi abbiamo alimentato una memoria storica di quello che abbiamo prodotto insomma quindi magari può essere difficile trovare da nulla perché non è stato spinto in quel momento via social o qualcosa che invece sarebbe fantastico bello da leggere in quel momento e potremmo segnalarlo direttamente noi magari un articolo più vecchio che ormai è caduto e dimenticato tante volte ci capita anche tra di noi di ripensarci quindi possiamo essere di aiuto anche in quel senso assolutamente di nuovo anche perché tra una roba e l'altra siamo tipo più di mille una roba del genere eh sì due anni e mezzo abbiamo tirato fuori più di mille contenuti senza considerare le news cioè solo tra articoli rubriche e top 8 abbiamo passato i mille articoli che non sono pochi non sono pochi ragazzi soprattutto se considerate la cura e il livello medio di qualità che cerchiamo di tenere non sono per niente pochi quindi le potenzialità di Cinefax secondo me sono veramente illimitate e il problema grosso per il quale noi siamo qua a fare questa live è che manca un po' di supporto perché purtroppo siamo in uno stato che non ti supporta perché ne parlavo banalmente nell'ultima puntata del podcast io vi sfido a guardare i bandi ministeriali per il supporto alle attività editoriali digitali fatevi una fatevi una navigata così almeno poi non potete dire ah ma deriano tiracqua al suo mulino è esagerato siamo in uno stato che non ci supporta non c'è informazione non c'è educazione cinematografica e quindi siamo siamo da soli a combattere una lotta contro contro tanti poi scusate chiedo scusa non da soli ripeto ci sono altre realtà meritorie però siamo in pochi a combattere contro tanti quindi aiutateci cioè dateci allora io visto che stai parlando di lotte eccetera vorrei rispondere a una simpatica domanda di Michele Corti che ci chiede per quale film vi siete maggiormente offesi nel sentirvi dire che non è un bel film è una di quelle domande veramente design beh no è facile in realtà beh per me è facilissimo c'è nel senso allora due sono lì e quindi già se sono lì un motivo c'è gli altri non è ci metto poco a rispondere ecco a me è lì no lì vedi dai dai fate un giro rapido Morena e beh a parte così banalmente il cacciatore che è un altro film che io proprio ecco ma se non devo fare il nome insomma in particolare di un film più gettonato insomma è famoso il cacciatore banalmente qualunque documentario i documentari super bistrattati io quando io vado tanto a vederli al cinema perché il documentario è un genere cinematografico che anche esso va visto al cinema come qualunque tipo di film quando dico vado a vedere un film che film boh il documentario di Oppenheimer il documentario di Herzog il documentario di Asif Kapadia ma che è già si parte prevenuti poi magari dopo la visione o se capita quella rarissima volta che riesco a portare a vedere con me qualcuno che riesco a portare qualcuno a vedere un documentario con me oh che palle no ma che ecco diciamo che va un po' così delle volte però capisco anche che magari c'è una non c'è tanto allenamento nel vedere il documentario anche quello perché quando mai si vedono dei documentari in tv beh per fortuna Netflix sta andando un po' contro tendenza infatti io quello che apprezzo maggiormente di Netflix è la parte di documentari che delle volte tira fuori delle belle chicche però in televisione l'idea del documentario è quello sugli animali che poi fossero tutti i documentari della National Geographic sarebbe già una grande cosa oppure i documentari di musica che a volte danno su Rai 5 se non sbaglio ma tipo quelli che partono a luna di notte però ecco c'è una scarsa allenamento a vederli e non vengono proposti ecco perché io insomma ho trovato proprio il paradiso quando ho scoperto il Biografilm Festival a Bologna wow Rossella Di Giovanni dice che sogna un'amica come Morena anch'io io credo che mi sia offeso per attaccarmi ai documentari che appena ha detto Morena quando è uscito il documentario Jim e Andy quello di Jim Carrey sul dietro le quinte di Man on the Moon che lo consiglio se non l'avete visto su Netflix è straordinario sentire gente dire eh ma che stronzo Jim Carrey come si è comportato male sul set io ho detto ma tu non sei un umano sei un essere orripilante come fai a non capire cioè che lato che esperienza traumatica deve essere capitata da bambino per non arrivare a empatizzare con quello che ti dice il documentario adesso mi metto a piangere se penso al documentario no sto male io sono stato malissimo tutto il tempo perché è veramente è proprio umano come documentario non sta lui proprio mentre parla capisci che non sta fingendo niente di quello che sta dicendo capisci perché lo ha fatto e cosa ha significato per lui cioè una cosa a livello artistico ma proprio umana e personale enorme perché parla anche tu puoi essere anche un panettiere e non avere nessun appiglio col cinema ma col documentario lì parla anche al panettiere non è quello è stato uno l'altro vabbè Malcolm & Marie non lo caccio fuori più perché è stato mi ha fatto male non tanto il pubblico perché io il pubblico lo posso capire perché è un film che non è il cinema lo posso capire che Malcolm & Mary non lo capiscono però mi ha fatto mi ha fatto male chi parla di cinema che se ne è venuto fuori dicendo no ma la storia d'amore non funziona io ma cosa di cosa stai cioè come se un critico avesse detto Drive non è granché questa questo parallelo sul fatto che portare l'auto in assistenza dal meccanico sotto a casa non dal concessionario di fiducia non mi piace e tu scusami ma non parla di quello il film non è quello il film quello è il primo livello vai oltre togli la macchina beh ma qui siamo a livelli nel senso sono 25 anni che la gente dice che che non ama Titanic perché la storia d'amore è ridicola è ridicola come se Titanic fosse un film girato su una storia d'amore ma quindi vabbè no ma ma il cinema che tratta da miei romantici è una piaga è proprio una piaga il fatto di essere valutato in base a quanto quella storia d'amore sia sensata secondo quell'utente lì o il fatto che sia melenza è proprio una tristezza perché vedi film fantastici come i before o cose del genere distrutti perché sono solo storie d'amore e magari troppo coinvolgenti è proprio una piaga del cinema romantico attenzione che qua scatta scatta l'invettiva di Fabrizio quale film ti capta sentire una roba del genere Cassa? cosa? per te quale film ti ha fatto più male no vabbè io sei maggiormente offeso sono abbastanza sicuro sono abbastanza sicuro perché è il settimo sigillo ero un ragazzino lo guardai con la mia ex all'epoca eravamo solo io e lei a guardare il settimo sigillo effettivamente non lo gradì tantissimo forse non è all'occasione migliore però questa cosa mi fece del male effettivamente mi fece molto molto male ma questa è un po' come potrebbe essere stata una scelta non felice questa è un po' come quella di Emanuele che per il primo incontro ha portato una ragazza a vedere Kino Dontas che c'è voluto lui io gli ho detto ragazzo mio non lo fare cioè scegli qualcos'altro non ha voluto sentire ragioni è andata così credo che non l'abbia più vista ma è la prima volta che lo vedevo io non l'avevo mai visto il settimo sigillo voi lo sapete sono appassionatissimo di Bergman lo amo alla follia però è la prima volta che lo vedevo e io rimasi estasiato da questa cosa invece la persona che era accanto a me si addormentò e questa cosa mi fece effettivamente molto molto male me la ricordo questa cosa mi è successa con The Tree of Life io proprio in quel momento mi sono girata ho visto la persona che avevo a fianco e proprio mi come cosa mi stai facendo tu non lo sai e va bene però comunque si tratta magari di qualcosa di un po' impegnativo volendo io invece stavo pensando al fatto di la cosa che fa più male o che mi fa più male è quando penso a The Walk per dire che mi appassiona particolarmente e la maggior parte della gente che lo vede semplicemente lo trovo così sì bello non capisce perché glielo consigliato che cosa ci trovano cioè finché insomma difendi il capolavoro allora lo fai quasi come insomma eroe cinefilo però riguarda proprio una cosa tua che ti guardi attorno e sei veramente solo te che ti trovi qualcosa ti fai un po' di domande a quel punto e fa male il doppio come l'altro che mi diede proprio una delusione forte c'era una volta a Hollywood c'era un sacco una quantità enorme di gente che mi ha detto a un certo punto sono andato via dal cinema perché non era il solito film di Tarantino e mentre io stavo per parlare un altro no ma hai sbagliato poi a un certo punto diventa il film di Tarantino perché quello fa questo io ma non gli dare retta non gli dare retta la sua follia io devo fare un mea culpa incredibile su quei film lì io mi ricordo di aver visto lo ricordo lo sappiamo di aver visto l'anteprima italiana esserne uscito titubante aver anche scritto quindi c'è una prova c'è una prova scritta del mio pensiero sul film che ho completamente rivalutato perché poi me lo sono comunque comprato in blu-ray nonostante non mi avesse entusiasmato perché vaffanculo si comprano i film si sostiene la roba che si ama me lo sono rivisto e la seconda volta che l'ho visto ho detto ma cazzo ma non è il film che ho visto l'altra volta mi ha visto un bel film aspetta un attimo c'è qualcosa che non mi torna quindi dopo qualche giorno ho deciso di farlo vedere la chiacchi che non l'aveva visto né la prima né la seconda volta e la terza volta ho detto ok questo è veramente un cazzo di bel film ma perché la prima volta non mi aveva convi cosa è successo e niente è uno di quei film che veramente ogni volta che lo vedo mi piace più della prima volta il problema grosso è che scrisse la recensione dopo la prima volta per fortuna sul sito abbiamo anche la recensione del qui presente Alessandro Dioguardi che invece non si fece non si fece uccellare dalla prima impressione già la prima inquadrò inquadrò benissimo la cosa ma sei andato fuori te Matteo qual è il film che ti ha proprio lasciato il vuoto nel cuore quando qualcuno ti ha detto no no mi ha piaciuto l'ho detto quelli che mi sto tatuando addosso perché sono il film della mia vita e questi due qua ok poi questi due qua diciamo che mediamente di Apocalypse è difficile sentire che dicano una roba del genere è più difficile che lo dicano è più facile che lo dicano su 2001 per tanti motivi e io ogni volta muoio dentro cioè veramente tanto i capelli bianchi che ho sono tutte le volte che uno dice quella cagata il 2001 è stato bello io e Cellamare quando ci siamo conosciuti a Cannes che lui mi voleva portare a vedere il film nuovo di Gaspar Noè andiamo c'era una coda che erano sette quartieri sta coda quello ci fa no no vai via che non entri e allora facciamo ma cosa c'è in programma ah c'è la presentazione di 2001 restaurato ma andiamo dai così e poi mentre eravamo in coda quando siamo poi entrati io faccio Cellamare ma magari sai c'è Nolan in sala e a un certo punto entra Nolan in sala entra Nolan con la figlia di Kubrick e dietro di lui c'è la Villeneuve a caso bellissimo con una grandissima decisione altre tre domande allora aspetta c'è Musicology76 che ci chiede uscite i vostri guilty pleasure non sei attento non sei attento zio perché c'è una top 8 sul sito che è esattamente intitolata così usiamo proprio quelle parole nel titolo quindi se tu vai barra di ricerca cinefest.it e scrivi guilty pleasure esattamente come lo hai scritto ti esce quell'articolo là dove però non abbiamo firmato non abbiamo firmato e quindi devi indovinare e associare ogni film al redattore perché va bene dichiarare guilty pleasure ma anche il nome ci si vergognava un po' troppo no in realtà era nato proprio come giochino in realtà volevo rispondere volantemente a Luca Mignacco e a aspetta che la ritrovo Francesca Carraro che chiedono come mai non ci sono state nomination per Malcolm & Marie magari per Zendaya o per sto pensando di finirla qui allora in realtà la regola dell'uscita cinematografica quest'anno è stata cambiata innanzitutto hanno allungato i tempi quindi i film presi in considerazione non finivano il 31 dicembre ma il 28 febbraio poco fa e soprattutto hanno introdotto una nuova regola ovviamente essendo stati chiusi per mesi i cinema quest'anno agli Oscar venivano considerati anche i film usciti su piattaforma streaming ma che avevano originariamente previsto un'uscita cinematografica attestata da accordi verificabili presi con gli esercenti con i distributori cioè non è che puoi proporre un film all'academy l'academy ti dice ma questo doveva uscire al cinema o l'avevi pensato solo per la piattaforma no doveva uscire al cinema dimostramelo non posso e allora vaffanculo no devi dimostrarlo cioè doveva essere verificata la cosa quindi sia il film di Kaufman sia il film di Levinson hanno avuto un'uscita cinematografica limitata negli Stati Uniti ma evidentemente non sono stati presi in considerazione perché erano tutte e due pensati per l'uscita streaming Netflix le uscite in sala negli Stati Uniti le fa comunque le fa sempre le fa in limited soprattutto nelle zone o New York o Los Angeles che sono le zone dei premi ma anche dei critici alle anteprime stampa spesso quelle uscite limited non sono neanche aperte al pubblico cioè sono proprio fatte quindi probabilmente non lo so non ne ho la certezza e dovrei andare a controllare per dirvi una cosa giusta al 100% ma probabilmente questi due film avevano quel tipo di uscita perché effettivamente mi sembra strano che Kaufman sia stato minimamente considerato per la sceneggiatura Malcolm & Marie negli Stati Uniti non ha colpito più di tanto anzi la candidatura di lei ci poteva stare ma vedendo le cinque candidate che sono comunque cinque nomi che sono mesi che si sentono probabilmente non c'era neanche troppo spazio per lei la risposta potrebbe essere quella nel senso che in realtà entrambi i film erano pensati direttamente per un'uscita streaming e quindi non rientravano nelle regole comunque cambiate per l'eccezionalità dell'edizione di quest'anno dell'Academy ecco perché non li abbiamo visti lì stesso discorso identico a tutto ciò vale anche per le strade del male The Devil All The Time che è uscito direttamente in streaming ha avuto una limited nelle sale ma probabilmente era previsto direttamente per lo streaming e quindi non è stato considerato cioè le regole dettano proprio così guarda un po' c'è un articolo su cinefax.it che spiega come erano cambiate le regole degli Oscar 2020 ma c'è tutto su questo cinefax.it è interessante bisogna abbannarci ogni tutto allora ci chiede Simone Scano pensi che questo precedente diventerà la regola visto che il futuro si prospetta almeno in uscita contemporanea ah ok non stavo capendo la domanda no secondo me no anche perché l'uscita in contemporanea è una decisione che ha preso Warner per i propri film e tra l'altro ha fatto esplodere un merdone di dimensioni veramente gargantuesche mi piace usare gargantuesche all'interno gargantuesche tra l'altro penso sui film che non è che hanno avuto un impatto cioè Wonder Woman non è che ha avuto st'impattone no ma poi soprattutto si sono inimicati un casino di gente che lavora per loro a partire da Chris Nolan poi cioè proprio hanno fatto veramente un puttanaio di quelli memorabili si sono accorciate le finestre temporali negli Stati Uniti ci sono stati cioè Universal che ha preso degli accordi con AMC che è una delle catene che ha più schermi negli Stati Uniti forse addirittura la prima c'è prima lei o Cine Regal no forse c'è AMC forse mi sembra che avessi detto AMC quando avevi fatto l'attività ok allora sì si parla veramente di migliaia di schermi in tutto il paese e in tutto il mondo hanno fatto un accordo quindi io esco da te però poi il film me lo fai uscire un po' prima del previsto nelle mie piattaforme diciamo che è un periodo accentuato anche dalla situazione strana della pandemia strana strana tragica scusate ho usato l'aggettivo sbagliato della pandemia che ci sta colpendo tutti da un anno ma è un periodo in cui evidentemente il cinema la fruizione la distribuzione la produzione sta cambiando si sta modificando a passi molto più veloci di quello che probabilmente prevedevano anche gli analisti e gli stessi coinvolti nelle varie figure che riguardano la firiera dell'industria cinematografica cosa succederà non ne ho idea perché le cose veramente ormai cambiano abbastanza velocemente io resto convinto che la sala rimarra la sala fine lo è sempre stata ha sopportato tutto ha sopportato qualunque cosa noi adesso diciamo della rivoluzione delle piattaforme streaming eccetera eccetera ma raga ma voi non avete la più pallida idea di che rivoluzione fu la televisione al di là di tutto la televisione casalinga la televisione in casa quando prima non c'era dopo come ha detto Cassa la VHS e il videoregistratore con le VHS che venivano infilate nella pancia vabbè quello è il video ma è simbolo anche di quello è anche quello perché era l'evoluzione è stato lo stesso internet banalmente già prima dei DVD eccetera eccetera entro a gamba che ci dà modo di parlare di un tier perché chiede che belli i vostri faccioni vorrei poterli vedere a ogni puntata del podcast in stile Rick Duferro con la combo registrazione podcast più live video magari noi prevediamo una cosa del genere giusto? se vai a vedere se diventi una Iena se entri a far parte degli amici Cineflex in quanto Iena è una delle cose previste che ti spetta di diritto ovvero avere l'accesso esclusivo e seguire in diretta la registrazione della puntata così in nascosto senza che non sappia nessuno però comunque per la questione delle sale c'è anche Paramount Plus che deve arrivare e loro la Paramount ha stabilito che i suoi film di prima fascia quindi Top Gun Mission Impossible e quant'altro usciranno prima al cinema e poi avranno una finestra di 40 giorni 45 giorni e poi vanno su Paramount Plus quindi comunque la priorità si accorcia la finestra ma anche perché hanno in questo momento non hanno bene il polso della situazione perché negli Stati Uniti stanno correndo con la situazione vaccini e quant'altro tant'è che New York finalmente riapre cinema Disney sta riaprendo alcuni parchi quindi la riapertura di New York è fondamentale perché è uno dei mercati principali che genera soldi incassi e il polso di come andrà nel resto degli Stati Uniti perché fino ad ora era solo il resto degli Stati Uniti quindi poche sale in giro per l'America e non erano molto popolate quindi vuol dire che loro stanno ripartendo però ci vuol dire banalmente perché non puoi fare gli stessi soldi con le piattaforme rispetto alle sale cioè fine è talmente semplice la situazione quelle che arrivano sulla piattaforma sono solo tuoi quando magari fai appunto l'accesso VIP come fa Disney Disney Plus che ti fa pagare il film in più eccetera sono tuoi perché non devi pagare niente al distributore se non sei tu all'esercente che ci deve pagare poi i dipendenti e tutto quanto rimangono a te fine ma non è la stessa roba rispetto a uscire nelle sale magari a livello mondiale magari con un lancio incredibile con la promozione con il marketing non farei mai gli stessi soldi ma non esiste proprio nella più rosea delle ipotesi e nonostante appunto tutti dicano oddio il cinema muore il cinema muore vorrei ricordarvi che dal 2009 al 2019 ogni anno ha incassato più dell'anno precedente ogni anno ha visto più spettatori dell'anno precedente quindi forse non è tanto vero molto semplicemente dovrà essere in grado di ripensarsi il cinema cioè il mondo cambia come è cambiato quando sono arrivati le voca esse come è cambiato quando è arrivata la televisione il cinema è cambiato sono nati i multiplex i multiplex sono morti oppure sono nati i cinema di rassegni i cinema di rassegni hanno vissuto per dei periodi meno buoni ogni periodo in cui cambia la prezione dei media porta a un cambiamento della sala e inevitabilmente ci sarà un cambiamento della sala che non potrà pensare di essere solo una brutta copia dello streaming perché all'utente medio della qualità diversa tra cinema e casa gliene frega probabilmente molto poco ma dovrà essere in grado di offrire qualcosa di nuovo offrire qualcosa di diverso che faccia parte dell'esperienza cinema che evidentemente non è più quella del centro commerciale out of nowhere che andava bene fino a 15 anni fa io mi ricordo quando iniziò la pandemia tutti ogni settimana scrivevano che il cinema era morto che era finito che le sale stavano per implodere scrisse un articolo perché per parlare di questa cosa per come secondo me le sale a un certo punto si aggiorneranno a modelli che esistono già non sono da inventare e facevo l'esempio di due estremi scene award che è il classico multisala dove paghi 20 euro al mese poi all you can eat vedi tutti i film che vuoi oppure entri e paghi 12-13 euro a biglietto o addirittura IMAX tipo 20 euro un biglietto una cosa così per vedere i film o un altro cinema che c'è qui a Dublino che è Lighthouse è sempre un multisala ma hanno due filosofie diverse il prezzo del biglietto è uguale cioè paghi sempre 12 euro non ti fa il voucherone da 20 euro al mese tipo piattaforma non fa quella roba lì però cosa succede che Lighthouse ti propone endgame cioè il blockbuster c'è nella sala bella tutto quanto le sale sono curate le sale ogni sala ha un bell'audio a tutto quanto la sala bella la bella la bella bestia la bella bestia la sala è fatta come si deve costruita come si deve curata ti danno addirittura la birra perché sanno che il pubblico non spacca tutto ti puoi compare la birra il bicchiere di vino entri in sala io ci ho visto Under the Silver Lake ci ho rivisto fanno la rassegna lince mi sono visto Belluto Blu si vabbè ma smettila di vantarti questo è il motivo per cui ti odiamo quindi la devi smettere perché sei fastidioso sei veramente fastidioso smettila che offre sia lo buster che le cose più più underground o più indie morena di qualcosa basta tagliate il microfono la multisala abbiamo perso credibilità nel momento in cui hai riso alla sua battuta noi stiamo facendo quel pippone su siamo credibili non facciamo fake news invece sei il primo che crea fake news tu dici io odio il Dio Guardi ma poi ridi ma scusami sei un po' coerente ma io lo odio nel mio quotidiano ogni giorno con ogni fibra di me stesso quindi non adesso vi metto vicini vicini di banco ma non ci voglio stare vicino ma basta prof no dai guarda guarda no prof dai guarda guarda hop che carini ma che cos'è subuteo così esatto non è la schicchiera così allora ragazzi qua chiedono se ho già fatto le gag visive ma certo che le ho fatte e continuo eh sì me l'hanno appena chiesto loro dovrò rispondere c'è Miriam che dice che ci ha sostituiti alla armata delle tenebre ma pensa te in che senso hai fatto malissimo era meglio guardarsi Sam Raimi ascoltare noi stronz in realtà grazie con tutto il bene per noi esatto Luca Mignacco il 2019 è stato un anno magico per le sale nonostante l'esplosione definitiva delle piattaforme streaming Miriam guarda qua Nico Suave Teo visto che non ho Disney più sai per caso se Nomad uscirà a noleggio su qualche altra piattaforma tipo Amazon o Sky prima fila la vedo hardcore Disney ha già dimostrato di essere abbastanza decisa su quello che acquista e quindi mi sa che se non lo vedi al cinema e non lo vedi su Disney più non lo vedi mi sa che se li tiene un po' tutti e e poi si trova uscite vostre guilty pleasure no niente andiamo ancora un po' troppo indietro c'è un musicology che ci chiede qual è il primo film che vorreste vedere o rivedere in sala appena si rioperano i cinema cosa vi avevo detto qualsiasi è una delle cose che vi avevo scritto mi date Natale su Marte va bene lo vado a vedere sono mi spoglio mi spoglio nudo mi cospargo di un galla e vado a vedere Natale su Marte anche i teletubbies cioè anche i teletubbies non lo so veramente a me stanno sulle pali se le teletubbies non mi sono mai piaciuti mi faceva paura quel faccione del sole proprio un'inquietudine però anche loro dopo il primo lockdown vi di una merda ricordo nitidamente che andare al cinema uscì pure incazzato perché è tipo Dark Water è bruttino decisamente bruttino però adesso esciando The Round che sarà probabilmente il primo film grosso che esce in sala subito dopo il lockdown che è distribuito in Italia già si sa e quello sarà una bella pomba cioè è un grandissimo film ovvero un altro giro di Thomas Winterberg ricordiamo perché Cassa ha la mania di parlare sempre solo dei titoli originali che da un certo punto di vista non ha neanche porto neanche Dark il titolo originale è Dark o Druk tra l'altro hanno dei round e il danese non lo so secondo me è Druk anche secondo me è Druk 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 Druk? sono un po' bergamaschi quindi Druk 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 Bergamaschi perché sono un po' bergamaschi ci vorrebbe Mattia che ci pronuncia Druk secondo me lui lo pronuncia bene adesso glielo andremo a chiedere in ogni caso sì anch'io sono d'accordissimo io andrei volentieri a guardare qualunque cosa anche perché purtroppo mi ricordo che dopo la riapertura nel 2020 io sono stato al cinema tre volte e non ne sono uscito soddisfatto neanche una quindi c'ho ancora sta carogna dentro che devo mandare giù che mi è rimasta veramente nha è una vita che non vedo un film al cinema da cui esco che dico oh che figata è veramente una vita è veramente più un anno a questo punto ormai quindi vabbè forse c'è proprio nostalgia di questo cioè dell'evento sociale nel senso proprio dell'attesa della data di uscita di un evento sociale che fisicamente ci si sposta ma questo forse già da un po' di anni cioè da quando si è anche smesso l'abitudine di mettere le serie tv a puntate e quindi comunque era a distanza ma era sempre un'attesa sociale spesso sono pubblicate in blocco si è anche un po' disallineati ognuno la vede non sincronizzati e allora ci si deve riaggiornare ma non è più l'evento dove ci si attende tutti e che diventa anche una macchina di discussione probabilmente almeno io ho tantissima nostalgia di questo e poi poterci andare fisicamente è ancora meglio quindi quindi sì la dimostrazione è che il cinema funziona e funzionerà sempre al di là dell'aspetto tecnico questa cosa che appena ha detto Sebastiano negli UK in Inghilterra quando c'era Game of Thrones nei pub la serata di Game of Thrones facevano la puntata e la gente occupava interi pub per vedere la puntata cioè c'era la gente che faceva quindi la gente si ritrova per vedere una serie tv cioè figurati il cinema è una roba che proprio ne ha bisogno l'essere umano però questo evento sociale per i film che devono ancora uscire o per serie puntate di serie che devono uscire però in realtà a me andrebbe bene anche un film già visto cioè a me va bene qualunque cosa io vorrei ritornare al cinema proprio ma guarda che anche la rassegna ha quella dimensione dell'evento sociale cioè il fatto di avere il film su un numero limitato di proiezioni in certe date fa sì che in quelle date ci sia la sala piena la gente che lo vuole vedere che vuole parlarne con il piscino è proprio una dimensione di cinema in cui probabilmente si ritrova di più rispetto alla sala che faceva 12 sale diverse con lo stesso film in tre a orari scaglionati di mezz'ora che oggi non ha più senso perché due mesi dopo me lo posso comprare quel film tendenzialmente secondo me in quel senso lì quella dimensione di evento sarà probabilmente una delle vie d'uscita del cinema da questo impasto momentaneo Simone Scano Niccolò Ninci dice si vede proprio l'assenza di Paolo sono quasi quattro ore che stiamo qui finché voi state che avete piacere noi chiacchieriamo cioè tipo Simone ci chiede come fa una distribuzione ad organizzare un'uscita considerando l'Italia divisa in comune e come fanno Simone noi ha ragione eh diglielo Teo tu che ti rapporti anche con con le realtà anzi noi tutti che ci rapportiamo con le realtà di distribuzione italiane come fanno come fanno non fanno infatti è tutto completamente sospeso nell'aere aspettando di sapere qualcosa e di 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 avere delle risposte anche la famosa richiesta delle aperture del cinema nelle regioni gialle dal 27 marzo si è capito purtroppo ormai a questo punto che è una chimera perché perché non ha senso perché nel senso se ci sono tre regioni gialle su 21 nessun distributore si mette a far uscire un film in tre regioni su 21 in una in una nazione perché non ne vale la pena perché non ha senso perché lo bruci Freddo 98 cosa? facevo ringraziamento a Freddo 98 che ci comunica che appena diventato è diventato è diventato è diventato Drugo beh che figata grazie grazie un Drugo in più e Drugo in più potrà giocare a visita sorpresa e non vi dico di cosa si tratta perché c'è scritto tutto quanto e comunque ci sentiremo molto presto Freddo98 e non è Mace che viene a sorpresa in casa tua tranquillo non è quello ho spoilerato è già quello che no Matteo Capriati ci chiede se i pinguini hanno le ginocchia in realtà per questa cosa dovremmo chiederlo a Pietro Baroni che come sapete mio amico, collaboratore nostro spesso ospite del podcast fotografo, ormai di fama nazionale si può dire, vista la gente e le personalità che fotografa e le testate con cui lavora che nella vita però ha fatto anche la guida in Marocco, in Islanda cioè ha fatto una vita veramente meravigliosa con l'uomo ed è lui che di solito ci delizia con i racconti delle dimensioni stratosferiche dei clitoridi, delle iene e della particolarità del doppio pene degli squali ma sai che avevamo tirato quindi secondo me la ginocchia dei pinguini potrebbe saperlo avevamo tirato fuori qualcosa sui pinguini perché eravamo andati a controllare e hanno una particolarità sul loro organo sessuale aspetta è vero mi ricordo dai che cos'era la roba dei pinguini che io sono stato male che non hanno il pene forse che non hanno il pene forse non hanno il pene e come fanno? sono ferma proditi no, credo che avranno qualcosa da secernere sopra le uova ma io rimarrei a parlare di cinema che stiamo facendo una figlia di merda secondo me i pinguini non hanno il cazzo non vorrei dirla grossa ma secondo me non ce l'hanno Google sembra da chi ragione io ho cercato adesso ma Google sembra da chi ragione io non voglio sapere che cosa è venuto fuori con la ricerca né il pinguini che hai usato perché proprio mi interessa beata ignoranza in questo caso mistero sui primi risultati di questa ricerca esatto allora poi Pollo22Pollo che è un nome bizzarro Polli invece ci chiede ma vogliamo parlare del fatto che metà dei film candidati agli Oscar usciranno parecchi giorni dopo gli Oscar non è vero? non è assolutamente vero metà è un'esagerazione impressionante non esageriamo allora non cazziare così dai si è buono hai ragione non cazziare dai se prendiamo in esame gli otto candidati come miglior film tra l'altro quest'anno raga otto così ve la butto lì dopo tanti anni che erano dieci poi nove c'è sette invece quest'anno la cosa mi ha fatto molto piacere se prendiamo in esame gli otto film candidati a miglior film ce ne sono fuori tre da un bel tot di mesi che sono perché non mi ricordo mai le cose allora Mank aiutatemi anche voi Mank e Mank si e Mank ce l'abbiamo Promising Young Woman no cosa stai dicendo che è fuori da mesi sulle piattaforme no è uscito di miglior film no aspetta non è uscito allora Mank Sound of Metal e Il Processo di Chicago 7 sono fuori Sound of Metal su Prime Mank e Il Processo di Chicago 7 su Netflix da un sacco di te The Father Judas and the Black Messiah Judas and the Black Messiah dovrebbe uscire a breve così come Nomadland di cui sappiamo già la data ed effettivamente lì hai ragione tu su Disney Plus esce dopo e perché esce il 30 aprile ma se aprissero sti cazzo di cinema uscirebbe prima io li sto leggendo e lo troppo Mettenzio dovrebbe uscire tra poco poi tra i vari film nominati nelle altre categorie sono già usciti Borat seguito di film cinema Soul Onward Marain is Black Bottom LG Americana La tigre bianca Emma Wolf Walkers Il Popolo dei Lupi Notizie dal mondo The Midnight Sky The One and Only Ivan La vita davanti a sé Mulan Pieces of a Woman Quella notte a Miami e ovviamente Pinocchio e Tenet quindi la metà dei film candidati no è un po' meno della metà poi se vuoi tirarmi dentro anche i documentari i cortometraggi documentari i cortometraggi di animazione quelli un po' tutti gli anni non escono ma è una cosa che comunque succede tutti gli anni è successo anche l'anno scorso e l'anno prima che quando annunciano le nomination qua in Italia molti film nominati ancora non li abbiamo visti e o succede che li vediamo nella finestra tra le nomination e gli Oscar o succede tutti i cazzo di anni che alcuni film li vediamo dopo che hanno consegnato gli Oscar spesso proprio perché alcuni distributori italiani magari non si fiendano del titolo però poi usano la molla la spinta la leva qualche altro sinonimo delle nomination o degli Oscar ancora di più per portare il film al cinema scrivendo candidato a 5 prima vincitore ma quest'anno quest'anno dei documentari su 5 ce ne sono già 4 disponibili sulle varie pettaforme e questa è una figata pure quindi anche meglio degli altri e c'è il corto di animazione If anything happens I love you però ecco ho fatto lo stesso ore di Fabrizio l'ho detto in titolo originale in italiano si chiamasse qualcosa se succede qualcosa se succede qualcosa non mi ricordo come l'hanno chiamato ma se la diamo se è I love you ma non ricordo se l'hanno chiamato così comunque è su Netflix ed è un corto veramente delizioso è proprio ma indovinate un po' tutti questi film candidati agli Oscar che voi se voi volete vedere come fate a vederli? chi è che può avere la risposta a dove trovare i film in streaming che sono stati candidati agli Oscar? secondo me cinefx.it con un bell'articolo di approfondimento che uscirà domani a breve potreste avere le risposte che volete ma nel mentre Pietro Ferretti chiede ma secondo voi quando le sale riapriranno e finché la situazione covid non si stabilizza in positivo le case di distribuzione invece che tra virgolette bruciarsi i nuovi film non potrebbero riproporre vecchi cult questa secondo me è un'ottima idea il problema è che la gente non va a vedere i film nuovi figurati vecchi cult io più che altro proporrai alle case di distribuzione di provare ad acquisire dei vecchi film che non sono mai stati distribuiti in Italia perché c'è una caterva ragazzi di roba che noi non abbiamo visto che non abbiamo fruito perché è stato deciso che non era degna di arrivare nelle nostre sale ma ce l'ha veramente tantissimo c'è anche una questione di diritti anche diritti di licenze non è così facile per un distributore portare al cinema un film di dieci cinque venti quaranta anni fa perché magari non può proprio perché chi ha in mani i diritti di quel film ha bloccato i diritti di distribuzione per l'Italia dal 2002 fine quindi quel film affinché non cambiano le cose non cambiano gli accordi quel film ma noi non potremmo vederlo proprio perché è stato deciso da qualcuno da quello che ha idee che cazzi suo è suo e decide lui un po' come i bambini quando vanno a giocare al parco quello che arriva con la palla e la palla è sua e se se ne va lui perché la mamma lo chiama che deve mangiare il panino con la nutella gli altri non giocano più e la stessa cosa succede con i film di qualche anno fa che cazzo di metafore sto facendo non ha senso quello che ho detto spero si sia capito qua non si è capito sono due mercati diversi scusa si a volte capita che appunto a questione di diritti ti possono proporre quel film ma tu allora da esercente devi garantirli una sala con un certo tenore di pubblico un ritorno con un anticipo che quindi devi dare o altre volte ti danno un film in un pacchetto di altri tre o quattro film assieme quindi un esercente magari piccolo dice non posso permetterlo anche se questo cult lo vorrei mi servirebbe ma tutti quegli altri no però l'accordo diventa quello non è non è a libera scelta ecco no esatto e soprattutto non è a voglia quella la cosa secondo me ci sono tanti distributori anche appassionati loro per primi che vorrebbero portare in sala delle figate ma se non si può non si può purtroppo secondo me sono proprio sono proprio due cioè sono due pubblici diversi in questo momento cioè ancora non c'è lo stesso pubblico che è quello che aspetta la nuova uscita è quello che aspetta il film cult quindi bisogna ancora un pochino fare della strada in quell'ottica perché quest'estate per esempio Movies Inspired ha provato a riportare in sala sia Dead Man sia Coffee and Cigarette che hanno esplorato e riportato in sala un po' in tutta Italia e il pubblico era diverso ok era chiaramente un altro tipo di pubblico che è quello che di solito vale la segna e non è quello che va a vedere il nuovo film uscito un po' alla volta magari riesce ad accorparli tutti e due ma ad oggi ancora non è così ma io credo che ci serva anche ai distributori un po' di coraggio ogni tanto perché non bisogna aspettare secondo me la vittoria agli Oscar di ogni cosa che poteva vincere di Bong Joho per capire che il cinema sudcoreano giapponese cinese anche laotiano o comunque del sud-est asiatico è un tipo di cinema che merita e che può essere distribuito in Italia io banalmente nell'ultima puntata del podcast lo sapete volevo parlare di Sion Sono parlando con Fabrizio ci siamo confrontati e abbiamo visto che di Sion Sono che è un regista della Madonna che ha fatto tipo 30 film in Italia sono stati distribuiti tipo in sala due o tre film tra l'altro con una pubblicizzazione veramente da cristiani nelle catacombe e allora io dico figli miei distributori credeteci un po' di più cioè non aspettate Bong Joho che vince con Parasite per fare un esempio io solo in quest'ottica è importante rispetto a quello che si diceva prima da dove deve ripartire il cinema è anche quest'idea di fidelizzazione del pubblico cioè creare un rapporto di fiducia tra il distributore e il pubblico che è appassionato cioè dire io vi porto anche qualcosa di diverso fidatevi di me quando vi porto una roba che non conoscete perché vi ho sempre portato una roba bella probabilmente bello anche questo e io per quello che posso vedere ci sono distributori che cercano di fare un discorso di questo tipo e funziona nelle loro sale che ovviamente non possono essere capillari come alcuni multisale in giro per l'Italia però riescono a fare questo tipo di lavoro e vedi delle sale piene per dei film che poi magari non sono neanche bellissimi ma perché i quattro prime erano molto belli e quindi c'è fiducia tu mi porti questa roba io ci vengo e appunto Movies Inspired è un esempio di questo tipo secondo me incredibile ed è una casa di distribuzione che consiglia a tutti di seguire il sito possibile ma ce n'è tante altre perché c'è cinema e ce n'è molte che fanno questo tipo di lavoro Simone Scano e poi direi che raga possiamo anche salutarvi ragazzi perché effettivamente abbiamo toccato 18, 24 le 240 minuti di attenzione potremmo raggiungere la durata di Zack Snyder quattro ore come ci raccontava prima i riguardi Simone Scano che ci dice il problema è la disaffezione del pubblico generalista certo il cinefilo va al cinema a priori e quest'ultimo con la pandemia è divenuto molto più pigro e ha investito nell'home cinema ma è quello che si diceva cioè che si diceva prima cioè se tu se tu continui il pubblico del multisala quello che ti paga l'abbonamento da 20 euro è il pubblico generalista nel mezzo ci può essere l'appassionato che va a iniziare ad andare al cinema si affeziona e vai ovunque però la maggior parte paga primo perché si fa bindolare da tipo 9,99 non è 10 euro è 9,99 hai pagato 20 euro ma se ti vedi un film al mese l'hai preso nello sbaragnaus dritto dritto quindi se tu paghi quei 20 euro al mese per quella volta che ti vai a vedere il film X che è il blockbuster dell'anno e non ti vai a vedere nient'altro tu comunque sei uno che va consuma e se ne va non hai un rapporto con il cinema le nuove multisale devono costruire questo rapporto cioè devono creare un pubblico che viene sia per vedersi il nuovo 007 ma anche per quando esce Jodorowsky restaurato in 4K che va a vedere anche per pura curiosità perché c'è aspetta è un amico tuo è un amico tuo che si chiama Giovanni 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 quando esce la sua se lo vanno a vedere però comunque è vero questa cosa è vera va educato il pubblico però sta anche a chi fa questo mestiere qua cioè se non è che possiamo farlo noi no in quest'ottica è molto interessante un documentario di quest'anno manuale di storie del cinema che vi consiglio prima o poi uscirà da qualche parte non so ancora dove penso è stato solo il festival che proprio intervista esercenti storici del cinema docenti di cinema registi e si parla di storie del cinema e di storie della distribuzione arrivando poi anche a quelle che sono le criticità del giorno d'oggi e di come se ne può provare ad uscire ci sono alcuni esercenti che provano a dare le loro risposte ed è molto interessante ricordano che sbarbagnaus è un termine sbarbagnaus termine usato anche da Torfone al suo dialogo con Hitchcock e comunque si Miriam mi hai ucciso quando hai scritto quella cosa su Parasite mi hai ucciso l'ho letta anch'io ho fatto finta di non averla letta come se fosse sporco lo schermo dove c'era il commento ho fatto proprio ma non è vero questo è A questo è A questo è A questo è A allora ragazzi abbiamo ufficialmente sorpassato la durata ufficiale di Justice League by Zack Snyder quindi siamo più fighi noi Zack hai visto senza rallenti senza Bob Dylan c'è anche più qualità qua dentro sicuramente c'è più qualità sicuramente gli Snyder fan allora che dire io ribadisco ancora che se volete diventare gli amici entrare a far parte proprio degli amici di Cinefax.it c'è la pagina Patreon che da domani faremo in modo di stressarvi il cazzo ve lo dico proprio sinceramente noi da domani vi romperemo i coglioni tutti i giorni per farvi sapere che c'è questa possibilità di diventare nostri amiconi nostri supporters fare vostre le nostre grandi lotte le nostre grandi battaglie ai fini dell'avere un'informazione più corretta più rispettosa del pubblico veicolare il cinema in un certo modo e non soltanto il gossip che non ha assolutamente senso per quello ci sono le riviste di gossip e non c'entrano gli stinti di cinema e per fare in modo che ovviamente con il vostro supporto abbiate la possibilità di ricevere chiaramente anche voi qualcosa entrare in un circolino chiuso avere accesso a delle cose esclusive partecipare a delle robe che sono solo vostre ottenere delle speciali situazioni o articoli dello store personalizzati ci sono un sacco di cosette andate a farvi un giro patreon.com slash cinefax e trovate tutto lì io direi che posso anche salutare Jacopo Greppi che ci fa un complimento della madonna dice la bellezza dei vostri contenuti è proprio il mix tra professionalità e intrattenimento non a caso le puntate del podcast le ascolto 24 24 24 7 24 7 24 7 in loop anche solo per la company cosa che farò anche con sto live e niente è proprio un suo che deve fare una parola in inglese e salutiamo anche la nostra Eris Celentano che ha visto bene di evitare di essere qua in live perché poteva essere anche in live qui con noi la cara Eris che ha anche una gran bella voce è molto brava a scrivere ed è anche una gran bella ragazza eppure ve la siete persa ma ce la godiamo noi ma potrete probabilmente godervela anche voi se entrerete a far parte dei tier che hanno diritto a entrare nella chat telegram dove ci saremo tutti quanti detto ciò come dice Paolo in fondo ai podcast mi sento in grado di poter rubare quella famosa frase che ormai molta gente conosce a memoria perché ragazzi è arrivato il momento tanto odiato è il momento dei saluti ma prima di salutarvi vi posso ricordare che Cinefax potete seguirlo su Instagram su Facebook su Twitter su Telegram e adesso anche su Patreon su Spotify su Twitter l'ho già detta sì su un po' un po' ovunque se voi lavorate Cinefax vi assicuro che riescono un sacco di cose io mi giro vedo una roba e ci faccio la pipì sopra con il logo di Cinefax ma abbiamo su Clubhouse abbiamo anche Clubhouse raga Teo la gente continua a chiedere le sigle le sigle per il podcast devi fare qualcosa abbiamo le sigle per il saluto allora ve lo dico in chiusura io le sigle le avevo anche preparate suonate in saletta quando ancora mi trovavo con i miei dai mama con la mia band a suonare suonate con loro registrate con loro e le avevo portate a Paolo erano chiaramente delle stupidaggini Paolo non le vuole non c'è niente da fare e siccome il podcast è un presentatore lui ma non ho capito guardi chi è il progetto è tuo o di Paolo il podcast lo gestisce lui se tu ci fai caso alla fine che cosa dice la splendida calda meravigliosa e invidiabile voce di Maurizio Merluzzo questo podcast è prodotto da The Best Blend questo podcast è stato presentato da The Best Blend quindi è una coproduzione la nostra ma ha più voce in capitolo Paolo ma lascia stare perché adesso ho imparato ma Paolo non sa leggere Paolo guarda in giro adesso devi ricaricare addosso la roba a me fagli decidere tanto prima o poi le stiamo ma la cosa di Natale gliela diciamo? no la cosa di Natale sarà una delle novità che possono sapere soltanto i Patreon c'è nessuna cosa di Natale solo gli amici una cosa di Natale ma scusami abbiamo già il Grinch e ci togli tutto l'entusiasmo farà parte delle cose che chiaramente in esclusiva che succederanno che potranno vedere solo i Patreon che cazzo qualcosa in esclusivo potranno avere questi cazzo di Patreon poverini vabbè ma Teo stavi chiudendo questa trasmissione esatto allora Fabrizio Caboni mi chiede anche su TikTok su TikTok ci ho fatto qualcosa ma non mi appassiona tantissimo sto pensando di farci qualcos'altro probabilmente ci farò qualcos'altro se vuoi c'è la chiacchi su TikTok che è completamente impazzita ne fa tipo due o tre al giorno raga l'altro giorno ne ha fatto uno c'ha tipo 50.000 views mi sto preoccupando cioè quella mi diventa veramente un influencer di TikTok non so cosa fare non so come fermarla mi ruba il ring mi ruba le foto le luci glieli monto gli devo cercare gli Audi ormai è unstoppable fermala no finché si diverte non pensa a sta merda che abbiamo da dover sopportare ancora passa il tempo le piace si diverte le vengono anche bene perché poi molti sono effettivamente divertenti quindi perché no ma fagli fare quello che vuole ho capito cazzo siamo in Iran nel 1821 ma questo è il momento dei saluti ma questo è il momento dei saluti quindi direi di salutare il tenutario della rubrica cinema e birra direttamente da un attorino colorata da Luciano Tovoli di Suspiria salutiamo il baffo più sexy di Cinefax.it con le chiavi che tintinnano in ogni messaggio vocale che ci manda nelle chat saluta Fabri dicci qualcosa ciao a tutti Fabrizio Cassandro ciao 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 Fabri esco e adesso è arrivato il momento io li lascio per ultimi è arrivato il momento di salutare il redattore più cervellotico più filosofico e più aulico e alto della redazione un magnifico uomo dal quale imparo ogni volta qualcosa di più ogni articolo che scrive la fantastica landa desolata di Pavia ma perché è desolata no salutiamo anche il nostro carissimo Sebastiano Mignotti ciao ciao a tutti ciao ciao Seba e poi è arrivato il momento di salutare la best waifu come è stata definita dovevo dire che dovevo dirlo prima o poi pensavi di essertela salvata come è stata definita durante la puntata del podcast live che avevamo fatto la primavera scorsa è stata la community a definirti così non è colpa mia ma basta tenutaria della rubrica hey doc dedicata a tutto il fantastico mondo del documentario salutiamo la meravigliosa e bravissima Morena Falcone ciao alla prossima e siamo rimasti noi tre dov'è che si ecco così io non vedevo l'ora che siete tra l'altro gli ultimi due con i quali ho fatto la puntata del podcast non so se avete notato ma la 101 è un numero palindromo e dura tre ore e trenta e se tu guardi è un numero palindromo chiudiamo questa cosa dai su ma direi allora di salutare il nostro redattore più international più preparational più irlandese siculo meneghino e cremasco di tutti quanti tenutario della rubrica sul divano di Ale che ha dato anche vita a un podcast omonimo che trovate su tutte le piattaforme podcast chiaramente dopo aver ascoltato il podcast di Cinefac non è che ascoltate tutte e due che sono fighi tutti e due salutiamo il mitico odiatissimo stimatissimo ma anche odiatissimo Alessandro di Guarda ciao ragazzi cazzo l'ho tagliato mentre parlava poverino e a questo punto tu guarda se devo finire quattro ore di live e con chi la devi finire con l'uomo mascherato no la finisco come giusto che sia il cavaliere mascherato il cavaliere mascherato ovvero il numero due di Cinefac.it il caporedattore colui che fa il culo ai redattori quando io non ho voglia di farglielo e quindi facciamo good cop bad cop come si vede nei film americani facciamo poliziotto buono e poliziotto cattivo io faccio finto di essere il buono in realtà poi parliamo tra di noi io e lui e lui fa quello stronzo così almeno poi odia lui ma perché mi riesce bene io faccio quello buono io così ne esco bene e quindi grazie Mace ti stai facendo il culo esagerato te lo fai dal giorno non dal giorno 1 dal giorno meno 20 cioè da ancora prima sono fiero e felice ed orgoglioso di averti a bordo io chiudo chiudo questa live ricordando ancora una volta la prima volta che ti ho scritto quando ero ancora un utente e manifestando la mia passione per quello che facevi e il mio essere concorde rispetto alla tua visione di cinema e di come si parla di cinema io ti dissi Teo guarda che secondo me tu potresti avere il progetto che stai portando avanti dovrebbe avere una missione educativa dovrebbe dire qualcosa di più cioè sono già importanti i cinefacts le curiosità i video l'intrattenimento che fai ma può andare oltre quindi io sono contento di aver visto forse immodestamente posso dirlo un po' lungo e niente ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa live tutti quelli che sono già diventati Patreon quelli che lo diventeranno e anche quelli che non lo potranno fare ma che commenteranno sul sito condivideranno i nostri articoli e condivideranno questa battaglia che portiamo avanti da ormai da anni quindi grazie a tutti voi e grazie a te Teo di che non esagerare eh no vabbè scusa come devo chiuderla ma vai chiudo così va bene ok d'accordo ti lascio così e io saluto anche Adriano Meis allora sono rimasto da solo con voi approfitto per elencare tutti i nomi che in questi due anni e mezzo hanno fatto parte stanno facendo ancora parte del sito quindi la redazione Alessandro Di Guardi Claudia Roggero Daniele Sedde Emanuele Antolini Enrico Tribuzio Fabrizio Cassandro Francesco Modeo Jacopo Gramegna Jacopo Troise Lorenza Guerra Marco Batelli Marco Batelli perdonami Marco Marco Volpe Mattia Gritti Marina Falcone Nadia Pannone Sebastiano Miotti Simone Braca e i collaboratori e collaboratrici ovvero Alessandra Gonella Angela Pilato Angelo Pisani Angelo Tartarella Domenico Palesseri Scelentano Fabrizio Fois Federica D'Amico Francesca Maria Miraglia Giacomo Curti Giorgio Carella Ilaria Ingrao Lens Cuba Nadia Baiardi Pierluca Parise Pietro Baroni Simone Brunelli Simone Colistra e Iorgo Papa Nicolao trovate gli articoli di tutte queste persone sul sito tutte persone che fanno le robie con una passione della madonna con una cura devastante con un'attenzione e un rispetto nei confronti dell'interlocutore non è giusto del lettore che poi andrà a usufruire del suo contenuto che sono sono veramente orgoglioso di avere sul mio cazzo di sito perché io volevo un sito così non c'era ho deciso di farlo io e vaffanculo e pian pianino ce la stiamo facendo se avrete voglia di lottare assieme a noi ci farete crescere sempre di più e soprattutto lo faremo insieme che è la cosa più figa di tutte ed è la cosa a cui ho sempre tenuto di più perché secondo voi ancora dopo tutto questo tempo e dopo tutte le decine di migliaia che siete diventati ci sono ancora solo e soltanto io dietro ai social e non ho demandato la cosa a nessuno non delego a nessuno non lo faccio fare a nessun altro perché voglio che continui il contatto uno a uno che c'è su quella community lì voglio che questa cosa non venga mai persa e demandando e delegando questa cosa si rischierebbe di perdere soprattutto se lo dessi in mano a qualcuno che non vi conosce io un po' mi sento di conoscervi e voglio continuare a farlo e prima o poi raga porca di quella puttana ci conosceremo sul serio appena riapre tutto facciamo su un casino che voi non avete idea quindi grazie per seguire il progetto da sempre ovunque lo seguiate se lo seguiate su youtube facebook instagram twitter telegram grazie se diventerete patreon vi promettiamo che abbiamo in serbo veramente tantissime cose e alla prossima tanto prima o poi ci rivediamo vi voglio bene veramente tanto e viva il cinema sempre al numero uno come cosa adesso basta perché minchia mi sto commuovendo ma si può come un coglione commuoversi da solo per una roba del genere sto parlando da solo e mi commuovo c'è qualcosa che non va deve essere la menopausa o l'andro e l'andro pausa devo controllare raga grazie veramente vi voglio bene alla prossima ciao 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 ciao